Quando la guerra tra troiani e greci, che era dorata a dieci lunghi anni, terminò con la distruzione di Troia, i vincitori salirono sulle loro navi cariche di bottino e salparono per tornare ognuno alla propria terra. C'era tra loro Ulisse, l'eroe dal multiforme ingegno. Così l'avevano definito i compagni perché, oltre a essere coraggioso e prodo in battaglia, aveva anche una mente duttile, aperta e avida di avventure, sempre pronta ad architettare piani per risolvere brillantemente le più difficili situazioni. Era stata sua, ad esempio, l'ingegnosa trovata del cavallo di legno che aveva piegato Troia dopo tanti anni di inutili assedie e di lotte. Ora Ulisse si stava dirigendo, con i suoi 720 uomini distribuiti su 12 navi, verso Itaca, la lontana isola adagiata lungo le coste della Grecia, di cui egli era re. Là aveva lasciato, nel partire per Troia, la giovane moglie Penelope e il figlioletto Telemaco. Ora ardeva dal desiderio di riabbracciarli e, mentre scrutava il mare, andava ricreandorsene nella mente i lineamenti con tenera nostalgia. Certo, la bella Penelope doveva essere cambiata in questi dieci anni e Telemaco, che era ancora un bambinello quando l'aveva lasciato, forse non l'avrebbe neppure più riconosciuto. Entro breve tempo, una settimana, forse due, tutti sarebbero stati nelle loro case. Così pensavano fiduciosi quegli eroi, ma il fato aveva predisposto diversamente. Dopo pochi giorni di navigazione, un violentissimo vento del nord, simile a un uragano, si abbatté sulle navi. Per nove giorni gli uomini vagarono senza rotta, sospinti dal vento. Contro quelle onde gigantesche, contro quei risucchi che sembrava volessero trascinarli in fondo al mare, essi non potevano fare nulla, solo aspettare e sperare. Quando infine la furia degli elementi si placò, si accorsero d'essere in un mare a loro assolutamente sconosciuto. Là, lontano all'orizzonte, si distingueva il profilo di una terra. Gli uomini erano esausti e le navi, con le vela brandelli e gli alberi spezzati, avevano urgente bisogno di riparazioni. Ulisse diede perciò l'ordine di approdare e mandò tre uomini in riconizione su quella terra sconosciuta. Via via che avanzavano nell'interno, i tre greci scoprivano un paesaggio nuovo e misterioso. I prati erano ricoperti a perdita d'occhio di arbusti dai bellissimi fiori profumati e delle bacche vermiglie simili ad atteri. Per i viottoli dei campi e per le viuzze dei villaggi vagavano persone dall'aspetto strano. La loro andatura era indolente, il loro sguardo smarrito. Sembrava che non facessero nulla e non pensassero a nulla. Gli uomini e la natura parevano immersi in una strana sonnolenza. Un giovane stava avanzando per un sentiero in direzione dei compagni di Ulisse, chinandosi ogni tanto a cogliere una bacca o un fiore. I tre uomini gli si rivolsero. A che popolo appartieni, amico? Non ricordo, rispose il giovane, guardandoli perplesso. Come si chiama il villaggio a cui sei diretto? Non lo so, che importa? Quello che importa nella vita è mangiare il frutto del loto. Assaggiatelo anche voi. È dolce e profumato e quando l'avrete gustato vi sentirete felici e non desidererete nessuna cosa altra al mondo. Così dicendo, il giovane porse loro alcune delle bacche vermiglie che aveva colto. Vinti dal profumo meraviglioso che esalava quel frutto, i tre lo assaggiarono e subito, come per incanto, scomparvero dalle loro menti il ricordo della patria lontana, delle mogli, dei figli, degli amici. Scomparve persino il desiderio di ritornare ed essi guardarono quei prati fioriti con occhi nuovi, come se quello fosse sempre stato il loro mondo e come se al di là di quegli arbusti di loto non esistesse nulla. A passi lenti e con un sorriso svagato si incamminarono per il sentiero in compagnia del giovane, cogliendo ogni tanto i frutti magici. Nel frattempo sulle navi Ulisse era in grande ansia e tre uomini mandati in avanscoperta avrebbero dovuto essere di ritorno da un pezzo. Forse erano caduti nelle mani degli indigeni e avevano bisogno d'aiuto. In fretta radunò una piccola squadra e alla testa di questa andò gli stesso alla ricerca dei tre scomparsi. Anche ai suoi occhi si presentò lo spettacolo che aveva tanto stupito i suoi compagni, i fiori sconosciuti, gli uomini dallo sguardo smarrito. E tutto ciò contribuì ad accrescere la sua ansia. Infine, imboccando un viottolo, vide sullo sfondo i tre che cercava in compagnia di un giovane straniero. Corse il loro incontro col suo manipolo. Che cosa fate qui? Perché non siete tornati alle navi? Di che navi stai parlando? Gli rispose uno di loro, fissandolo con uno sguardo stupito. Poi, sotto gli occhi non riditi di Ulisse, si mise in bocca una bacca di loto e proseguì per la sua strada. Ulisse lo rincorse e afferratolo per un braccio gridò. Sei impazzito? E anche voi? Che cosa vi è successo? Seguitemi, torniamo alle navi. Ma infine, chi sei? Disse un altro dei suoi uomini scostandosi. Lasciaci in pace. Non vedi che stiamo mangiando i frutti del loto? Allora un'idea improvvisa balenò nel cervello di Ulisse. Erano quei fiori sconosciuti che avevano causato nei suoi uomini quella strana malattia. Avevano dato loro l'oblio. Se era così, non sarebbe servito a nulla tentare di ricondurli alle navi con la persuasione. Bisognava condurveli con la forza. Facendo seguire l'azione al pensiero, egli ordinò agli uomini del manipolo di legare i tre e di trascinarli alle navi. Qui giunti volle che fossero incatenati al banco dei rematori perché, sotto l'incanto dei frutti del loto, non tentassero di fuggire per tornare alla pericolosa terra dell'oblio. Così i greci poterono ripartire con la ciurma al completo. E a quegli strani uomini senza memoria che avevano incontrato diedero il nome di lotofagi, che significa mangiatori di loto. Per alcuni giorni Ulisse e i suoi compagni navigarono su un mare liscio come l'olio, tentando di ritrovare la rotta che li riconducesse a Itaca. Ma una sera, improvvisamente, scese sul mare una nebbia così fitta che le navi sembravano bianchi fantasmi veleggianti nelle tenebre. Poiché in tali condizioni la navigazione non era possibile, Ulisse, non appena vide apparire i contorni di un'isola sfumati nella nebbia, ordinò ai suoi uomini di gettare l'ancora e di sbarcare. L'isola sembrava disabitata. Il silenzio profondo che vi regnava, i loro passi attuiti dalla nebbia, il profilo oscuro dei boschi, suscitavano nel cuore degli uomini appena sbarcati una strana inquietudine. Solo quando i loro occhi si furono abituati allo sfondo nero degli alberi, essi si accorsero che, sparse qua e là, nei prati, vi erano un'infinità di capere selvatiche, addormentate o brucanti d'erba senza far rumore. I greci si sdraiarono sotto le piante e subito si addormentarono di un sonno profondo. Quando si svegliarono, il mattino dopo, la nebbia era scomparsa e l'isola appariva inondata di sole. Quella stessa terra che la sera prima appariva avvolta in un silenzio arcano era ora tutta piena di gioiosa animazione. Gli uccelli cantavano sugli alberi, le capre pascolavano lasciando richiami ai loro nati e i capretti sgroppavano allegramente. L'aria limpidissima allargava l'orizzonte a perdita d'occhio e sullo sfondo, agli occhi meravigliati dei greci, apparve una terra di cui non avevano sospettato l'esistenza. Aveva un aspetto selvaggio. Alti monti si stagliavano neri contro il cielo e delle strane forme gigantesche si vedevano vagamente muoversi. Tutto quel giorno lo trascorsero cacciando e mangiando per ristorarsi delle fatiche del viaggio, ma nell'animo di Ulisse, via via che le ore passavano, andava crescendo il desiderio di scoprire il segreto della terra che gli stava davanti. Da che popolo era abitata? Chi erano quegli esseri misteriosi che distingueva in lontananza? Non era possibile ripartire serbando nel cuore il desiderio inappagato di sapere quali creature vivevano nel mondo intorno a lui. La sera radunò i suoi uomini e tenne loro un breve discorso. Domani mattina, egli disse, mi recherò con una nave nella terra che ci sta di fronte. Chi di voi abbastanza coraggio per affrontare un lido sconosciuto mi segua. Potrà forse tornare con ricchi doni e un abbondante bottino. Molti uomini si fecero avanti e Ulisse ne scelse dodici. Il mattino dopo la nave partì alla scoperta dell'ignoto, salutata con alte grida dagli uomini che restavano nell'isola delle Capre. Approdati verso la riva, gli uomini si inerpicarono in fila indiana con Ulisse in testa per un ripido sentiero di montagna. Il luogo pareva deserto. Delle forme mostruose intraviste da lontano non si vedeva neppure l'ombra, tanto che Ulisse pensò che la sua fantasia gli avesse giocato un brutto scherzo. Enormi caverne si aprivano lungo i fianchi delle montagne e le voci degli uomini che vi passavano accanto vi svegliavano ecchi paurosi. Ogni tanto sudivano mugiti e belati e strani suoni gutturali, di cui però non si capiva la provenienza. Infine arrivarono in cima al sentiero. Davanti a loro si apriva una caverna smisurata, protetta da una palizzata fatta di tronchi di albero ed alcuni arbusti di alloro. Evidentemente doveva essere stata di vita ad abitazione, ma all'interno non si scorgeva anima viva. I greci si guardarono l'un l'altro perplessi. Ma Ulisse fu il primo a riscuotersi. Era inutile essere arrivati fin lì per poi arrestarsi alla prima difficoltà. Entriamo, ordinò, e si avanzò orditamente per primo. Gli altri lo seguirono guardinchi. Appena dentro si trovarono immersi in un'oscurità quasi completa e da prima non riuscirono a distinguere nulla. Ma quando i loro occhi si furono un po' capituati al buio, cominciarono a notare i particolari dell'ambiente. Si trovavano in un'enorme caverna dalle pareti scabre e stillanti umidità. Stalattiti e stalagmiti gigantesche la dividevano come in tanti cunicoli che sembravano racchiudere, nelle zone d'ombra più fitta, mille nemici pronti all'attacco. Dal soffitto pendevano canestri pieni di formaggio pecorino, mentre negli angoli grossi ragni affaccendati tessevano le loro tele. Per terra tutto intorno a loro c'erano grandi recipienti colmi di latte o di siero. Nel centro c'erano alcuni tronchi bruciacchiati, della cenere e sparsi qua e là velli di pecora e ossa rosicchiate, testimonianza dei passi del misterioso abitante di quell'altro. Tutto di dentro era di proporzioni enormemente superiori al normale. Ulisse e i compagni si guardavano attorno, immobilizzati dalla meraviglia e da un vago timore. Poi il silenzio fu rotto dal grido di uno degli uomini, sopraffatto dallo spavento che quel luogo gli incuteva. Andiamocene via, urlò. Ulisse, ti prego, andiamocene via, prendiamo del formaggio e torniamocene alla nostra nave. Ma quell'altro, che incuteva tanto spavento ai suoi uomini, accresceva sempre più in Ulisse il desiderio di scoprire il segreto di quella terra e dei suoi misteriosi abitanti. Egli era come incatenato da qualcosa di più forte di lui. Voi andate pure, disse ai compagni. Io resto, voglio guardare in faccia l'abitante di questa caverna. I compagni si guardarono negli occhi, chiedendosi se il loro capo fosse impazzito improvvisamente. Tuttavia non ebbero l'animo di andarsene, lasciandolo solo. Perciò si accesero un fuoco con la legna bruciacchiata che trovarono l'intorno e si accinsero ad attendere con lui. A poco a poco, impigriti dal terpore della fiamma e dal silenzio che regnava attorno, essi si assopirono e dovevano essere passate alcune ore, quando un baleare d'armenti e un rintronare di passi li fece valzare in piedi di colpo. Il fuoco nel frattempo si era spento e i raggi del sole al tramonto rischiaravano appena il centro della caverna, lasciando tutto il resto nell'ombra. Gli uomini avevano appena avuto il tempo di rifugiarsi sul fondo della grotta, quando il vano d'ingresso fu oscurato dalla più spaventosa figura d'uomo che avessero mai potuto immaginare. Era un gigante, alto come il cucuzzolo di una montagna, con i capelli neri e intricati che gli scendevano sulle spalle e, cosa più orribile di tutte, un occhio solo in mezzo alla fronte. Un brivido d'orrore percorse le membra dei greci che si astrinsero attorno ad Ulisse. Il gigante fece entrare le pecore e le capre, poi, afferrando con le braccia un enorme macigno, bloccò il vano d'entrata dietro di sé. Per alcuni terribili minuti la caverna rimase immersa nelle tenebre più complete. I greci sentivano il fiato caldo degli animali sui loro volti e il rumore della pietra focaia, sfregata dal mostro per accendere il fuoco. Poi sprizzarono alcune scintille, la legna s'accese e il fuoco riarse crepitando. Nel gioco alterno delle luci e delle ombre, i greci, sbigottiti, videro il gigante mungere le pecore a una a una, far cagliare il latte per farne il formaggio e metterlo poi a seccare nei canestri. Gli uomini, dimenticando la paura, si sporgevano dalla loro zona d'ombra per assistere meglio alla scena, quando una fiammata più alta delle altre li mise d'improvviso allo scoperto. Con un rugito spaventoso il gigante si scagliò contro di loro. Chi siete voi? Che cosa fate nella mia caverna? Chi vi ha dato il permesso di entrare? Urlò mentre l'unico occhio mandava bagliori di rabbia. Atterriti, gli uomini guardarono Ulisse. Anch'egli si era sentito gelare il sangue nelle vene a quell'apparizione. Aveva desiderato sì guardare in faccia l'abitante di quell'antro, ma non pensava che sarebbe stato così terrificante. Ben presto, la ragione ebbe la meglio sul panico che l'aveva afferrato ed egli riacquistò il suo sangue freddo. Avanzando di alcuni passi, con tono fermo e tranquillo, disse «Siamo greci, reduci dalla gloriosa guerra di Troia. Ci eravamo imbarcati per raggiungere Itoca, la nostra patria, ma eventi ci hanno trascinato lontani dalla nostra rotta, sospingendoci su questa riva. Ti chiediamo ospitalità nel nome degli dèi, finché non saremmo in grado di ripartire. Che vuoi che importi a me degli dèi?» rispose il gigante con un ghigno beffardo. «Io sono Polifemo, del popolo dei ciclopi, e non ho paura di nessuno. Dimmi piuttosto, dove sono ancorate le tue navi, vicine o lontane?» La sua voce cavernosa si era fatta a sua dente mentre rivolgeva queste domande, ma Ulisse prontamente parò il pericolo. «Purtroppo le mie navi si sono infrante contro uno scoglio», disse, «e solo io e questi dodici uomini ci siamo salvati». Allora, con una mossa imprevista e orribile, Polifemo si scagliò contro due dei prigionieri, li afferrò, fracassò loro il cranio per terra e se li divorò, carne e ossa. Un urlo di terrore uscì dalla bocca dei superstiti e un gelo mortale li invase. Era quella la loro sorte. Erano capitati nella dimora di un gigante antropofago. Tutti rivolgevano a Ulisse sguardi d'accusa e insieme di supplica. «Tu ci hai condotti in questo pericolo, salvaci ora!» Ma cosa poteva fare Ulisse, con le sue sole forze d'uomo, contro quella forza bruta scatenata? Benché soffrisse immensamente, doveva starsene fermo a vedere sbranare i suoi uomini. L'autopasto, fatto alle spese dei due disgraziati e le abbondanti bevute di latte, servirono a saziare il mostro per quella sera. Egli si distese tra le pecore e dopo pochi minuti russava già sonoramente. Appena lo vide addormentato, Ulisse si slanciò su di lui con la spada sguainata e stava già per trafriggerlo, quando un pensiero fulminio lo trattenne. Come avrebbero potuto da soli spostare l'enome macigno che chiudeva l'entrata? Neanche cento di loro insieme sarebbero riusciti a smuoverlo di un passo. Così, uccidendo Polifemo, si sarebbero salvati dalle grinfie del mostro, ma sarebbero stati condannati a una lenta morte per soffocamento. Ulisse tornò capochino tra i compagni. Le ore della notte trascorsero lente, scandite dal rossare del ciclope e dal tramestio delle pecore, in un'angosciosa corsa contro il tempo per trovare lo stratagemma che permettesse loro di uscire. Ma l'alba giunse senza che nessun rimedio fosse stato escogitato. Ai primi raggi del sole, Polifemo si alzò, stirò le sue enormi membra, poi, con calma spaventosa, ripetè gli stessi gesti della sera precedente. Munse le pecore, fece cagliare il formaggio e divorò altri due dei compagni d'Ulisse. Poi tolse il macigno dal vano d'entrata, fece uscire il gregge, rimise il macigno al suo posto e se ne andò, fischiettando allegramente al pensiero della buona cena che lo attendeva al suo ritorno. Tutto il terrore e l'angoscia che gli uomini si erano tenuti in cuore in presenza di Polifemo, esplose non appena egli fu uscito. Quei guerrieri valorosi piangevano come bambini, si strappavano i capelli, gemevano e si ferivano le mani nel vano tentativo di aprirsi un passaggio nella roccia. Solo Ulisse, in un angolo, pensava. Il suo sguardo, calmo e attento, vagava nella caverna alla ricerca dello spunto che gli suggerisse il modo di uscire da quella situazione. A un tratto, un gosso tronco d'olivo attrasse il suo sguardo. Ecco, quello sarebbe stato lo strumento della loro salvezza. Subito balzò in piedi. Animo, amici, gridò. Siamo salvi. Presto, prendete quel tronco, appuntitelo, poi accendete il fuoco e indurite il legno nelle braci. Rianimati dalla fiducia che era nelle parole del loro capo, gli uomini si misero al lacramente al lavoro. Mentre essi eseguivano gli ordini, Ulisse spiegava loro il suo piano. Stanotte, diceva, quando Polifenomo si sarà addormentato, noi arroventeremo nel fuoco questo legno, poi glielo ficcheremo nell'occhio e così lo accecheremo. E la speranza rinasceva nel cuore degli uomini via via che la salvezza si prospettava chiara davanti ai loro occhi. Nascosero il palo sotto il letame, tirarono a sorte i quattro che dovevano aiutare Ulisse nell'impresa e si accinsero ad attendere il ciclope, sentendo crescere in sé lo spavento col passare delle ore. Al tramonto Polifemo rientrò e il suo tragico pasto serale si compì esattamente come le due volte precedenti. Altri due uomini furono sacrificati alla sua ingordigia. Pieno di odio e di dolore, Ulisse diede allora inizio al suo piano. Riempì una coppa con del vino liquoroso che aveva portato con sé dalle navi e l'attesa gigante dicendogli con voce sua dente. Bevi Polifemo, dopo un pasto così sostanzioso hai bisogno di verci sopra un po' di vino e questo è proprio quello che fa per te. Te l'avevo portato come dono nel caso tu ci avessi accolto ospitalmente, invece ti sei comportato così male che nessuno vorrà più accostarsi alla tua casa ma voglio essere generoso con te e te lo offro ugualmente. Polifemo afferrò avidamente la coppa e la vuotò ad un sol fiato, poi l'ha resa a Ulisse. Dammene ancora, bofonchiò, e dimmi il tuo nome, voglio farti un regalo. Per tre volte Ulisse gli riempì la coppa mentre i compagni seguivano la scena con animo trepidante. Quel vino era così forte che bisognava berne una parte mescolata a venti d'acqua. Immaginatevi l'effetto che fece su Polifemo che se lo beve schietto, senza neanche tirare il fiato. Dopo la terza coppa la testa gli ciondolava qua e là e l'occhio annebbiato gli faceva vedere 60 uomini al posto di sei e gli suggeriva l'idea di succulenti festini. Vuoi sapere il mio nome? gli disse Ulisse quando s'accorse che i fumi dell'alcol gli erano saliti al cervello. E sia t'accontento, ma tu ricordati del dono che mi hai promesso. Il mio nome è nessuno. Ebbene nessuno. Tu sarai l'ultimo che io divorerò. Questo sarà il mio dono. E con un'atroce risata che svegliò mille echi nella caverna, Polifemmo cadda all'indietro completamente ubriaco. Allora, come un solo uomo, i quattro prescelti si precipitarono con Ulisse a prendere il palo. Ne immersero la punta nel fuoco che il gigante aveva acceso prima di addormentarsi e quando fu arroventata gliela conficcarono nell'occhio rigirandogliela dentro. Con un urlo tremendo Polifemo si strappò il palo dall'orbito ormai vuota. Lo scagliò lontano e, pazzo dal dolore, si diede ad annaspare nell'aria per cercare di afferrare i nemici. Ma Ulisse e i compagni si erano ritirati nell'angolo più lontano della grotta, dietro una stalagmite, e li attendevano lo svolgersi degli eventi. Vedendo che non sarebbe mai riuscito a vendicarsi di loro da solo, Polifemo chiamò soccorso ai ciclopi. Ripercotendosi sulle pareti della grotta, rimbalzando di caverna in caverna, il video riempì a poco a poco tutta la montagna, lamentoso e agghiacciante come l'urlo di una belva ferita. «Ciclopi, aiuto! Ciclopi, aiuto!» Nel buio della notte quegli esseri giganteschi uscirono dai loro antri e scesero a grandi balzi lungo i fianchi dei monti, finché giunsero alla caverna di Polifeno. Sembravano un branco di orsi che accorsero al richiamo di un compagno. «Che ti è successo?» gridarono raccogliendosi attorno al macigno che chiudeva l'entrata. «Ti hanno rubato il gregge? O ti stanno forse scannando?» Poi tesero l'orecchio per sentire la risposta. Dalle profondità dell'antro venne la risposta di Polifemo. «Nessuno mi sta uccidendo, ciclopi! E perché ci hai chiamati se nessuno ti dà noia?» brontolarono i ciclopi arrabbiati. «Se stai male, prenditela con Giove e chiedi aiuto a tuo padre Nettuno. e una volta lasciaci dormire in pace». Poi, borbottando, se ne tornarono i loro antri. Nella caverna i prigionieri trassero un respiro di sollievo. Si erano sentiti rabbrividire quando avevano udito i ciclopi a avvicinarsi. Dunque il loro piano sarebbe fallito miseramente e una catastrofe ancora più grave sarebbe piombata loro addosso? Ma la stufia di Ulisse aveva ancora una volta avuto ragione sulle avversità. Ora non dovevano far altro che attendere che l'alba spuntasse e che Polifemo togliesse il macigno per far uscire le pecore. Sarebbero allora sgattaiolati via tra il grecce e il ciclope, ormai cieco, non se ne sarebbe certo accorto. Ma allorché sorse il nuovo giorno il gigante si portò barcollando vicino all'uscita, tolse la pietra e stese le sue enormi braccia pronto ad afferrare chiunque avesse osato passare di lì. Tuttavia Ulisse non si perse d'animo. Osservando il gregge che scalpitava il requeto gli belenò la mente un'idea geniale. Corse a prendere dei giunchi dal giaciglio di Polifemo e con essi legò a tre a tre le pecore più grosse. Quindi assicurò via via i suoi compagni sotto le pecore che restavano in mezzo e, così nascosti dall'abbondante vello che pendeva dai fianchi degli animali, li fece sfilare davanti al ciclope. Aveva trattenuto per sé una riete gigantesco dalle lunghi corna ricurve e dalla pelliccia foltissima che scendeva fino a terra. Si afferrò saldamente al lungovello del ventre e uscì per ultimo sotto la bestia appesantita dal suo peso. Quando l'ariete passò davanti a Polifemo, questi lo riconobbe dalle corna e lo fermò. Ulisse trattiene il fiato e rimase immobile. Perché esci per ultimo, diceva il ciclope all'ariete, tu che eri solito il rompere fuori per primo per andare a brucare l'erba dei prati. Sei forse triste perché il tuo padrone è stato accecato con l'inganno? Oppure nascondi qualcuno di quei vigliacchi? Forse nessuno stesso? Ah, se potessi trovarlo e stritorargli il cervello. Credo che questo dolore all'occhio non mi tormenterebbe più tanto. Mentre riceva queste parole, andava tastando il dorso ai fianchi dell'ariete per scoprire la presenza dell'odiato nemico. Ulisse vide con orrore le mani adunche del gigante strisciare vicino al suo corpo, sui suoi capelli mescolati al vello dell'animale. Cercò di farsi più piccolo che poteva, irrigidito dallo spavento. Poi la mano delusa ricadde e l'ariete pote uscire libero. A pochi passi dalla caverna Ulisse balzò a terra, corse a slegare i compagni e insieme, sospingendo le pecore avanti a sé, ripercorsero a folle velocità il sentiero che due giorni prima li aveva condotti lassù finché non giunsero in vista delle navi. Erano ebri di gioia e mai avevano sentito d'amare tanto la vita come in quel mattino di sole. Urlando e cantanto salirono sulla nave e si misero a remare verso l'isola delle capre. Fu allora che Ulisse volle sfogare la mareffa che gli gravava l'animo e gridò con voce spiegata. Hai avuto la ricompensa Polifemo per averci mancato ai sacri doveri dell'ospitalità. Quando il ciclopio di questa frase beffarda usciva arcollando dall'antro e folle di rabbia diverse la cima di un monte e la gettò nel mare. L'enorme masso cadde davanti alla prua della nave sollevando un'onda immensa che trascinò con violenza l'imbarcazione verso terra. Ma Ulisse puntò prontamente un lungo palo contro le rocce risospingendo la nave a largo. Qui sebbene gli amici lo scongiurassero di tacere volle gridare al nemico il nome di colui che l'aveva vinto. Se qualcuno ti chiede chi ti ha ciecato urlò digli che è stato Ulisse Ulisse di Itaca figlio di Laerte conquistatore di molte città. Ahimè urlò allora Polifeo mi era stato predetto che un certo Ulisse mi avrebbe privato dell'occhio ma io credevo che sarebbe stato un uomo gigantesco e bello e dotato di forza invincibile non un nannerottolo che mi ha vinto con l'inganno. Poi alzando le braccia al cielo implorò. Oh grande Nettuno signore di tutti i mari esaudisci questa preghiera che tuo figlio ti rivolge. Fa che Ulisse non riesca mai a giungere in patria e se invece destino che vi giunga fa che questo avvenga il più tardi possibile e dopo molti stenti su una nave straniera e senza più alcuno dei suoi compagni e che trovi altri dolori nella sua casa. Fatta questa terribile improrazione Polifemo sollevò un masso ancora più grande del primo e lo scagliò in mare ma questa volta la pietra ricadde rasente la poppa e sospinse la nave verso l'isola delle capre in salvo. Dopo un giorno di riposo nell'isola delle capre Ulisse e i suoi compagni ripresero il viaggio verso Itaca ma Nettuno aveva udito la preghiera del figlio ed era ben deciso a ostacolare con ogni mezzo il loro ritorno. I greci vagavano sul mare all'avventura cercando di ritrovare la rotta perduta quando ecco apparire ai loro occhi un'isoletta circondata da una doppia muraglia di rame e roccia. Come si furono avvicinati udirono una strana musica a sprigionarsi dalle mura e venne loro un grande desiderio di capire da dove provenisse. Scesero a terra e interrogando alcune persone che si erano fatte loro incontro seppero che quella era la terra di Eolo il re dei venti. Il nostro re è molto ospitale dissero gli abitanti dell'isola quando seppero il nome di Ulisse e sarà ben lieto di dare asilo a un guerriero così valoroso e ai suoi compagni. Così i nostri amici si incamminarono verso il palazzo di re Eolo che sorgeva in mezzo a un bosco. Sentivano ancora nell'aria a quella stessa musica strana che l'aveva incantati all'avvicinarsi dell'isola. Guardandosi intorno si accorsero che tutte le cime degli alberi vibravano nell'aria, che le foglie danzavano sui rami, che l'erba e i fiori ondeggiavano, frusciavano, sussurravano il loro canto di gioia, che mulinelli odorosi di muschio e di resina si sollevavano attorno mormorando la loro gaia melodia. Era Zaffiro, il venticello profumato di primavera, il prediletto di re Eolo, che scherzando con le piante e coi fiori ne faceva sprigionare la musica segreta. Intanto i suoi fratelli maggiori, i venti di tempesta, si agitavano ululando nel fondo dei burroni e sulle cime dei monti. Accompagnati da Zaffiro, che danzava attorno a loro allegramente, portando a loro olfatto tutti i profumi del bosco, Ulisse e i suoi compagni giunsero infine alla reggia di Eolo. Qui il buon re viveva con i suoi dodici figli e trascorreva il giorno lietamente tra banchetti, canti e danze. Quando seppe dell'arrivo dei greci, si affrettò incontro a loro e rivolgendosi a Ulisse si disse onorato di accogliere nella sua casa uomini così famosi e arditi. Per un mese i greci restarono in quella casa ospitale, ristorandosi dalle fatiche sopportate con pranzi squisiti e intrattonendosi la sera con i loro ospiti a narrare le imprese della guerra di Troia. E quando Ulisse andò congedarsi dal re, questi gli volle fare un dono, il più prezioso che potesse offrirgli. Un'otre di pelle di bue contenente, imprigionati tutti i venti di tempesta, che avrebbero potuto ostacolargli il ritorno a Itaca. Se terrai l'otre ben chiuso, avrai una navigazione felice, gli disse al momento della partenza, e giungerai in patria sane e salvo. Ho lasciato fuori solo zeffiro, che ti spingerà dolcemente verso est e te allieterà il lungo viaggio. Addio Ulisse, vivi felice. I greci si misero in mare e per nove giorni veleggiarono indisturbati e veloci verso Itaca, sospinti dall'amico zeffiro. Ulisse tenne sempre con sé l'otre dei venti e non svelò da alcuno che cosa conteneva, per timore che i suoi uomini fossero tentati di aprirlo. Per nove giorni e nove notti egli resse il timone senza cederlo mai a nessuno, ansioso di affrettare il ritorno. Infine, il decimo giorno, ai suoi occhi brucianti per la stanchezza e per gli spruzzi salmastri del mare, apparve, prima confusa all'orizzonte, come uscente da un sogno, poi sempre più chiara e distinta una terra, una terra conosciuta, sì, Itaca. Itaca, Itaca, gridò, siamo in patria, siamo salvi. Da ogni parte della nave sbucarono gli uomini di corsa e si affollarono sul ponte abbracciandosi urlando di gioia. Il grido si ripetè di nave in nave finché tutti gli occhi furono rivolti verso la terra amata che si andava avvicinando a poco a poco. Lentamente cominciarono a distinguere la linea dei monti, le insenature della costa, i fuochi dei pastori a guardia delle greci e ognuno di quegli uomini induriti dalla guerra pianse segredamente nel riconoscere i luoghi dove era vissuto fanciullo e dove l'attendeva la casa, la moglie e i figli. Ora che Itaca era lì davanti a loro, Ulisse sentì improvvisamente una grande stanchezza. La tensione della volontà che l'aveva sostenuto fino a quel momento cadde ed egli sentì pesare su di sé la terribile fatica di quei nuovi giorni di veglia continua. D'altronde ormai non c'era più alcun rischio, avrebbe potuto consegnare il timone a uno degli uomini e riposarsi per un momento. Così fece, poi si sdraiò sul ponte e esausto come era si addormentò subito profondamente. L'otre dei venti giaceva a terra accanto a lui. Questo dono di re Eolo aveva ingelosito i greci che per tutto il viaggio avevano fatto congetture sul suo possibile contenuto. Ora esso si trovava per la prima volta incustodito e gli uomini gli rivolgero occhiate piene di desiderio. Che cosa pensate ci sia in quell'otre? Incominciò uno. Argento forse o oro o pietre preziose? Rispose un altro meditabondo. Sempre fortunato, Ulisse, da Troia si è portato via un bottino ricchissimo e noi che abbiamo sopportato le stesse fatiche non ci siamo guadagnati neanche un soldo. Sì, e adesso per di più Eolo gli regala un'otre che deve contenere una fortuna. Basta vedere la cura con cui se l'è custodito in questi giorni. Avrei una voglia di guardarci dentro. E che ci impedisce di farlo? Mentre Ulisse dorme noi possiamo dare un'occhiatina, poi richiudiamo bene e quando egli si sveglierà non si accorgerà di nulla. Hai ragione. Forza amici, apriamo l'otre. Mi immagino già come deve brillare l'oro lì dentro. I greci si stinsero attorno all'otre, urtandosi l'un l'altro per poter vedere meglio. Sciolsero con dita impazienti i nodi che ne chiudevano l'apertura e, con un sibilo spaventoso, i venti si precipitarono fuori, turbinando attorno agli uomini e travolgendoli in un vortice senza fine. Essi si dibattevano, si afferravano al parapetto e agli alberi, si gettavano per terra, ma non c'era nulla da fare. I venti li strappavano via e li costringevano a turbinare nella loro tragica sarabanda. Poi il vortice si allargò fino ad avvolgere tutta la nave che, quasi sollevata di peso, tra l'orrendo frastuono dei venti e delle onde, ripercossa all'indietro, ad un'incredibile velocità il cammino di quei nove giorni, finché Itaca non divenne che un puntino lontano e poi scomparve del tutto. E Ulisse, al primo sibilo dei venti, era balzato in piedi, appena in tempo per vedere sparire Itaca all'orizzonte e si era trovato preso nel vortice. Una disperazione profonda si impadronì di lui. Pensieri d'ira e di dolore turbinavano nel suo cervello. Itaca di nuovo volontana, tutta la sua fatica resa inutile. Non sarebbe mai riuscito a opporsi alla vendetta di Nettuno. Meglio rinunciare per sempre a quella lotta disuguale. Ma dopo una breve battaglia con se stesso, la sua fortezza d'animo ebbe il sopravvento. Ricomincerò da capo, si disse, e se ci sarà da combattere, combatterò. E se ci saranno ostacoli, li vincerò. E arriverò a Itaca, a costo di consumare in questo viaggio tutte le mie forze. A poco a poco, la violenza dei venti diminuì di intensità, e gli uomini, afferrandosi alle sponde del ponte, riuscirono a portarsi sotto coperta. Qui si buttarono a terra gemendo e rimproverandosi per la loro stoltezza, mentre Ulisse, copertosi il volto con un lembo del mantello, nascondeva agli altri il suo immenso dolore. Poche ore dopo, il vortice li depose presso l'Eolia, da cui erano partiti pieni di speranza dieci giorni prima. Scesero a terra, e Ulisse, con due dei suoi uomini, si recò a improrare nuovamente l'aiuto del re. Non appena li videro, i figli di Eolo corsero a loro incontro. Che ti è successo, Ulisse? gridarono. Ti pensavamo a casa tua a quest'ora. Non ti è dunque stato d'aiuto il nostro dono? L'invidia dei compagni e un sonno invincibile mi hanno ridotto a questo punto, rispose Ulisse. Ascoltate la mia sventura e poi vi prego aiutatemi ancora una volta. Anche Eolo si era affacciato nel frattempo sulla soglia della sua dimora e aveva udito il racconto della sventura dell'eroe. Quando quest'ultimo finì di parlare, i giovani ammutolirono per la compassione, ma il vecchio re prorruppe con una voce grave. Vattene da questa terra, Ulisse, e non tornarvi mai più. Tu devi avere commesso qualcosa di molto grave per meritarti queste pene, e se hai offeso gli dèi, devi scontare la tua colpa. Addio! In silenzio Eolo e i suoi figli si ritirarono, e Ulisse, curvo per il dolore e l'umiliazione, risalì sulle navi con i compagni e riprese il suo viaggio. Per sei giorni i greci vagarono tristemente, incapaci di ritrovare la rotta. Il settimo giorno giunsero in vista di una terra che avrebbe segnato una tragica tappa nel loro viaggio. Era infatti abitata dai Lestrigoni, popolo di giganti crudelissimi, divoratori di carne umana. Inconsci del pericolo che li sovrastava, i greci ancorarono le loro navi nel grande porto. Solo Ulisse gettò la ancora all'esterno, poi inviò due uomini e un araldo a esplorare il paese e cercare provvigioni per il viaggio. Giunti al villaggio, i tre uomini capitarono nella casa del gigante Antifate, che non appena divide ne afferrò uno e lo divorò. Prima che potesse prendere anche loro, gli altri due infilarono l'uscio e corsero a precipizio verso le navi per dare l'allarme, ma non fecero in tempo. Antifate, irritato per essersi visto sfuggire la preda, aveva chiamato a raccolta i Lestrigoni e questi, arrampicatisi sulle cime dei monti, staccarono enormi maccigni, bombardando con essi le navi ancora nell'insenatura, che diventò così una tragica trappola. I tonfi delle pietre, il gemito dei feriti, lo scricchiolio delle navi che affondavano riempirono il porto, per alcuni atroci momenti un panico indescrivibile. Non uno dei naviganti riuscì a porsi in salvo, anche questa volta Ulisse dovette assistere impotente alla strage dei suoi uomini. Sì, la vendetta di Nettuno si stava compiendo ed era la più crudele che potesse colpirlo, essere costretto ad assistere alla morte dei compagni senza poterli aiutare, essere lasciato a poco a poco solo, privato di tutti gli amici più cari. Ma gli restava ancora una nave e degli uomini da condurre in salvo, a Itaca. Così ordinò loro di levar l'ancora e di remare il più in fretta possibile per allontanarsi dalla terra. E senza più voltarsi indietro, con una sola nave e un pugno di uomini si accinse ad affrontare ancora una volta tutti i rischi di un viaggio in un mondo sconosciuto. Rema e rema e rema. Gli uomini erano stanchi e sfiduciati. Una nostalgia acutissima attragliava i loro cuori al pensiero della patria appena intravista e subito perduta, dei compagni morti. Una grande spossatezza li invadeva e, se Ulisse non li avesse continuamente stimolati con la sua voce sicura e persuasiva, avrebbero deposti i remi e si sarebbero abbandonati alla loro sorte. Erano in tale stato d'abbattimento quando la vedetta annunciò «Terra in vista!». Costeggiando, si accorsero che si trattava di un'isoletta boscosa, coperta da una rigogliosa vegetazione. Sulle piante si intravedevano uccelli dal piumaggio vario pinto, i prati erano pieni di fiori stupendi, mai visti dai greci fino ad allora. Agli occhi stanchi dei naviganti l'isola apparve come un oasi di pace. Quei boschi verdi, tranquilli, quei fiori incantevoli non sembravano nascondere alcun pericolo, ma anzi invitavano al riposo. Così decisero di sbarcare. Entrarono nel vasto porto, scesero dalle navi e si sdraiarono sull'erba dei prati. L'odore buono della terra, il profumo dei fiori, il canto degli uccelli, l'azzurro intenso del cielo le mirano a poco a poco l'angoscia degli uomini, infondendo loro un desiderio invincibile di fermarsi e di rinunciare alla lotta col mare. Per due giorni e due notti gli uomini rimasero immobili sui prati, vinti dalla stanchezza, dal dolore e dalla bellezza dei luoghi. La notte, quando gli uccelli tacevano e il cielo si riempiva di stelle, essi udivano, tra il sonno e la veglia, misto al mormorio delle onde del mare e allo stormire del vento, uno strano canto, lento e malinconico, che suscitava in loro immagini vaghe e fantastiche. All'alba del terzo giorno Ulisse non resse più al desiderio di scoprire l'origine di quel canto. Balzò in piedi e lasciando i compagni ancora addormentati, si pose in via, armato d'asta e di spada. A passo rapido salì su un colle per dare uno sguardo dall'alto a tutta l'isola, ma non scorse alcun segno di vita umana. A eccezione di un esile filo di fumo, innalzatesi da un bosco di querce. Subito scese dal colle e imboccò un sentiero nella direzione del fumo. Improvvisamente un grosso cervo gli attraversò la strada a pochi passi di distanza. Ecco un bel regalo per i miei compagni, pensò Ulisse, e rapido come il fulmine scagliò l'asta contro l'animale. Cogliendolo in mezzo alla schiena, il cervo stramazzò morto. Ulisse gli corse vicino, estrasse l'asta insanguinata e con alcuni giunchi ne legò insieme i piedi. Poi se lo caricò sulle spalle e tutto curvo sotto il peso tornò lettamente al luogo dove aveva lasciato i compagni. Giacevano ancora a terra, sonnacchiosi, sfiniti nel corpo e nell'animo per il lungo digiuno e il dolore. Non appena Ulisse li vide in quello stato tentò di rianimarli. Coraggio amici, gridò da lontano, non disperatevi che non morremo finché non sarà la nostra ora. Guardate piuttosto che cosa vi porto. Animo, venite ad aiutarmi. Ce l'hanno mandato gli dèi quest'animale per sollevarci lo spirito. Svelti, accendete il fuoco, tagliatelo a pezzi e fatelo arrostire. faremo un bel festino e poi ci risentiremo meglio. Rianimati gli uomini si misero allacramente al lavoro e poco dopo già il profumo della carne arrostita si spaggeva intorno. Allora si disposero in cerchio sul prato e banchettarono allegramente, dimenticando per un attimo tutte le pene trascorse. Poi, riconfortati dal cibo, si addormentarono di un sonno profondo, cullati dal mormorio delle onde. Alla prima luce del giorno Ulisse si destò e cominciò a elaborare piani. Doveva assolutamente procurarsi del cibo per proseguire il viaggio e inoltre voleva scoprire il segreto di quel canto notturno. Non dobbiamo ripetere però lo sbaglio dell'isola dei ciclopi, pensava, quando ci siamo trovati in pochi a combattere con un gigante. D'altra parte, non posso neanche permettermi di andare solo, arrischiando la mia vita, perché i miei uomini hanno bisogno di me. L'unica soluzione è di dividerci in due gruppi uguali. Di uno sarò capo io e dell'altro euriloco, del cui se non so di potermi fidare. Una delle due squadre partirà in esplorazione e l'altra resterà guardia della nave. Sì, in questo modo non correremo rischi gravi. Senza attendere oltre, svegliò i compagni ed espose loro il suo piano, che in verità non fu accolto con l'entusiasmo che s'aspettava. Essi non erano spinti dalla sete di conoscenza e di avventura che muoveva il loro capo, e avrebbero preferito lasciarsi morire di fame su quella spiaggia, piuttosto che trovarsi di nuovo a faccia a faccia con un polifemo o un antifate. Ma Ulisse fu inflessibile. Divise gli uomini in due squadre, poi estrasse la sorte e il nome del capo che doveva partire. Uscì il nome di oriloco. Trattenendo a stento le lacrime, gli uomini si abbracciarono, quindi i ventidue destinati si misero in marcia, seguiti con lo sguardo dagli amici, finché non scomparvero tra gli alberi. Tutti si sentivano oppressi da una grave angoscia. Chissà quali altre sventure avrebbe riservato loro la vendetta di Nettuno. Percorrendo a passo rapido il sentiero che era stato loro indicato da Ulisse, in capo a una mezz'ora, e oriloco e i suoi uomi giunsero una vellata ombrosa ancora più bella, fiorita e profumata di quelle viste nelle altre parti dell'isola. Nel centro sorgeva un grande palazzo, tutto splendente di marmi, ma la cosa più meravigliosa erano dei maestosi leoni dalla folta criniera fulva e degli agili lupi grigi che se ne stavano seduti ai lati del palazzo come cani a guardia della casa del padrone. Strisciando per terra, gli uomini si avvicinarono al palazzo cercando di fare il minimo rumore possibile, ma quando furono a pochi passi dalla porta d'ingresso, un lupo si scosse, si drizzò, puntò su di loro il suo lungo muso guzzo. Ecco, li aveva visti, ora avrebbe spiccato un balzo, gli uomini si prepararono alla lotta, ma le loro braccia che si erano tese puntando le lance restarono immobili, le bocche si spalancarono per la meraviglia, perché i lupi e i leoni si erano tutti direzzati in piedi e invece di ringhiare e di avventarsi contro di loro stavano dimenando festosamente la coda. Subito rincorati, gli uomini entrarono e si trovarono nel cortile del palazzo, circondato da un grande porticato completamente deserto e silenzioso. Si guardavano attorno un po' intimoriti, quando all'improvviso il misterioso canto notturno si levò dall'interno della casa. Per alcuni minuti i greci si fermarono incantati ad ascoltare. Erano dunque giunti alle soglie del segreto, ancora pochi passi e avrebbero saputo chi era la misteriosa cantatrice. Lanciamo un richiamo perché ci venga ad aprire, propose uno di loro e così fece. Poi tutto avvenne come in un sogno. Il canto cessò di colpo, la porta si aprì silenziosamente e si trovarono di fonte a un'insolita figura di donna, tutta avvolta in veli color del mare, da cui emergeva un viso pallidissimo, con degli strani occhi luccicanti, incorniciato da una massa di riccioli neri trattenuti da una benda. Era una dea o una donna. Come affascinati da quegli strani occhi, gli uomini avanzarono in gruppo ad alcuni passi, mentre le porte si richiudevano dietro di loro. Solo Euriloco restò fuori, sospettando un inganno. La misteriosa creatura li fece sedere sopra splendidi sgabelli, porse loro dolci al miele su piatti d'argento e coppe di cristallo piene di un vino squisito e li invitò insistentemente a bere e a mangiare. I greci erano al colmo della felicità. Tutto attorno a loro era così bello e il loro ospite così gentile. Ma il velo dell'oblio ottenebrò poco a poco la mente degli uomini, come era avvenuto nella terra del loto. Quale magico filtro era contenuto nel vino? Poi accadde una cosa spaventosa. La loro ospite prese una bacchetta e la batte loro sulle spalle. Immediatamente essi si misero a carponi per terra. I loro corpi si copersero di setole e in pochi minuti gli uomini furono trasformati in porci grugnenti e vennero rinchiusi in una stalla. Di umano conservavano solo l'animo che soffriva immensamente in quell'orrenda prigione. In tante Oriloco aspettava, aspettava. Passarono le ore ma nessuno dei greci uscì dal palazzo. Quando calarono le ombre della sera ogni speranza di rivedere i vivi suoi compagni svanì ed egli corse a raccontare a Ulisse l'accaduto. Che cosa è successo? Gli gredò Ulisse quando lo vide arrivare tutto stravolto. Una disgrazia, ansimo e Oriloco. Terribile. Un palazzo. I leoni. Dimmi quel che è successo, urlò Ulisse. Cosa c'entrano i leoni? Ma con la gola chiusa per l'emozione il poveretto si inghiozzava senza riuscire a spiegarsi. Solo quando si fu un po' calmato poteva narrare la loro avventura fino all'ingresso dei compagni nel palazzo misterioso. Di ciò che era accaduto all'interno egli non sapeva nulla tranne che nessuno di loro era più tornato. Subito Ulisse afferrò un arco e una spada d'argento e si mise in cammino dicendo a Oriloco. Vieni andiamo a liberarli. Quest'ultimo a cui certo non abbondava il coraggio diede un grido. No Ulisse te ne prego non andiamo là. Fuggiamo sulla nave così ci salveremo almeno noi. Tu resta se vuoi egli rispose Ulisse con uno quarto di disprezzo. Tu resta rimpilzalti di carne di vino. Io andrò solo. Non posso abbandonare i miei uomini. E se ne andò a passo rapido. Camminava da poco quando ad un tratto si trovò accanto un giovanetto che reggeva nella mano destra un caducio ossia una verga sormontata da due ali alle quali erano attorcigliate due serpi. Ulisse riconobbe subito in lui Mercurio il messaggero degli dèi. Il dio lo prese per mano e gli parlò con voce amica. Povero Ulisse perché te ne vai tutto solo in questi boschi infidi? Non sai che signora di quest'isola è la maga Circe che trasforma gli uomini in animali? Non sai che i tuoi compagni sono stati da lei trasformati in porci e rinchiusi nelle sue stalle? Con le tue sole forfe non riuscirai mai a vincere l'incanto della maga. Ma non disperare Ulisse perché io voglio aiutarti. Prendi questa. Così dicendosi chinò e strappò dal prato una pianticella dalla radice nera e fiorellini bianchi come il latte. È l'erba moli. Mangiala. Ti servirà d'antidoto contro l'incantesimo della maga. Quando giungerai nel suo palazzo Circe ti offrirà del vino a cui avrà mescolato come per i tuoi compagni un liquido malefico destinato a farti perdere la memoria. Ma su te non avrà alcun effetto. Poi ella ti corpirà con la verga per trasformarti in un porco. Tu estrai subito la spada e fa l'atto di volerti scagliare contro di lei. Circe atterrita ti offrirà ospitalità. Non rifiutare affinché ella ti divenga amica e ti liberi compagni ma costrincila a giurarti sul cielo sulla terra e sullo stige che non ti farà più alcun male. Addio e buona fortuna. Appena pronunciate queste parole Mercurio scomparve e Ulisse proseguì solo il suo cammino verso la casa di Circe masticando l'erba magica. Giunto al palazzo è attraversata la schiera dei leoni e dei lupi che gli si fecero incontro festosi. L'eroe si fermò nel portico e lanciò un grido di richiamo. La maga spalancò la porta sorridendo. Lo invitò a entrare a sedere. Gli offrì vino drogato. Poi sicura dell'effetto del suo sortilegio lo colpì con la verga e con voce divenuta improvvisamente fredda e aspra gli ingiunse. Vattene nella stalla a grufolare con i tuoi compagni. Allora Ulisse sguainò la spada e si scagliò contro di lei facendo l'atto di trafiggerla. Ella gettò un urlo di terrore e corse ad abbracciargli le ginocchia piangendo ed improlando pietà. Chi sei? Gli chiese tra le lacrime. Da dove vieni? Per quale strano potere sei immuno dal filtro che non falli mai su nessun uomo? Ah, ora capisco. Devi essere quel sagace Ulisse di cui Mercurio mi predisse l'arrivo da Troia. Se lo sai veramente riponi la spada e non covare più alcun sospetto contro di me. Che pretendi Circe? Disse Ulisse continuando a tenere la spada puntata. Mi hai trasformato i compagni in porci e poi vuoi che io mi fidi della tua ospitalità? Così poi tu saresti libera di macchinare altri danni contro di me. No davvero non mi fiderò di te finché non avrai giurato sul cedo, sulla terra e sullo stige che non ordirai altri danni contro di me e contro i miei compagni. Alfando le palme al cielo con voce solenne la maga pronunciò il giuramento. Solo allora Ulisse rispose la spada e rotto l'incanto accettò l'ospitalità che Circe gli offriva. Circe batte le mani e subito compalvero quattro ninfe che vivevano nella sua casa come ancelle. La prima era una ninfa dei boschi e avanzava cantando recando in mano dei rami fioriti. La seconda era una ninfa dei monti e camminava con passo fermo e severo portando sui capelli un tiadema di stelle. Le ultime due erano una ninfa delle sorgenti e una ninfa dei fiumi e venivano tenendosi per mano sorridenti avvolti in azzurre tuniche fluttuanti come le acque in cui erano nate. Tutte e quattro si inchinarono davanti alla maga quindi si presero cura di Ulisse. La ninfa dei fiumi accese un bel fuoco sotto un calderone di bronzo perché l'eroe potesse fare un bagno ristoratore. Gli preparò accanto un genti profumati e al posto dei vecchi abiti stracciati una nuova tunica di morbido lino e un caldo mantello di lama. Ristorato dal bagno Ulisse venne invitata a sedere su uno sgapello che la ninfa dei boschi aveva coperto con un tappeto di lino in tessuto di porpora. La ninfa dei monti gli mise davanti un tavolo d'argento e l'apparecchiò con piatti tutti d'oro pieni di vivande prelibate e infine la ninfa delle sorgenti gli versò un vino suavissimo nel boccale d'argento. In mezzo a tutto questo affacendarsi e a quella raffinata eleganza Ulisse restava triste e silenzioso senza toccare cibo né bevanda. Perché non mangi Ulisse? Gli chiese la maga avvicinandosi. Temi forse qualche altro inganno da parte mia? Sai che dopo il giuramento non potrei farti alcun male. Sarei proprio disumano rispose Ulisse se me ne stessi qui a godere dei cibi e del vino dopo aver perso i miei compagni. Libera lì e allora solo allora sono in grado di apprezzare la tua ospitalità. Commossa dal dolore dell'eroe la maga si recò nelle stalle e ne fece uscire gli uomini trasformati in porci. Poi li unse uno a uno con un unguento magico e sotto gli occhi stupefatti di Ulisse le setole orrende caddero a terra e i greci ripresero la loro forma umana. Appena ridivenuti uomini essi riacquistarono anche la memoria e vedendo Ulisse lo riconobbero e gli si affollarono attorno ridendo e piangendo di gioia con una tale dimostrazione di affetto che la stessa maga si sentì vincere dalla commozione. Con un tono di voce insolitamente gentile ella si rivolse all'eroe. Corri alla tua nave Ulisse tirala in secco e nascondi tesori che contiene poi torna qui con i tuoi cari compagni e si mio ospite. Convinto dalle parole e dal tono con cui venivano espresse Ulisse corse alla nave dove trova i compagni in lacrime perché disperavano ormai di vederlo tornare vivo. Come lo scorsero gli si precipitarono incontro con esclamazioni di gioia e di sollievo. Se avessero visto da lontano i tetti di Itaca non avrebbero potuto essere più felici e gli altri gli chiesero quando la loro commozione si fu un po' calmata che ne è stato di loro. Dicci qualcosa Ulisse. Non temete amici rispose Ulisse allegramente gli altri sono sani e salvi e stanno banchettando allegramente nella casa ospitale di Circe e anche voi avrete lo stesso trattamento se mi seguirete. Su presto traete in secco la nave portate il bottino nelle grotte poi venite con me. Fiduciosi gli uomini eseguirono gli ordini in gran fretta e si avviarono dietro il loro capo. Solo Euriloco a cui era rimasta una gran paura di quella casa stregata tentava di dissadere gli uomini dall'andarvi ma quando gli proposero di restare a guardia della nave mentre essi si recavano da Circe fu preso da un tale spavento all'idea di essere lasciato solo che si decise a seguirli. Circe nel frattempo aveva provveduto affinché i suoi ospiti ridivenuti uomini fossero fornite vesti e unguenti balsanici e affinché fosse loro apparecchiata la tavola con i cibi più squisiti. Stavano sedendo a tavola non riuscendo ancora a capacitarsi del cambiamento avvenuto nella loro condizione quando sopraggiunsero i compagni. Nel ritrovarsi insieme tutti i ricordi dolorosi del viaggio si riaffacciarono alle loro menti ed essi si abbracciarono piangendo. Circe immobile li guardava. A poco a poco un mutamento avvenne anche in lei. Per effetto della pietà la durezza di quel suo viso enigmatico si andò addolcendo e delle lacrime inumidirono i suoi occhi. Alla fine fu con voce tenera e comprensiva che ella si rivolse ad Ulisse. Saggio Ulisse, ella disse, conforti i tuoi uomini. Conosco tutti i dolori che avete patito e le sventure che vi sono capitate per colpa di popoli barbari. So che ora siete stanchi abbattuti. Il troppo soffrire vi ha fatto dimenticare che cosa sia la gioia. Ma fatevi coraggio. Io vi ospiterò nella mia casa affinché non abbiate riacquisito le forze per riprendere il viaggio. Altegrida di gioia salutarono queste sue parole e gli uomini si accinsero a festeggiare con un banchetto l'ospitalità della maga. Trascorso un anno tra i banchetti e le cacce nei boschi di Circe i greci si erano andati e ritemprando nel corpo e nello spirito. Ma quando tornò la primavera essi si stancarono di quella vita di ozio e desiderarono riprendere il viaggio verso Itaca. Ulisse si recò allora da Circe per chiederle di favorire il loro ritorno in patria. Sì, Ulisse, lo farò ben volentieri, rispose la maga. Ma se vuoi sapere esattamente che cosa tiene in serbo il futuro per te e per i tuoi compagni e in quale modo tu debba agire, devi prima compiere un altro viaggio. Devi recarti nell'Ade, il regno delle ombre, interrogare il cieco indovino Tiresia che anche da morto conservava facoltà profetiche. Un grande spavento agghiacciò per un momento le membra di Ulisse. Un viaggio nel regno dei morti. Chi, sia pur molto coraggioso, non avrebbe tremato a una simile prospettiva. Ma dopo un istante di esitazione la sua decisione fu presa. Poiché era necessario avrebbe usato ciò che nessun mortale aveva mai usato. La maga gli diede tutte le indicazioni per il viaggio e le istruzioni per fare i sacrifici alle ombre dei morti. Il giorno dopo, di buon mattino, Ulisse passò di stanza in stanza a chiamare i compagni. Su, alzatevi, diceva loro. Non è più tempo di dormire, è ora di ripartire. Circe stessa me l'ha consigliato. Felici per la buona notizia, gli uomini balzarono subito in piedi, mettendosi al lacramente al lavoro e dopo poco tempo già erano in cammino verso la nave, pronti per la partenza. Solo allora Ulisse se li informò della vera destinazione del loro viaggio e se egli stesso aveva tremato al pensiero di quella nuova impresa, immaginatevi come si disperarono e piansero i suoi uomini. Tutta la gioia e la speranza del mattino caddero dai loro cuori. Ma, come già Ulisse, anch'essi non restarono a lungo inerti. Erano uomini temprati da una vita durissima e, se anche a volte lo sgomento li coglieva all'improvviso, sapevano però riprendersi e affrontare con coraggio le difficoltà. Rendendosi invisibile, la maga intanto li aveva oltrepassati, portando sulla nave un montone e una pecora nera, che sarebbero serviti per i sacrifici. Decisi, seppur stretti da un'ansia mortale, essi partirono. Un vento favorevole li spinse nella giusta direzione, finché a sera giunsero nella terra dei cimeri, una terra oscura e paludosa, avvolta giorno e notte da una nebbia impenetrabile ai raggi del sole. Sbarcarono e, nel buio più fitto, traendosi dietro i due animali, avanzarono verso l'interno lungo le sponde del fiume oceano, guidati solo dal tenue luccichio delle acque. Camminavano in silenzio, tenendosi vicini l'uno all'altro, oppressi dalla cupa solitudine che li circondava. Poi entrarono in un bosco di pioppi e di salici che sembrò richiudersi subito dietro di loro, nero e minaccioso. Giunti nel più fitto del bosco, si trovarono davanti a una rupe altissima a cui piedi si spalancava un baratro immenso. In esso si gettavano con un fragore assordante le acque di due fiumi. Memore delle istruzioni di Circe, Ulisse, iniffiò il fosco rito evocatore dei defunti, scavò una fossa profonda, vi versò miele misto a vino e ad acqua, lo asperse di farina. Poi si inginocchiò sull'orlo e, levando in alto le mani, tra il silenzio reverente dei compagni, promise alle ombre dei morti che, non appena portato a Itaca, avrebbe sacrificato loro la più bella mucca del suo armento e a Tiresia un ariete nero. Finite le invocazioni, afferrò il montone e la pecora e li sgozzò, facendone gocciolare il sangue dentro la fossa. Poi i greci rimasero in attesa, i cuori di tutti battevano all'impazzata. Ed ecco, qua e là tra gli alberi, un chiarore, ecco delle pallide ombre stringersi attorno a loro. Come illuminate da una luce interiore, apparvero ai greci le figure di fanciulli e fanciulle, di vecchi, di donne, di guerrieri dalla corazza ancora insanguinata per la ferita che li aveva uccisi. I greci immobili guardavano e attendevano. Un coro di gemiti e implorazioni, lamentoso come il vento notturno nella foresta, uscì da quelle forme senza corpo. Tutti volevano bere il sangue delle vittime che avrebbe ridato loro la memoria dei tempi passati. Ma Ulisse, squenata la spada, li teneva a distanza, perché secondo le parole di Circe, nessuno doveva accostarsi al sangue prima che Tiresia avesse pronunciato la sua profezia. «Perché, o infelice, sei venuta a visitare le dimore dei morti?» disse ad un tratto una voce profonda. Tiresia, l'indovino, tutto curvo in avanti, stava di fronte ad Ulisse, levando in alto lo scettro. «Se vuoi che io ti predica il futuro, scostati dalla fossa e lascia che io beva il sangue delle vittime». Bevve, poi di rimiffio l'attesa profezia. Ora anche le ombre attorno tacevano e tutto il bosco risuonava delle parole lente di Tiresia. «Mi è noto, o Ulisse, che tu e i tuoi compagni desiderate tornare in patria e che Nettuno ostile ve lo impedisce. Tuttavia, sebbene dopo molte fatiche, riuscirete a raggiungere Itaca, se, nell'isola Trinacria, risparmierete i buoi del sole, anche a costo di soffrire la fame. Se invece recherete loro il minimo danno, io predico sventura a te e i tuoi compagni. O se anche tu riuscirai a salvarti, il tuo ritorno sarà tardo e triste, su nave straniera e senza più alcun compagno. E a casa t'attenderanno altri mali. Troverai un protervo stuolo di giovani che sperpererà i tuoi beni e aspirerà la mano di tua moglie. Trarrai vendetta di loro e li ucciderai nel tuo stesso palazzo, ma non ancora ti sarà concesso di sostare e riposare nella tua casa. Dovrai rimetterti in cammino con un remo sulla spalla e non potrai fermarti finché non giungerai presso un popolo ai confini del mondo cui siano ignoti il sale e il mare, la nave e il remo. Qui giunto dovrai conficcare il remo nel suolo e sacrificare in onore di Nettuno un toro, una pecora e un maiale. Solo allora potrai tornare a casa e nella sala della tua reggia offrirai un sacrificio solenne e ringraffiamento a tutti gli dèi. La tua vecchiaia, dopo tanto soffrire, sarà lunga e serena e la tua morte tranquilla in mezzo al tuo popolo. Ecco il mio oracolo, Ulisse. Se questo è il mio destino, rispose l'eroe, mi sottometterò al volere degli dèi. L'ombra di Tiresia si allontanò lentamente finché non scomparve nella voragine. Fu allora che a Ulisse sbigottito apparve l'ombra della madre Anticlea. Era ancora viva quando egli era partito da Itaca e rivederla lì pallida ombra. Fu per il figlio un dolore lancinante. Quando la madre ebbe bevuto il sangue delle vittime lo riconobbe e scoppò a piangere dicendo «Figlio mio, com'è potuto arrivare vivo fin qui? Com'è potuto varcare le correnti paurose che ci dividono dai vivi per giungere in queste tenebre eterne? Vieni da Troia? Non sei ancora approdato la tua Itaca? Non hai ancora rivisto il dolce viso della tua sposa? No, madre mia. Non ho ancora toccato le sponde di Itaca e un destino avverso mi ha obbligato a vagare per i mari fin dalla mia partenza da Troia. Sono giunto qui per interrogare l'indovino Tiresia. Ma parlami di te, mamma. È stata una lunga malattia o una morte impovvisa, senza dolore, che ti ha condotta qua giù? E il mio vecchio padre vive ancora? E il mio figlio? E mia moglie? Dimmi, pensa ancora a me? Viva ancora nella nostra casa, curando nostro figlio i nostri beni? Oppure si è stancata di attendere e accettato di sposare qualcuno dei giovani di Itaca? Tua moglie non è mai uscita dal tuo palazzo e trascorre nel pianto i giorni e le notti. Nessuno straniero si è impadronito del tuo regno e tuo figlio veglia sui campi e gode degli onori del suo rango. Il tuo vecchio padre, per il dolore della tua assenza, se n'è andato dal palazzo reale e vive fra i suoi servi, in una capannuccia di terra. Il suo povero corpo è coperto solo da pochi stracci. D'inverno egli dorme sulle cenori del focolare, bagnandole di lacrime. D'estate si aggira lamentandosi per i vigneti e, a notte, si butta giù su un daciglio di foglie sotto le stelle, solo e triste. Povero vecchio! E lo stesso dolore che lo ha ridotto in questo stato mi ha condotta quaggiù. Non un male improvviso, né una lenta malattia, ma il desiderio di vederti, l'angoscia della tua lontananza e il rimpianto dei tuoi modi gentili, figlio mio. Per tre volte Ulisse corse verso la madre con le mani tese per abbracciarla, ma tutte e tre le volte l'ombra della madre si dileguò tra le sue braccia, come un sogno che svanisce all'alba e le braccia gli si richiusero, vuote, sul petto. Un dolore ancora più vivo lo attanagliò. Mamma, egli gridò, perché mi sfuggi? Perché non vuoi che sfoghiamo il nostro dolore piangendo l'un l'altro sulla spalla dell'altro, come quando eravamo nella nostra casa, a Itaca? Non è possibile, figlio. Io non sono che un'ombra impalpabile. Appartengo all'Ade ormai e tu appartieni al mondo dei vivi. Ma non piangere, Ulisse. Affrettati piuttosto a uscire alla dolce luce del sole. Torna a Itaca e quando un giorno presto giungerai da Penelope, le ripeterai ciò che ti ho detto di lei e la farai felice. Un sorriso tra le lacrime, un ultimo sguardo pieno d'amore e l'ombra d'Anticlea scomparve agli occhi del figlio. Oramai Ulisse non voleva più restare in quel tetro regno dei morti. Ardeva dal desiderio di tornare alla luce del sole e riprendere il viaggio verso la patria. Le parole della madre lo spronavano. Torna a Itaca! Ma altre ombre gli si affollarono attorno per bere il sangue delle vittime e poterli parlare. Compagni d'arme della guerra di Troia, morti di battaglia, o a loro rientro in patria, che gli chiedevano notizie del figlio o del padre o della sposa. Egli narravano le loro sventure. Agamennone, Achille, Patroclo e tanti altri ancora che avevano condiviso con lui dieci lunghi anni di guerra. Egli cercò di confortarli, dicendo loro ciò che sapeva e raccontando loro le imprese gloriose dei figli. Da Agamennone Ulisse udì nuove lodi della dolce Penelope. L'è lasciata in Itaca e gli disse moglie ancora giovinetta con un bimbo piccolo appeso al collo ed ella ti si è conservata fedele per tutti questi anni e ha allevato tuo figlio insegnandogli ad amarti. Felice te che troverai al tuo ritorno la tenera sposa e il figlio, divenuto uomo, che ti chiamerà col dolce nome di padre. Poi anche Agamennone se ne andò lunghi passi silenziosi per i brati fioriti. Ma un'ombra se ne stava in disparte corrucciata, senza parlare, con le braccia incrociate e gli occhi chini a terra. Ulisse la scorse e la riconobbe. Era l'ombra di Ajacete Lamonio, un antico compagno d'arme. Dopo la morte di Achille le armi degli eroi erano state poste in palio da Teti, sua madre, destinata ad essere aggiudicati al guerriero che avesse recato più danni a Troia. Erano rimasti in lizza Ulisse e Ajace e i prigionieri troiani avevano decretato la vittoria di Ulisse. Impazzito per il dolore, Ajace aveva fatto strage di una mandra di buoi, scambiandoli per i capi e soldati Achei, poi si era tolto la vita. E anche da morto egli non aveva dimenticato l'amarezza della sconfitta e covava un rancore ostinato contro l'amico che l'aveva vinto. Addolorato Ulisse gli si rivolse. Sei ancora sdegnato con me, Ajace? Eppure non è colpa mia di ciò che è successo. Tutti noi abbiamo pianto come piangemmo Achille. Su via, ti prego, vieni a parlarmi e modera lo sdegno del tuo animo generoso. Maleroe, inflessibile, tutto chiuso nel suo rancore, se ne andò senza parlare. Allora Ulisse fece cenna ai compagni di seguirlo e velocemente ripercorse il cammino lungo la riva del fiume oceano fino al punto in cui avevano lasciato la nave. Dopo pochi colpi di remo, il buio andò diradandosi attorno a loro. Poi, quasi di colpo, essi si ritrovarono di là della cortina di nebbia. Era l'alba e il sole che sorgeva coloriva il cielo di rosa e inargentava le onde del mare. Felici di sentirsi vivi, gli uomini remarono con tutte le loro forze verso l'isola di Circe, intonando un canto di gioia. Tornati vivi dal viaggio al di là dei confini del mondo, ecco i nostri greci a prodare di nuovo a notte all'isola di Circe. Eccoli stendersi sull'erba come la sera del loro arrivo e attendere le luci dell'alba. Spuntato il sole, apparve tra loro Circe. Era bella e misteriosa come la prima volta che l'avevano incontrata, ma non più ostile nei loro riguardi, bensì piena di tenera compassione. La seguivano le quattro ninfe, recando pane e carne e boccali di vino. Ristoratevi col cibo e col vino, e la disse. Voi che avete dovuto entrare vivi nel regno delle ombre e riposatevi oggi in questi boschi. Non appena spunterà il nuovo giorno vi rimetterete in mare, ma prima vi dirò tutto ciò che mi è noto sul vostro viaggio, affinché non incorreati in qualche nuova sventura. Fina sera gli uomini sedettero sui prati banchettando allegramente. Poi, quando le ombre della notte scesero sulla terra, essi si addormentarono presso la nave. Circe prese a loro Ulisse per mano, lo trasse in disparte, e dopo che egli lebbe raccontato ogni cosa sull'ade, gli disse. Tu hai fatto tutto ciò che dovevi, Ulisse, ma le tue peripezie non sono ancora finite. Sappi che sulla rotta che ti conduce a Itaca c'è l'isoletta delle sirene, strane creature dal viso bellissimo di donna e dal corpo squamogio di pesce, che col loro canto ammaliano i naviganti. Guardati da loro, Ulisse. Il loro canto è dolce e affascina, ma sulle sponde dell'isola vi ha un mucchio orrendo di ossa umane. Sono le ossa dei naviganti che si sono lasciati attrarre e sono morti lì, miseramente. Nessun uomo può resistere al loro canto, perciò tappa con la cera le orecchie dei tuoi uomini perché non lo odano. Tu ascoltalo pure se lo desideri, ma fatti prima legare strettamente all'albero maestro e dia ai tuoi compagni di non sciogliere i lacci, nemmeno se tu lo comandi. Oltrepassata questa isola ti si apriranno davanti due vie. Da un lato vedrai delle rupi scosciese, vomitanti fuoco in mezzo a onde schiumeggianti che si avventano su di loro con enorme fragore. Nessun uccello può solvorarle senza morire soffocato, nessuna nave può sfiorarle senza infranger fisi contro. Sono le erranti. Tienti lontano da loro. D'altra parte troverai due scogli. Uno si innalza fino al cielo, così liscio e ripido che nessuno potrebbe arrampicarvisi e la sua cima è sempre incappucciata di nubi. Nel mezzo si spalanca un'oscura caverna in cui sta inaguato Scilla, il mostro più crudele e disgustoso che si sia mai visto sulla terra. A dodici zampe canine munite di lunghi artigli e sei colli simili a visci di serpenti, terminati in altrettante orribili teste di cane guaiolanti lugubremente. Sprofondata per metà nella caverna, essa ne sporge con i colli e con le teste che volge attorno avvidamente in cerca di preda. Nessun nocchiero riuscì mai a oltrepassarle il leso. Tutti vennero inghiottiti dalle sue fauci smisurate. L'altro scoglio è più basso e sopra vi cresce un grande fico selvatico. A sui piedi c'è la terribile Cariddi che tre volte al giorno inghiotta il mare e tre volte lo rigetta formando attorno a sé un vortice mortale. Fa' attenzione, Ulisse, non t'accostare a Cariddi mentre inghiotta il mare e passa piuttosto velocemente accanto a Scilla. Meglio perdere alcuni dei compagni che venire travolti tutti quanti nella golla di Cariddi. Come posso lasciare che il mostro mi divori compagni, Circe? Dimmi, non potrei una volta schivata Cariddi affrontare e respingere Scilla prima che si avventi contro di noi? Ma credi dunque, o sventurato, che sia possibile uccidere Scilla? Non sai che essa è immortale? Se tu osassi opporti a lei, essa tornerebbe certo all'attacco e ti rapirebbe altri compagni. Scivola dunque via il più in fretta possibile, pregando la dea Cratei, madre di questo mostro, di trattenerla dall'avventarsi una seconda volta. Se riuscirete a scampare a quegli scogli, giungerete alla fiorente isola di Trinacrea, dove pascolano gli armenti del sole. Già Tiresia ti ha rivelato quello che potrà accadere. Intanto il cielo si andava tingendo di rosa e l'isola risuonava di canti di uccelli. Era l'aurora. Circe si incongelò da Ulisse e dai suoi compagni mentre essi salivano sulla nave, ma prima di lasciarli definitivamente vuole fare a loro un ultimo dono. Un vento propizio che fece gonfiare le vele e spinse la nave nella giusta direzione. Presto gli alberi amici dell'isola si andarono allontanando dalla vista dei naviganti. Poi, piano piano, tutta l'isola scomparve all'orizzonte. Allora Ulisse svelò ai compagni una parte della profezia di Circe. Amici, disse, voglio che anche voi sappiate ciò che mi ha predetto Circe, perché il destino non ci sorprenda impreparati. Presto giungeremo all'isola delle sirene, il cui canto, se l'ascoltassimo, ci condurrebbe alla morte. Dovremmo perciò passare oltre il più in fretta possibile. Io solo ascolterò il loro canto, ma voi mi legherete saldamente all'albero maestro, e se io dovessi comandare di sciogliermi, stringete ancora più forte le corde. Mentre Ulisse così parlava, il vento cadde di colpo. Il mare divenne liscio come l'olio, e ogni rumore cessò all'improvviso, come se una magica mano avesse imposto il silenzio. Un'atmosfera di attesa si creò attorno ai naviganti. Il sole alto nel cielo inondava di luce un mare immobile muto e una nave ferma in mezzo ad esso. Là, davanti a loro, c'era l'isola delle sirene, tutta ridente di fiori primaverili, ma su un lato si ergeva un mucchio di osso umane imbiancate dal sole. Sdraiate sul prato, affiorenti dall'acqua, si scorgevano alcune bellissime fanciulle dai lunghi capelli neri, sciolti sulle spalle, il cui corpo terminava in una verde e lucente coda di pesce. Gli uomini ammainarono le vele, ormai divenute inutili, e si misero a vogare di lena. Ulisse sminuzzò una grossa forma di cera in tanti pezzetti che ammorbidì tra le dita e tappò con questi gli orecchi dei suoi uomini, così che non potessero udire nulla. Tra di loro lo legarono strettamente, mani e piedi all'albero maestro, poi si rimisero a remare vigorosamente, lasciandosi dietro una bianca scè di spuma. Quando furono a breve distanza dall'isola, si levò dolcissimo il canto delle sirene. Portato dall'aria limpide tranquilla, esso giunse alle orecchie di Ulisse. Ulisse, illustre Ulisse, fermati, non andartene. Ulisse udive i richiami delle sirene, ma restava immobile, saldo nel suo derisiderio di raggiungere Itaca. Ulisse, continuava il canto, facendosi sempre più dolce, scendi a terra, ti canteremo tutti i segreti del mondo, conoscerai tutti i misteri della terra del cielo, saprai tutto, Ulisse. A quell'invito Ulisse non poteva resistere, aveva sempre avuto tanta sete di sapere e ora gli sarebbero stati svelati tutti i segreti del mondo. Cosa importavano quelle ossa biancheggianti lì in un angolo, doveva osare se voleva sapere. Fece ai compagni ceni disperati di scioglierlo da legami, li fulminò con lo sguardo, si divincolò, ma essi seguitarono a remare, senza muoversi dai loro banchi. Sole Euriloco e un altro si alzarono, ma per legare con altre corde il loro capo, per timore che riuscisse a liberarsi. Così la nave scivolò lontano dall'isola delle sirene, e il canto ammaliatore andò svanendo nell'aria come un neco che s'allontani. Solo allora i greci, toltasi la cera dagli orecchi, slegarono Ulisse e cominciarono a tempestarlo di domande. Che cosa ti hanno detto le sirene? Era davvero così bello il loro canto? Perché volevi che ti liberassimo? Non sapevano che un pericolo ancora più grave del primo incombeva su di loro. Ben presto, infatti, udirono un frastuono spaventoso, come di un'enorme cascata, e Ulisse capì che si stavano avvicinando a Caritti. Ancora alcuni minuti, poi gli uomini lasciarono cadere i remi, irrigiditi dallo spavento, e la nave si fermò di colpo, come un uccello a cui sono state tagliate le ali. Davanti a loro c'erano i due scogli preannunciati da Circe, quello di Scilla altissimo, tenebroso, tutto avvolto nella nebbia, e di fronte ad esso quello di Caritti, a cui piedi il mostro risucchiava il mare con orrendo o fragore, producendo un vortice così profondo che si poteva intravedere la sabbia azzurrina del fondo marino. E quando esso rigettava l'acqua inghiottita, era come un enorme caldai in ebollizione, sopra un fuoco fiammeggiante, e gli schizzi si levavano altissimi, corcogliando, fischiando, ruggendo in mezzo a un fumo acre e soffocante. Con gli occhi fissi su questo spettacolo agghiacciante, gli uomini si rifiutavano di riprendere i remi, ma era necessario proseguire il cammino a tutti i costi. Ulisse camminò avanti e indietro lungo le fila dei rematori, sforzandosi di infondere in loro la fiducia e il coraggio necessari per andare avanti. Che cos'è tutta questa paura, amici? Non siamo forse usciti sani e salvi da tanti pericoli? Non vi ho forse portati fuori con il mio valore e la mia stufia anche dall'antro di Polifemo? Coraggio dunque, abbiate fiducia in me e fate quello che vi dico. Chinatevi sui remi e vogate più in fretta che potete, senza preoccuparvi di nient'altro. Tu, timoniere, stai attento. Dirigi la nave lontano dal vortice e dal fumo e tienti accosto alla rupe più alta, altrimenti finiremo tutti nella voragine. Ancora una volta la voce di Ulisse, riuscì ad estare negli uomini l'ultima scintilla di coraggio che era loro rimasta ed essi ripresero a vogare con nuova lena. La nave si andava avvicinando ai due scogli, un pallore mortale copriva i volti di tutti, ma la remata continuava, regolare e veloce. Sotto l'abile guida del timoniere, la nave virò, si allontanò dal vortice e si accostò all'altro scoglio. Allora Ulisse, volle contravvenire per la prima volta a un consiglio di Circe. Anche se era una follia tentare di opporsi a Scilla, egli non poteva assistere inerte all'uccisione dei suoi compagni. Non visto da loro, si vestì all'armatura, impognò sadalmente due lunghe aste lucenti, poi salì sul ponte di Prora, pronto a scagliarsi contro Scilla quando fosse emersa dalla caverna. Era un uomo solo contro un mostro gigantesco e immortale, ma un impulso generoso lo spingeva a tentare l'impossibile per la salvezza dei compagni. Trascorsero i minuti, ma per quanto egli tenesse fissi gli occhi sulla nera parete della rupe, Scilla non appariva. Intanto il fragore del vortice diveniva sempre più assordante e gli schizzi più alti raggiungevano la tolda della nave inondandola. Ulisse si voltò un momento preoccupato verso Caritti. Allora, istantaneamente, Scilla sporse dalla caverna le sei orribili teste, afferrò oltrettanti uomini della nave e li sollevò in alto tenendoli stretti tra le mascelle. Un urlo disperato uscì dalle bocche degli sventurati. Ulisse, salvaci, salvaci! Ma egli fece appena in tempo a vederli sparire nelle fauci del mostro, con le mani angosciosamente tese verso di lui e gli occhi e la bocca e tutto il loro essere imploranti aiuto. Una pena acuta lo strinse e un'immensa pietà, la più grande che avesse mai provato in tutte le sue sventure, ma non poteva far nulla per loro, solo incitare i compagni superstiti a remare sempre più in fretta perché il mostro non facesse altre vittime. Quasi impazziti dallo spavento, ma spronati dalla voce ferma del capo, gli uomini continuarono a navigare con tutte le loro forze, finché la nave non si trovò al di là degli scogli, nel mare aperto. Meccanicamente continuarono a remare in silenzio, nello sforzo disperato di lasciarsi la morte dietro le spalle, finché anche Scilla e Cariddi non scomparvero all'orizzonte. Avrebbero anche potuto crederle un incubo ora, se non vi fossero stati quei sei posti vuoti tra di loro e il terribile ricordo degli sventurati che si dibattevano tra le fauci del mostro. Ancora una prova, la più dura forse, pensavo Ulisse, e poi avremmo via libera verso Itaca. Itaca, Itaca. Era il sogno di tutti, ma l'ultima prova le aspettava. Avrebbero saputo superarla? L'isola di Trinacria emerse presto all'orizzonte, verde, fertile, tranquilla, risonante dei mugiti e dei belati degli armenti. Essa apparve a naviganti, sfiniti dalla fatica e dallo spavento, comunosi nel deserto al viaggiatore assetato. Un rifugio sicuro per la loro nave, un dolce riposo sulla terra ferma, un prazzo abbondante di carni fresche e saporite. Che cosa avrebbero potuto desiderare di meglio dopo quella giornata d'incubo? Terra, terra, approdiamo, gridavano tutti. Maurisse ricordava troppo bene le predizioni di Tiresi e di Circe. Compagni, egli disse allora, comprendo la vostra stanchezza e assicuro che anch'io vorrei poter scendere a terra e riposare, ma bisogna che voi conosciate l'avvertimento di Tiresi e di Circe. Essi mi raccomandarono di evitare quest'isola, perché ci avrebbe causato sventura e morte. Dobbiamo dunque allontanarci di qui e navigare direttamente verso Itaca. Un mormorio di disappunto serpeggiò tra i rematori. È un uomo disumano, crede che tutti siano come lui, che non sente mai né sonno né fame. Finiremo per morire tutti in questo mare pieno di mostri. Ma forse gli uomini non avrebbero mai osato ribellarsi agli ordini di Ulisse, se Oriloco non avesse parlato con voce piena di rancore. Tu sei un barbaro, Ulisse, sei così forte che sembri fatto di ferro, invece che di carne e ossa come tutti i mortali, e pretendi che noi ti seguiamo nelle tue pazze imprese senza mai concederci un attimo di tregua. Vuoi dunque che erriamo di notte su questo mare infido? E se si alzasse un vento di tempesta, chi ci salverebbe dall'ultima rovina? Rispettiamo dunque il riposo della notte, scendiamo a terra e allestiamo la cena. Domani, appena spunterà il sole, saliremo di nuovo sulla nave e ripartiremo. Urla di assenso seguirono queste sue parole. Tutta la ciurma era un'anime nel desiderio di scendere a terra. Ulisse si trovò solo e dovetta consentire. Devo cedere alla forza, disse, poiché siete tutti concordi contro di me. Prima di scendere però, fatemi almeno questo giuramento, che non toccherete i buoi e gli agnelli che pascolano nell'isola, ma vi nutrerete soltanto dei cibi che ci ha offerto in dono Circe. I compagni giurarono solennemente, scesero a terra, allestirono un banchetto, bevero e mangiarono in abbondanza. Poi, avvolti nei loro mantelli, si abbandonarono al sonno esausti. Già due terzi della notte erano trascorsi e le stelle stavano per tramontare, quando a un tratto si levò un vento violentissimo che in breve tempo coprì il cielo di una nuvolaglia spessa, scura e minacciosa. La terra piombò in una completa oscurità. Con un sol uomo tutti si alzarono, corsero a tirare in secco la nave perché la furia delle acque non la trascinasse via e la misero al riparo in una grotta. Mentre erano intenti a quest'operazione, aveva cominciato a cadere una pioggia tornenziale, con lampi accecanti e tuoni spaventosi. Non si poteva neanche pensare alla partenza. Mettersi in mare con un tempo simile avrebbe significato andare incontro a una morte sicura. Bisognava attendere che il vento e la pioggia cessassero. Vedendo svanire ogni speranza di una pronta partenza, Ulisse radunò torna sei suoi compagni. «Abbiamo ancora abbondanza di cimo e di vino sulla nave», egli disse. «Potremo sostenerci fino alla fine del nostro viaggio. Se non volete morire, tenete le mani lontano dai buoi e dagli agnelli che avete visto pascolare. Essi sono sacri al sole e la sua ira ricadrebbe terribile su di noi se toccassimo il suo armento. Un lampo attraversò il cielo in quel momento, illuminando per pochi secondi i visi intenti degli uomini. In mezzo allo scatenarsi degli elementi, quando l'uomo si sente piccolo e debole, le parole di Ulisse assunsero alle menti dei compagni un valore più profondo di quanto egli aveva parlato loro sulla nave, sotto un cielo stellato. Sbigottiti dalla furia della natura impazzita e da quell'altra furia oscura che veniva loro predetta, gli uomini ripromisero per la seconda volta. Per un mese intero il vento devastò l'isola di Trinacria, stradicando alberi, sconvolgendo il mare. Per un mese intero esso tenne prigionieri greci come un invisibile muro. A poco a poco i viveri, per quanto saggiamente raffionati da Ulisse, cominciarono a scarseggiare. Poi anche l'ultimo pane venne consumato e l'ultimo orcio venne vuotato e nella stiva non rimase nulla. Allora gli uomini si sparsero per l'isola, cercando ognuno di procurarsi del cibo come meglio poteva. Alcuni si costruirono delle lenze e degli ami e nei rari momenti di bonaccia pescarono sulle rive del mare. Altri, armatisi dell'arco, andarono a caccia di uccelli nei boschi. Altri ancora si nutrirono di radici che scavavano dalla terra, dei granchi che strisciavano sulla spiaggia e dei datteri di mare attaccati agli scogli. Ma i pesci e gli uccelli erano scarsi. Il nutrimento non era sufficiente e i morsi della fame si facevano sentire sempre più forti. Gli uomini si aggiravano tristemente per l'isola, ossessionati dalla fame, sentendosi diminuire le forze di giorno in giorno. E avevano sempre negli orecchi, come un miraggio, il mugito degli armenti, e davanti agli occhi i loro mantelli lucidi e bianchi come la neve, che apparivano e sparivano tra gli alberi. Trenta giorni ormai erano trascorsi e Olisse un mattino vagava solo lungo una spiaggia dell'isola. Anche egli soffriva per quel digiuno prolungato e capiva che i suoi uomini non avrebbero potuto osservare ancora lungo fede al giornamento, né egli avrebbe avuto più la forza di opporsi loro se gli si fossero ribellati. Solo gli dèi ormai avrebbero potuti salvarli, proteggendoli dall'ira di Nettuno. Si lavò le mani nell'acqua del mare, solevò le palma al cielo e con tutte le forze che gli erano rimaste supplicò gli dèi di indicargli il modo per ripartire dall'isola. Poi, sfinito dal lungo digiuno, si addormentò profondamente. Ma mentre egli dormiva avvenne proprio ciò che aveva temuto. E Oriloco radunò i compagni e tenne loro il discorso che già da tempo andava rimuginando. Non è da sciocchi, disse con voce rosa, lasciarci morire di fame quando attorno a noi pascolano tanti magnifici buoi? Che aspettiamo? Di cadere a terra e di farci tivorare dai corvi? Bando agli scrupoli, dunque. Prendiamo alcune di queste giovenche e saziamoci con le loro carni. Se poi il sole si addirerà con noi, una volta giunti in patria, gli innalzeremo un tempio votivo per placare il suo sdegno. E se ci negherà il ritorno a Itaca e distruggerà in mare la nostra nave, io vi dico questo. Preferisco morire naufrago e annegato piuttosto che consumarmi di fame su quest'isola deserta. Hai ragione, risposero dieci, venti voci. Meglio morire annegati, ma sazi, che sopportare questo supplizio. Prendiamo i buoi del sole e poi avvenga quel che deve avvenire. Il timor di venir meno al giuramento, che li aveva trattenuti fino a quel momento, svanì come per incanto, ed essi si precipitarono verso le giovenche, ne circondarono alcune tra le più belle, e dopo averle consacrate agli dèi, le sgozzarono e le scuoiarono. Poi ricopersero di grasso le parti destinate agli dèi, li versarono sopra acqua di mare in luogo del vino rituale e le porsero ad ardere sopra il fuoco. Tutto il resto venne infilzato sugli spiedi e messo a rosolare. Un dolce aroma di carne arrostita portato dal vento si diffuse per l'isola. Frattanto Ulisse si era destato e, colto da uno strano presentimento, si era avviato frettolosamente verso la nave, ma non era ancora giunto in vista della spiaggia quanto sentì nel vento l'aroma delle carni abbrustolite, e di colpo intuì ciò che era accaduto. Mille pensieri, mille paure gli turbinavano nella mente mentre percorreva di corsa l'ultimo tratto che lo separava dai compagni. Giunse in vista della riva del mare, i fuochi accesi, le carni infilzate sugli spedi. Era dunque vero, anche l'ultimo filo di speranza cadde dal suo cuore. Inutile, era ormai ogni rimprovero, il male fatto era irreparabile. Intanto, nella dimora degli dèi, si stava decidendo il destino dei greci. L'ampezie, una delle due ninfe che custodivano gli armenti, era corsa a riferire l'accaduto al sole, e questi colmo d'ira aveva chiesto udienza al re di tutti gli dèi. Giove, egli disse mentre il suo manto infocato incendiava l'aria all'intorno, Ulisse e i suoi compagni hanno usato trucidare le mie giovenche predilette. Se la loro punizione non sarà pari alla loro colpa, io andrò a portare la mia luce al popolo dei morti. «Continuo a risplendere sui vivi, o sole», gli rispose Giove gravemente. «Con un solo tocco di uno dei miei fulmini, io sprofonderò la nave di Ulisse negli abissi del mare». Strane cose accadevano nell'isola di Trinacria. Le pelli dei buoi uccisi strisciavano sul terreno, e le carni infilzate sugli spiedi muggivano lamentosamente. Erano certi i primi segni della collera di Giove, ma ormai gli uomini avevano oltrepassato i limiti del male ed erano abbruttiti dalla fame. Per sei giorni, pur con le orecchie quei muggiti spaventosi, si cibarono delle carni proibite. All'alba del settimo giorno il vento cadde di colpo. Ulisse diede l'ordine di salpare e la nave si allontanò dall'isola. Per dove oramai, per Itaca o per i Lidi senza luce dell'Averno, come si sarebbe manifestata la vendetta del sole? Trascorsi i momenti euforici della ribellione, ogni uomo si sentiva disperatamente solo davanti al suo destino, e il cuore di ognuno si stringeva nell'angoscia dell'attesa. Solo Ulisse si preparava a lottare fino allo stremo delle forze. Poi la catastrofe avvenne, quasi all'improvviso. Una novoletta azzurra, innocua all'apparenza, si fermò sopra di loro. Una raffica di vento si scagliò sibilando contro la nave, spezzando le fumi dell'albero maestro che precipitò con l'antenna e la vela sulla testa del timoniere. Col cranio sfondato, questi cadde a piombo nel mare. Infine, un guizzo nel cielo e con uno schianto un fulmine colpì la nave. Più volte essagerò su se stessa vorticosamente, riempendosi d'odore di zolfo, e gli uomini tramoltiti dal fulmine, vennero scagliati in mare, un mare livido e sconvolto, in cui i loro corpi sembravano neri corvi svolazzanti in un cielo di piombo. A uno a uno essi vennero inghiottiti dalle acque, finché un solo essere umano rimase sul mare in tempesta. Dal frammento di nave rimasto a galla, la nuda chiglia un uomo guardava con immensa pietà e raccapriccio i compagni scomparire tra i flutti. Era Ulisse, innocente e perciò risfarmiato dal fulmine, disperatamente aggrappato al legno con la sua volontà ostinata e il coraggio solo. Con una correggia di cuoio egli legò strettamente l'albero alla chiglia, poi si lasciò trascinare dal vento. Così scese la sera, gli ultimi raggi di sole scintillarono sulle acque. Poi fu il buio completo di una lunga notte senza runa, ma un mare nero come l'inchiostro, battuto incessantemente da un vento gelide, con ondate alte come case che si riversavano scrociando su quel rottane galleggiante. Frustato dalle onde, agghiacciato dal vento, sfinito da quel continuo salire in cima ai marosi e poi precipitare in fondo ai baratri da cui temevo ogni volta di non poter più uscire, Ulisse non rinunciava alla lotta, conservava nel profondo del cuore, con tutta l'energia che gli era rimasta, la disperata volontà di vivere. E venne l'alba. Il mare riprese luce e colore, il cielo andò schiarendosi lentamente, finché si poterono scorgere sul fondo due scogli, verso cui il relitto, portato dalla corrente, si andava dirigendo a tutta velocità, due scogli tetri e minacciosi come briganti in agguato, Scilla e Cariddi. Trascorse poco tempo e il relitto li raggiunse, proprio mentre Cariddi inghiottiva le acque spumeggianti. Ancora un attimo e Ulisse sarebbe precipitato nella voragine insieme alla chiglia della sua nave. Ma con un balfa acrobatico, egli si afferrò l'albero di fico che sporgeva a metà dello scoglio e vi si tenna grappato mentre il legno scompariva nel vortice. Non poteva né appoggiare i piedi né arrampicarsi fino in cima allo scoglio, perché il ramo da cui pendeva era troppo sporgente e isolato dagli altri. In quella posizione, appeso con la sola forza delle braccia sopra la voragine, egli attese tutta la giornata. Solo al tramonto Cariddi rigettò il relitto e subito Ulisse, lasciando la presa, si lasciò cadere con un gran tonfo nell'acqua non lontano da questo. Con le ultime forze rimastegli, lottando contro le onde, riuscì a raggiungerlo, vi si so, poi facendo remo delle mani, cercò di portarlo al di là degli scogli. Forse un dio pietoso lo protesse in quel momento, perché Scilla non lo vide ed egli riuscì a superare lo stretto. Per nove giorni e nove notti ancora il relitto vagò nel mare aperto, sballottato dalle onde, portando aggrappato un uomo assetato, affamato, sfinito, ma tenacemente attaccato alla speranza. Solo cielo e mare per nove eterni giorni, sole che bruciava e feriva, vento che disseccava, ondate, sete, buio e paura. Infine, la decima notte, un'isola si profilò all'orizzonte. La corrente vi sospinse il relitto, lo portò ad arenarsi sulla spiaggia. Ulisse ne scese barcollando, ma fatti pochi passi, cadda terra svenuto. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, sette lunghi anni trascorsero. Che ne fu in questo periodo di Ulisse, che lasciamo una notte svenuta sulla spiaggia di un'isola sconosciuta? Spostiamoci un momento con l'immaginazione. Abbandoniamo il mare e rechiamoci in tessaglia, fin sulla cima incappucciata di nubi del Monte Olimpo. Qui sorgeva, secondo le credenze degli antichi, la dimora degli dèi. Lì troviamo tutti riuniti nella grande sala del Consiglio, seduti sui loro seggi d'oro, avvolti in manti multicolori, con al centro Giove il re degli uomini e degli dèi. Fitti, ascoltiamo. Proprio in questo momento stanno discutendo sugli eroi della guerra di Troia. Sono ben sciocchi e fastidiosi questi mortali, sta dicendo Giove, che se la prendono con noi per mali di cui loro unicamente hanno colpa. Sì, proprio loro, perché vollero infrangere contro tutti i nostri avvertimenti le leggi umane e divine. Ma che puoi dire di Ulisse? L'interrompe Minerva, la dia della sapienza e della guerra, con gli occhi azzurri scintillanti di sdegno, che da sette anni è prigioniero della ninfa Calipso, nell'isola di Ogigia, su cui nafragò dopo aver perso tutti i compagni. Egli non ha mai infranto nessuna legge umana né divina, ti ha sempre fatto i sacrifici dovuti e vince in saggezza tutti i mortali. Eppure se ne sta là, prigioniero della ninfa, senza una nave né un amico con cui affrontare il viaggio di ritorno, e piange e si dispera, tormentato dalla nostalgia della sua patria, qual è dunque la causa del tuo rancore contro di lui? Che dici, Minerva? Io non provo alcun rancore contro Ulisse. Che anzi, miei caro, soprattutto i mortali. È Nettuno che lo odia, da quando gli ha ciecato il figlio Polifemo, e che lo costringe a errare senza fine sui flutti del mare. Ma via! Pensiamo al modo per liberarlo dall'isola e farlo tornare in patria. Nettuno non vorrà certo mettersi a combattere contro tutti noi. Ma perché Calipso si ostina a tenerlo prigioniero? Chiede uno degli dèi. La ninfa l'ha raccolto sfinito sulla riva del mare, risponde Minerva. Lo ha curato, nutrito, ospitato e a poco a poco si è innamorata di lui e vorrebbe che egli la sposasse. Ma Ulisse non desidera altro che rivedere il fumo levarsi dai tetti della sua Itaca, e poi non gli importa di morire. Ascolta la mia proposta, oh padre Giove, perché non mandiamo l'alato Mercurio alla ninfa Calipso ad annunciarle il tuo fermo volere che Ulisse faccia ritorno in patria? L'idea è buona, risponde Giove. Bene, ci penserò. E come spesso accade anche presso i mortali, decide di aggiornare la seduta per poter prendere una ponderata decisione. E passano i giorni e le settimane, ma la famosa decisione non viene presa. Forse gli dèi se ne sono già dimenticati. Ma ecco che Minerva rinnova la sua richiesta con gli occhi ancora più scintillanti di sdegno. Si è recata a Itaca per incoraggiare il figlio di Ulisse, Telemaco, a frenare la prepotenza dei giovani che aspirano alla mano della madre e ai beni del padre. E al suo ritorno ha scoperto che il suo protetto langua ancora nell'isola di Ogigia. Eccola che strepita in mezzo al consiglio degli dèi, con l'elmo fiammeggiante in capo e nelle mani le gira lo scudo su cui è raffigurata la terribile testa della Gorgone. Dunque Ulisse è ancora prigioniero di Calipso. In Itaca il suo popolo, che egli reggeva come un padre, non si ricorda più di lui ed egli trascorre i giorni nell'ozio e nel pianto, senza la minima possibilità di tornare in patria. Nessun re si mostri più giusto e pietoso dal momento che il saggio Ulisse è stato ricompensato in questo modo. — Calma, ti Minerva, risponde Giove, un po' sconcertato dalla collera di questa sua dinamica figlia. Non avevi pensato tu stessa di inviare Mercurio a Calipso? Ebbene, sarà fatto subito. Mercurio, mio antico e fedele messaggero, recati in fretta dalla ninfa Calipso sull'isola di Ogigia e annunciale il mio fermo volere che Ulisse faccia ritorno in patria. Dille che dovrà partire solo su una zattera e che dopo venti giorni di demagrazione raggiungerà la terra dei Feaci, i quali lo ospiteranno con molti onori, lo colmeranno di doni e lo riporteranno a Itaca su una delle loro navi. Giove non aveva ancora finito di parlare che già Mercurio, infilatosi talari sui calzari alati e presi in mano il caduceo, sfrecciava via veloce come il vento. Giunto sui giochi della Pieria, si tuffò a piombo nel mare, poi come un gabbiano sfiorò lieve e veloce la superficie delle acque, tracciando sulle onde una bianca strisce di spuma. Raggiunse Ogigia, percorse, quasi volando, i boschetti le radure dell'isola. Ecco, da albero a albero, da cespuglio a cespuglio, da chiazza di sole e a macchia d'ombra, corre l'agile figura di Mercurio, come un cerbiatto alla scoperta del mondo. Giunge infine in un bosco che vince in bellezze precedenti. Pioppi dritti e snelli, ontani frondosi e bruni cipressi profumati si rizzano verso il cielo, ospitando tra i rami moltini di duccelli. Sotto di loro, nell'erba verde intatta dei prati, appaiono, ora in boccio, ora in fiore, morbide viole vellutate dall'intenso profumo. Da una sorgente sgorga l'acqua limpida di quattro ruscelli che scorrono serpeggiando tra il verde del bosco, rispecchiando le tenere viole e le piante, mescolando il loro fresco mormorio ai canti e gridi di richiamo degli uccelli. E, in fondo al bosco, su una piccola radura, ecco la grotta di Calipso, tutta ricoperta di rami di vite rampicante, carichi di grappi d'uva amatura. Dall'interno della grotta si effonde per tutto il bosco la fragranza del cedro e del tiglio che bruciano in un'allegra fiammata. Al chiarore del fuoco la ninfa, chi nelle trecce nerissime sul telaio lancia tra filo e filo la spola d'oro e canta dolcemente. Preso da commossa meraviglia, Mercurio sostò sul limitale del bosco a guardare. Poi, sforzandosi di scuotersi da quest'atmosfera di sogno, entrò nella grotta. La ninfa sollevò su di lui due occhi malinconici di un azzurro intenso e subito lo riconobbe. Gli dei, infatti, non possono celarsi l'uno alla vista dell'altro. Ella impallidì un poco, forse intuendo il motivo della venuta di Mercurio, e una domanda ansiosa le salì alle labbra, ma il sacro dovere dell'ospitalità le impose di far accomodare l'ospite e di rifocillarlo prima di rivolgergli le domande. Così, con un sorriso, lo fece sedere alla sua mensa presso il fuoco e gli porse Nettare e Ambrosia, la bevanda è il cibo degli dei. Ristorati dalle fatiche del viaggio, Mercurio, disse gentilmente, poi mi farei conoscere lo scopo della tua visita. Per un poco Mercurio tacque. Il dover trasmettere una notizia che avrebbe addorato la dolce Calipso gli causava non poco imbarazzo e non sapeva da che parte incominciare. Se vuoi proprio conoscere la verità, Calipso, la saprai, presa dire, cercando di ritardare il più possibile il suo ingrato messaggio. Questo viaggio è stato voluto da Giove. Sì, se fosse stato per me non avrai certo percorso tante miglia per venire in quest'isola deserta in cui nessuno può firmi sacrifici, ma chi è lecito trasgredire i comandi del padre degli dèi? Dunque, devo darti questo annuncio. Giove mi disse che presso di te vive il più sventurato tra i combattenti della guerra di Troia, il quale, dopo essere stato trascinato sul mare di sventura in sventura, è approdato infine ai tuoi lidi. Ora Giove comanda che tu prenda subito congetto da lui e lo lasci partire dall'isola, perché il suo destino non è di morire lontano dalla patria, ma di rivedere la sua terra, i suoi amici e la sua casa. Mentre Mercurio parlava, Calipso aveva chinato il capo perché egli non le scorgesse gli occhi velati di lacrime. Per lungo tempo non parlò in lotta con il pianto e quando infine rispose la sua voce era piena di amarezza. Siete ben crudeli e ingiusti voi, o dei che abitate sull'Olimpo. Siete invidiosi della mia felicità e volete portarmela via. Io l'ho raccolto, morente, vicino ai miseri resti della sua nave che Giovi stesso gli aveva sfasciato e distrutto senza pietà. L'ho portato nella mia grotta, l'ho curato e nutrito e con le mie erbe mediche l'ho ricondotto alla vita. Gli avrei offerto in dono, se egli le avesse accettate, l'immortalità e l'eterna giovinezza. Ma è vero, tu hai ragione, Mercurio, non si può contravenire agli ordini di Giove. Sì, Ulisse partirà, non sarò certo io a mandarlo via, né potrò dargli naghi e compagni, ma se proprio egli vorrà andarsene lo aiuterò a raggiungere, salvo la sua dolce Itaca. Fai bene, divina Calipso, a rassegnarti, rispose Mercurio gentilmente. Giove avrebbe potuto adirarsi gravemente con te se tu gli avessi disobbiedito. Invita Ulisse a costruirsi una zattera e dagli tutti i consigli e l'aiuto che ti sono possibili. Ti assicuro che egli giungerà vivo a Itaca, toccando prima l'isola dei Feaci. Addio, Calipso. E il dio, con un rapido sorriso, sparì tra gli alberi del bosco. Calipso allora uscì dalla grotta e si recò sulla riva del mare, dove Ulisse, seduto su uno scoglio, guardava l'orizzonte con occhi pieni di nostalgia. La ninfa sedetta accanto a lui e gli parlò dolcemente. Non essere triste, Ulisse, non ti terrò più prigioniero nella mia isola, poiché tu desideri tanto andartene. Tra pochi giorni, forse domani stesso, potrai partire. Costruisciti, con gli alberi del bosco, una forte zattera e poi salpa tranquillo. Io ti darò cesti di candido pane, anfore pieni di acqua purissima e di vino rosso, che ti ritempererà durante il viaggio. Ti darò anche caldi abiti contro il freddo della notte e un vento amico che ti farà giungere sano e salvo alla tua terra, purché gli idee dell'Olimpo te lo permettano. Ma Ulisse non si rarlegrò queste parole come l'aveva pensato. Era stato troppo provato dalle sventure per non temere il pericolo e l'inganno di una felicità che gli giungeva così inaspettata. Sollevò il capo e fissò a lungo lo sguardo indagatore negli occhi della ninfa. Cosa stai tramando, Calipso? disse infine. A cosa è dovuta questa liberazione improvvisa dopo sette anni di prigionia? Non è certo il mio ritorno in patria che ti preme. Credi forse che potrei sopravvivere con una semplice zattera su un mare in tempesta? Quando con un'intera flotta veloce e ben costruita tutti i miei uomini sono periti miseramente? No, io non affronterò un nuovo viaggio se prima non mi giurerai solennemente che le tue parole non nascondono un inganno. Calipso ebbe un sorriso malinconico. Non ti fidi di me, Ulisse? Eppure io farei qualsiasi cosa pur di vederti felice. Ma poiché lo desideri, io ti giuro sulla terra, sul cielo e sullo stige che non sto tramando alcun inganno contro di te. Ah, Ulisse, Ulisse, come posso convincerti che anch'io possiedo un cuore che ama e soffre e prova compassione e non un cuore di pietra? Ma già il pensiero di Ulisse era lontano. Già la sua mente era impegnata nella costruzione della zattera e vagava sulle onde del mare verso la reggia lontana dove l'attendevano la moglie e il figlio. E anche la sera nella grotta con lo sguardo perduto a contemplare i giochi della fiamma egli inseguiva sogni e ricordi e le belle immagini che gli si creavano davanti illuminavano il suo viso di gioia. In vano Calipso tentò di indurlo a restare offrendogli ancora una volta i suoi doni immortali. Il giorno dopo all'alba Ulisse si misa al lavoro. Tagliò con un'ascia affilata venti e robusti alberi. Li pareggiò, li levigò. Poi dopo averli forati con succhielli li incastrò ben bene l'uno nell'altro servendosi di cavicchi. Costruita la base della zattera vi stese sopra delle assi sostenute da puntelli formando così una piattaforma sopraelevata che permettesse alle onde di scorrere tra il fondo della zattera e la piattaforma stessa. Vi eresse poi l'albero con l'antenna e vi restò il timone. Accatastò rami di salici sui fianchi della zattera per ripararla dai flutti e altra legna sul fondo come zavorra. Da una grande tela ritagliò una vela che legò con le funi dell'albero. Collegò poi l'albero alla base con le sartie. Infine il quarto giorno la sua opera era compiuta facendo leva con pezzi di legno e gli spinse in mare l'imbarcazione. Adesso la zattera era là ondeggiante sulle onde con la bianca vela gonfiata dal vento le corde tese e vibranti e sembrava invitarlo a partire. Più nulla ormai lo tratteneva era libero. All'alba del quinto giorno egli prese congedo da calizzo. La ninfa gli donò nove vesti un cesto pieno di vivori un'anfora colma di vino e una di acqua e un vento tranquillo che increspando dolcemente le onde l'avrebbe spinto verso la meta. Un ultimo graffio affrettato un balzo sulla zattera uno strappo all'ancora e già Ulisse felice veleggiava lontano mentre Calipso figurina malinconica ritta sulla sponda dell'isola si andava confondendo con lo sfondo del bosco. Silenziosamente la zattera scivolava sulle acque tranquille. Ulisse reggendo il timone con gli occhi attenti e il cuore saldo vegliava. Sul suo capo le notti si alternavano i giorni, il cielo stellato e la luce solare. Di notte la stella polare, di giorno il lento cammino del sole gli facevano da guida. Nella grande quiete notturna egli contemplava le costellazioni scintillanti nel cielo, le luminosi pleadi, le due orse, il cacciatore Orione e una calda gioia e una dolce speranza gli riempivano il cuore. Diciassette giorni trascorsero così. All'alba del diciottesimo gli si stagliò dinanzi la costa boscosa dell'isola dei Feaci come gli aveva predetto Calipso. Forse le sue sventure erano giunte al termine. Ma in quel momento Nettuno, di ritorno dall'Etiopia, lo scorse navigare felicemente verso la meta e fu preso da un furore indicibile, con un colpo di tridente, radunò i venti, sconvolse le acque, copersi il cielo di grosse nuvole nere. Fece piombare sul mare un'oscurità che presagiva tempesta. Le onde si gonfiarono tumultando attorno alla zattera, trascinandola nei gorghi, venti geli della investirono da tutti i lati, lacerando la vela e spezzando le corde, frustando il navigante che tuttavia resisteva ancora, aggrappato al timone. Poi un'ondata altissima si riversò ruggendo su di lui. Egli sentì uno schianto, un colpo tremendo alla schiena, e fu strappato via dal timone e gettato in mare. Nello stesso momento l'albero e l'antenna, spezzati dal turbine, cadevano in acqua. Per un tempo interminabile Ulisse rimase sott'acqua, nonostante i suoi sforzi disperati per risalire alla superficie. Gli abiti, inzuppati, lo trascinavano verso il fondo. L'enorme ondate lo ributtavano sotto ogni volta che egli riusciva ad emergere. Trattenne il respiro più che poté. Poi i polmoni, non resistendo più, si dilatarono e l'acqua gli entrò a fiotti dal naso e dalla bocca soffocandolo. Allora, con un ultimo sforzo, riuscì a portarsi sulla superficie e sporse la testa dal mare. L'aria che gli rifluì nei polmoni gli ridiede forze sufficienti per raggiungere la zattera. Aggrappandosi alla sponda, sissò sulla piattaforma e vi si lasciò cadere bocconi. Mentre, estremato, con gli occhi brucianti di salsedine, si lasciava trascinare dai flutti in attesa del prossimo assalto, vide emergere dalla cresta spumeggianti di un'onda una figura di donna, avvolta in un velo bianco, che venne verse di lui e sedette sulla zattera. Chi sei? chiese Ulisse non credendo ai propri occhi. Sono Ino Leocotea e la rispose con una voce chiara e squillante che superava il frastuono del mare. Sono una dea marina e proteggo i naviganti. Tu mi fai pena, poveretto, così perseguitato da Nettuno, eppure così coraggioso, e voglio aiutarti. Ascolta, togliti gli abiti e affibbiati questa cintura fatata che ti terrà galla sulle acque infuriate. Poi buttati in mare e raggiungi la riva a nuoto. Solo così potrai salvarti. Ma non dimenticare, non appena sei raggiunti in salvo, rendimi la cintura, gettandola in acqua col capo voltato all'indietro. Addio e buona fortuna. E già la dea si era tuffata, tornando alla sua azzurra dimora sul fondo del mare. Ulisse rimase a guardare attonito il punto del mare dove Ino si era immersa. Devo aver avuto una allucinazione, pensava. Forse è stata la troppa acqua bevuta. Ma allora ha questa fascia? E se fosse vero? Se veramente una dea marina si fosse impietosita dei miei mali e volesse salvarmi? Farò così. Resterò sulla zattera finché mi reggerà. Poi, se proprio sarà necessario, mi butterò in mare fidandomi di ciò che ho udito. In quel momento un'ondata gigantesca dissapò ogni suo dubbio. Investendo in pieno la zattera la sfasciò completamente e Ulisse si trovò sbalzato lontano a cavalcioni di un solo tronco. Senza perdere un attimo egli si spogliò dei suoi abiti, cinse la fascia fatata e si gettò in mare, acciggendosi a nuotave per tenersi a galla. Ma non ve ne fu bisogno. La cintura lo sorreggeva sull'acqua senza che egli dovesse fare alcun sforzo. La strana creatura aveva detto il vero. Per due giorni e due notti Ulisse vagò la deriva, trascinato dalle onde. Aveva fame e sete. Le provviste dati da Calipso erano andate perdute nel naufragio della zattera. Il freddo lo tormentava, soprattutto la notte, in modo insopportabile. L'oscurità che lo avvolgeva da ogni parte non gli lasciava intravedere nient'altro che un mare cinerio, rabbioso e spumeggiante. All'alba del terzo giorno, infine, i venti cessarono di infuriare. Il mare cominciò a calmarsi. L'orizzonte si illuminò lentamente e Ulisse, trasportato in alto da un'onda, rivide, agguzzando lo sguardo, la costa dei feaci. Con forze rinnovate dalla speranza, presa a nuotare a quella volta, ma giunto più vicino un rumore scrosciante proveniente da terra, lo obbligò a fermarsi di nuovo. Si accorsa allora che la costa, fin dove poteva vederla, era tutta irta di scogli a gozzi, contro cui andavano a infrangersi violentemente le onde del mare. Dove trovare un approdo in un lido così inospitale. Senza dubbio si sarebbe sfracellato contro gli scogli se fosse andato avanti, ed altronde il mare non era in alcun punto abbastanza basso da permettergli di appoggiare i piedi a terra e di far resistenza. Stava ancora considerando che cosa gli conveniva fare, quando un cavallone gli si rovesciò addosso inaspettato e lo trascinò con la velocità di un siluro dritto contro gli scogli. È finita, pensò Ulisse, ma non voleva ancora darsi per vinto. Tesi in avanti le braccia, i rigidi muscoli, e quando si trovò catapultato contro lo scoglio, lo afferrò saldamente con le mani, tenendosi lontano con tutte le forze col resto con il corpo. Le punte gli penetrarono nelle mani lacerandogliele, l'acqua gli passò sopra la testa, ma ancora una volta era salvo. Con le mani e le braccia sanguinanti, egli resistette, finché l'onda, rifluendo, non lo strappò via con la forza dallo scoglio, riportandolo lontano. Resistendo ai flutti che lo sospingevano contro il lido roccioso, cercò allora di costeggiare, perlustrando intanto con lo sguardo la riva per vedere se riusciva a scorgere un possibile approdo. Ancora una volta la sua volontà d'uomo era impegnata contro la forza brutale della natura, ogni fibra del suo essere tesa nella lotta. Era allo stremo delle forze, quando scorse, proprio dietro uno spuntone roccioso, la placida foce di un fiume. Non vi erano scogli ed era protetta dai venti, il posto ideale per toccar terra. Rivolse una breve e intensa preghiera al dio del fiume, poi, risolutamente, raccogliendo le ultime energie, nuotò verso la riva. Giunto dove il fiume si abbassava, con infinito sollievo toccò terra, poi, passo dopo passo, preso da una stanchezza mortale, si trascinò avanti verso la spiaggia. Uscì dall'acqua, fece un altro passo, poi non resse più. Le ginocchia gli si piegarono ed egli cadde riverso sull'arena, senza più voce né respiro. Per molto tempo le acque del fiume lambirono il suo corpo inerte. Infine, lentamente, egli riprese conoscenza. Con uno sforzo tremendo si alzò e, rammentando l'avvertimento di Hino, si sfilò la fascia e la gettò nel fiume in direzione della foce. Afferrata dalle correnti, essa scivolò velorce verso la dimora della dea. Poi Ulisse si guardò attorno smarrito. Quella costa sconosciuta, su cui già scendevano le ombre della notte, non sembrava offrire nessun rifugio a chi, come lui, giungeva spossato nel fisico e nell'animo. Risolse di avventurarsi nel bosco che nereggiava davanti a lui, per cercare un rifugio che lo proteggesse dal freddo e dall'umidità della spiaggia, a cui non avrebbe certo potuto resistere durante la notte. Scoprì infatti due vecchi ulivi, abbarbicati l'uno con l'altro, che formavano in basso una comoda nicchia piena di foglie, riparate dal vento e dagli animali selvatici. Grato di questo asilo inaspettato, Ulisse vi si lasciò cadere. Si coperse di foglie finché non si sentì pervadere da un dolce calore. Poi, per la prima volta dopo venti giorni, si addormentò di un sonno profondo. Ulisse era immerso nel sonno nel suo rifugio silvestre e tutta la scheria all'isola di Feaci dormiva attorno a lui. Dormivano gli animali del bosco, tranne le civette che spalancavano i loro occhi gialli nella notte. Dormivano i Feaci nelle loro case tranquille. Dormiva il re Alcinò nel suo palazzo risplendente. Dormiva e sognava nella sua stanza armoniosa, la principessina Nausicaa, e un leggero sorriso, le alleggiava sul viso colorito dal sonno. Minerva, infatti, era entrata, lieve come un soffio di vento, nella cameretta della fanciulla e, assunte le sembianze di una sua cara amica, si era fermata al suo capezzale e ora le parlava nel sogno. Perché sei così pigra, Nausicaa? le diceva. I tuoi abiti sono sparsi qua e là, tutti in disordine, e tu sai che giungerà presto il giorno delle tue nozze, in cui dovrai indossare vesti leggiadre e offrirne in dono a che ti accompagnerà la casa del tuo sposo. Su, dunque, alzati in fretta non appena spunterà il sole, fai aggiogare i buoi al cocchio e regati al fiume a lavare i tuoi panni. Poi i primi raggi del sole, filtrando attraverso la finestra, dissiparono il sogno e costrinsero Minerva a tornarsi, nel lieve come era venuta, nella sua aerea di mora nell'Olimpo. E Nausicaa, destatasi col cuore pieno di trepida meraviglia, balzò subito dal letto per raccontare ai genitori lo strano sogno che aveva fatto. Scese saltellando le scale, sollevò la tenda ed entrò impetuosamente nella grande sala da pranzo, dove già accanto al focolare circondata dalle sue ancelle, la madre, a rete, stava filando la lana. Sollevando il capo, la madre sorrise teneramente a quella sua giovane figlia dagli occhi ridenti, colore dell'uva matura, e la bocca sempre pronta al sorriso e al canto. Il padre le rivolse uno sguardo affettuoso, mentre usciva per recarsi al concilio dei capi ad amministrare la giustizia, ma Nausicaa gli corse incontro, gli saltò il collo e gli disse con voce carezzevole, Babbo mio dolce, non vorresti farmi attaccare il carro perché io possa andare al fiume a lavare? Le tue vesti devono essere sempre candide e immacolate quando si del concilio, e anche i miei cinque fratelli hanno bisogno di vesti puliti. Sai, due di loro sono sposati, ma tre sono ancora giovani e ci tengono ad andare al ballo con i panni sempre di bucato, e questo è compito mio. Con giovanile ritrosia la fanciulla non osò fare cena al padre delle sue nozze, ma egli intuì ciò che passava nell'animo della figlia, sorrise e concesse il permesso desiderato. Subito diede ordine ai servi di trar fuori la biga e di aggiocarvi buoi, mentre Nausicaa, aiutata dalle ancelle, correva per le stanze a raccogliere le vesti da lavare. Poco dopo riapparve sulla porta con le braccia cariche di panni bianchi o ricamati o in tessuti di porpora. La madre intanto, con affettuosa premura, si affrettò a riempire un paniere di cibi vari e saporiti e versare del buon vino in un'otre di pelle caprina. Infine il carro fu pronto e le fanciulle vi salirono tra grida e allegre risate. La regina porse loro un'ampolla d'oro piena d'olio di oliva affinché si ungessero dopo il bagno e lanciò un'ultima raccomandazione che venne sommersa dal rotolio del carro che si allontanava. Nausicaa presi in mano le briglie lucenti e spronò i buoi che avanzarono veloci mentre le compagni intonavano un canto, felici di quella passeggiata mattutina nell'area balsamica del bosco. Non appena giunta il fiume e lavatoi traboccanti d'acqua corrente, essi sciolcero i buoi e li mandarono a pascolare sull'erba. Poi, trasportando a braccia i panni dal cocchio al lavatoio, li gettarono nell'acqua limpida e si misero a batterli, a sciacquarli, a torcerli in un'allegra gara di risa e di spruzzi finché anche la più piccola macchia non fu scomparsa. Allora li stesero ad asciugare sulla ghiaia, si tolsero le tuniche e si tuffarono nel fiume, guizzando nell'acqua inargentata e riempendo l'aria di giocondi richiani. Poi si unsero con l'olio d'oliva, si rivestirono e si disposero in cerchio sull'erba, accingendosi a consumare con giovanile appetito le provviste che si erano portate. Mangiarono, bevero e chiacchierarono e non batter d'occhio gran parte dei cibi gustosi preparati dalle mani stesse di arete erano scomparsi. Per un po' di tempo se ne stettero tranquille, sdraiata all'ombra degli alberi o cogliendo pigramente mazzolini di fiori per adornarsene i capelli, ma presto si stancarono di stare in ozio. Giochiamo alla palla? propose allora Nausicaa. Sì, sì, gridarono in coro le compagne e subito balzarono in piedi, si tolsero i lunghi veli che le impacciavano nella corsa e cominciarono a lanciarsi la palla dall'una all'altra, accompagnando i movimenti con un canto ritmato. Era bello sentire, nella quiete sonnolenta delle prime ore pomeridiane, quando gli uccelli tacciono, illanguiditi dal sole e anche il fiume sembra smorfare il suo scroscio in un mormorio dolce, risuonare il loro canto armonioso. Era bello vedere le loro tuniche gialle, viola, turchine, danzare sul prato pieno di fiori. E la più bella di tutte le fanciulle era Nausicaa, avvolta in una tunica rossa come i papaveri dei campi, con i bruni riccioli al vento, le gote colorite per l'animazione e gli occhi risplendenti di gioia. Così, nell'entusiasmo del gioco, le ore trascorsero in fretta e scesero le prime ombre della sera, e già le fanciulle si disponevano al ritorno, quando la palla tirata da Nausicaa devò dal segno, forse guidata dalla mano di Minerva, e cadde in mezzo al fiume, uno strillacuto si levò dal gruppo delle fanciulle, e tutte si precipitarono gridando verso la riva per tentare di riprenderla. Chi nuoterà fin laggiù? È lontana? E l'acqua è fredda? La lasciamo là? In quel momento, un fruscio e uno scricchiolio strano alle loro spalle le costrinse a svoltarsi, ed esse si trovarono di fronte a una figura d'uomo terribile a vedersi, come un leone affamato. Era tutto ingrommato di salsedine, aveva i capelli e la barba irta di foglie e di alghe, il viso scavato, le mani e le braccia graffiate, i fianchi cinti da un ramo frondoso. Era Ulisse! Il grido delle fanciulle l'aveva destato improvvisamente dal suo sonno profondo, ed egli, copertosi con un ramo, era uscito dal suo rifugio per vedere a che appartenessero le voci. A quella apparizione tutte le ancelle fuggirono spaventate. Solo Nausica non fuggì, spinta a restare da un ardire innato e dalla curiosità di sapere, e fissò i suoi occhi fanciulleschi negli occhi sofferenti dello sconosciuto. Vari pensieri passavano intanto nell'animo di Ulisse. Com'è bella questa fanciulla! Chi sarà? Come posso chiederle di aiutarmi senza spaventarla? Devo buttarmi sui piedi e stringerle le ginocchia come un supplice? No, no, avrebbe orrore di me nello stato in cui sono. Le parlerò da lontano e le chiederò di indicarmi la strada per la città e di volermi dare una veste. Regina, ascolta la mia preghiera, egli presadire con una voce pacata. Non so se tu sia una dea o una mortale. Per il nobile aspetto e il portamento rassomiglia a una dea, ma sei nata sulla terra, mille volte felici coloro che ti diedero la luce e i tuoi fratelli, il cui cuore si riempirà di gioia ogni volta che ti vedranno muovere con tanta graffia. E' più felice ancora che un giorno potrà farti sua sposa. Tu mi ricordi un tenero virguluto di palma che io vidi un giorno ad elo, quando vi andai, seguito da molti soldati, per un viaggio che doveva riuscirmi funesto. Un virgulto così bello a vedersi che mi riempì l'animo di meraviglia. E per la riverenza che mi ispiri, io non oso neppure gettarmi ai tuoi piedi come un supplice, ma quanto sia grande il bisogno che m'opprime. Ieri soltanto sono approdato su quest'isola, salvandomi a stento dai flutti, dopo aver vagato per venti giorni sul mare e forse altre sventure mi attendono. Abbi pietà di me, dolce regina, indicami la strada per la città e dammi un panno per ricoprirmi, anche solo il telo che è servito ad avvolgere i panni da lavare. E gli dèi ti concedono tutto ciò che desideri, uno sposo e dei figli, e soprattutto la concordia in famiglia, perché non ve nulla di più invidiabile che il vedere marito e moglie governare la casa con un'anima sola. Straniero, rispose Nausica dolcemente, le tue parole sono belle e sagge, tu riceverai da noi vesti e tutto ciò che è il nostro dovere dare a chi è infelice. Ti indicherò la strada per la città e il nome degli abitanti. Tu sei giunto dalla terra dei feaci e io sono Nausica, figlia d'Alcinò, il re di quest'isola. Poi la fanciulla si rivolse alle ancelle che, esitanti e intimorite, attendevano una certa distanza. Amiche, tornate indietro, disse. Vi spaventate tanto per aver visto un uomo? Credete forse che egli sia un nemico? È solo un povero naufrago che ha molto sofferto e che Giove ha mandato alle nostre spiagge perché lo soccorressimo. Su, svelte, conducetelo presso un'ansa del fiume dove possa prendere un bagno, poi datigli da mangiare e da bere. Le fanciulle si fecero avanti incoraggiandosi a vicenda e condussero Ulisse in un luogo riparato. Deposero sulla sabbia una tunica, un manto e l'ampolla dell'olio e lo invitarono a entrare nell'acqua. Ben presto Ulisse ricomparve e sedette sulla riva del mare con la figura vigorosa, splendente di grazia, di bellezza e il nobile viso incorniciato dai capelli che gli ricadevano morbidi sulle spalle. Nausicaa lo contemplava piena di meraviglia ricordando le parole del sogno. Ascoltate, mie amiche, voglio dirvi una cosa e la sussurrò le ancelle rossendo lievemente. Forse quest'uomo è stato mandato dagli dè le nostre spiagge. Guardate, assomiglia a un dio dell'Olimpo. Oh, fosse simile a lui l'uomo che i numi mi hanno destinato come sposo. Se almeno egli volesse fermarsi qui tra noi e non partirsene più. Ma via, non perdiamoci in sogni, date all'ospito cibi e bevande. Le ancelle allestirono la tavola sull'erba e Ulisse poteva infine ristorarsi dopo tre giorni di estenuante digiuno con un buon pasto. Finito che be di mangiare, ci sentì abbastanza forte per mettersi in cammino verso la città. Nel frattempo Nausica e le ancelle, piegati panni ormai asciutti, li avevano messi sul carro a cui avevano aggiogati i buoi. Così tutto era pronto per il ritorno. Nausica avrebbe guidato il carro e le ancelle le avrebbero seguite a piedi, per non sgualcire i panni salendoci sopra. Straniero, disse allora Nausica ad Ulisse, se vuoi venire con noi ti mostrerò la strada per la città dove potrei chiedere aiuto a mio padre. Devo però pregarti di una cosa. Finché attraverseremo i campi segui pure il carre insieme alle ancelle, ma quando saremo giunti in un boschetto di pioppi sacro a Minerva, distante solo un grido d'uomo dalla città, lasciaci proseguire da sole e non rimetterti in cammino prima che sia passato un po' di tempo. Non vorrei che qualche popolano, vedendoti con noi, spettegolasse sul mio conto e dicesse, chi è quel forestiero alto e bello che segue Nausica? Dove l'ha trovato? Deve essere il suo sposo. Forse è qualche straniero che è capitato qui, navigando l'avventura. Oppure un dio che è sceso sulla terra, chiamato dalle sue invocazioni per restare sempre con lei. Meglio ancora se si fosse andata ella stessa a cercare un forestiero e gli si fosse promessa in sposa, dopo aver tanto disprezzato i principi feaci che aspiravano alla sua mano. E se si diffondessero queste chiacchiere, la mia fama ne sarebbe offesa. Io stessa biasimerei quella fanciulla che contro la volontà dei suoi genitori osasse mostrarsi con un uomo prima delle nozze. Ma io sto divagando. Dunque, lascia passare un po' di tempo, poi entra nella città e cerca la reggia di mio padre. Anche un bimbo te la potrebbe indicare, perché è la più bella di tutte le case dei feaci. Attraversa il cortile. Sali subito alle stanze superiori ed entra nella sala. Illuminata dalla fiamma del focorare, vedrai mia madre, intenta filare meravigliose lane e porpure. Dietro di lei scorgerai le ancelle, anch'esse occupate nello stesso lavoro, e vicino ci sarà mio padre. Oltrepassa il seggio di mio padre e vai invece a inginocchiarti ai piedi di mia madre, supplicandola di aiutarti. Sono sicura, se riuscirai a entrare nel suo cuore, che rivedrai la tua patria, la tua casa e gli amici. Poi la fanciulla salì in fretta sul carro, spronnò i buoi con la sferza lucente, e questi partirono al piccolo trotto, seguiti a breve distanza da Ulisse e dalle ancelle. Camminando, Ulisse riprensava allo strano destino che, dopo tante sventure, l'aveva fatto incontrare con quella dolce principessina, di cui lo dava in cuor suo la prudenza e la saggezza. Il sole era tramontato quando arrivarono nel boschetto di Minerva. Le fanciulle si accommiatarono dall'ospite e proseguirono per la città, mentre Ulisse si disponeva ad attendere. Egli le guardò allontanarsi leggere, avvolte nella luce calda del tramonto, e rispose sorridente al sorriso di Nausicaa. Poi, nel silenzio che lo circondava, rotto solo dal canto di qualche uccello, il naufrago, le cui uniche speranze riposavano ormai nella carità degli uomini, rivolse un'ardente preghiera a Minerva perché lo aiutasse in questo suo nuovo incontro con un popolo sconosciuto. Nausicaa intanto giungeva al parazzo reale dove i fratelli, belli come dei, le si affrettavano incontro per portare in casa i panni lavati, ma la fanciulla corse subito a rifugiarsi nella sua cameretta e lì, seduta accanto al fuoco, mentre la vecchia nutrice le preparava la cena, andava fantasticando sul suo primo sogno d'amore. Il sole era ormai tramontato all'orizzonte e le ombre tra gli alberi si andavano facendo sempre più cupe. Ulisse giudicò che fosse trascorso un tempo sufficiente per permettere alle fanciulle di arrivare alla reggia e si rimiese in cammino. E subito Minerva, per difendolo da ogni pericolo, lo circondò di una fitta nebbia rendendolo invisibile. Poi assunse le sembianze di una giovinetta che reggeva sul capo un'anfora di rame e si fece incontro a Ulisse. Vedendo quella figurina armoniosa camminare verso di lui, Ulisse le si rivolse garbatamente. Fanciulla, puoi indicarmi la strada che conduce alla reggia di Alcinò? Vengo da lontano e non conosco nessuno in questa città. Ospite gentile, te la mostrerò volentieri, rispose la fanciulla. La casa di mio padre è vicina alla reggia, seguimi in silenzio. La giovinetta si avviò seguita da Ulisse e presto apparve loro la città. Sorgeva su un promontorio congiunto al resto dell'isola da un breve istmo a cui lati si aprivano due porti brulicanti di navi e di abbronzati marinai da costumi pittoreschi. Più avanti l'istmo si allargava in una vasta piazza, la stricata con grandi pietre quadrate nel cui centro salzava l'altare di Nettuno. Anche qui si scorgevano da tutte le parti gruppetti di marinai intenti alle loro faccende, comari chiaccherone che conducevano per mano i figlioletti, fanciulle dalle tuniche fluttuanti che si recavano da tingere acqua con grandi anfore. Ulisse osservava non visto questo scorcio di vita umana, il primo che vedeva dopo tanti anni di vagabondaggio e sentiva ravvivarsi nel cuore l'immagine e la della sua terra. Giunti infine nei pressi del palazzo reale, la giovanetta si accommiatò e Ulisse proseguì da solo. La reggia gli apparve all'improvviso, risplendente come un palazzo di fate nella pallida luce crepuscolare. Tutte le porte erano d'oro massiccio, le soglie erano di bronzo, gli stipiti e gli architravi d'argento. Circondava la reggia un grande giardino, recinto da una siepe, in cui fruttificavano alberi d'ogni stagione, peri, melograni, meli carichi di frutte vermigli, fichi dai frutti dolcissimi, olivi dalle foglie inargentate e nella parte più alta e aperta una vigna lussureggiante dagli invitanti grappoli dorati. Sul limitare del giardino morbide aiuole vario pinte offrivano allo sguardo i più splendidi fiori della terra. Tra i fiori zampillavano con un mormorio fresco due fonti, una delle quali andava a errorare tutto il giardino, l'altra scorreva fin sulla soglia del palazzo e i suoi abitanti vi si recavano ad attingere acqua. Immobile, col fiato sospeso per la meraviglia, Ulisse sostò un poco a guardare, poi entrò guardingo come un ladro, attraversò una porta spalancata e avanzò nell'interno. Non sapeva infatti di essere avvolto nella nebbia e temeva di venire scacciato dal palazzo se fosse stato scoperto. Si trovò in una sala grandissima sulle cui pareti, completamente rivestite di rame, si riflettevano le luci delle fiaccole. In alto correva un freggio di smalto azzurro, ai due lati delle porte sedevano a guardia latrando cani d'oro e d'argento, opera del dio vulcano che aveva infuso in loro la vita. Negli angoli grandi candelabri in forma di giovanetti, posti su pedistalli scolpiti con arte squisita, reggevano fiaccole che rischiarivano di una luce calda l'ampia sala. Tutto attorno erano disposti seggi coperti di drappi, su cui sedevano a banchetto i principi feaci. Vedendo che nessuno aveva notato la sua presenza, Ulisse avanzò di alcuni passi guardandosi attorno. Dalle porte aperte poteva scorgere le ancelle occupate nelle loro diversi mansioni. Alcune macinavano il grano sotto la mola, altre tessevano stoffe dai colori meravigliosi, altre ancora filavano morbide lane e purpure. Infine, presso il focolare, egli scorse al cinò e a rete, come gliele aveva descritti Nausicaa. Nel viso della regina, china sull'arcolaio, era dipinto un'espressione così dolce e materna che Ulisse sentì rinascere in sé la speranza e si gettò implorante ai suoi piedi. In quel momento la nebbia attorno a lui si dissipò improvvisamente e tutti i presenti videro con immenso stupore un uomo bello e nobile d'aspetto che, inginocchiato davanti alla regina, la supplicava così. Dolce regina, ascoltami, io mi inginocchio ai tuoi piedi e invoco su di te, sul tuo sposo e sui tuoi figli tutte le bel indizioni degli dèi. Ti prego, aiuto un'infelice a ritornare nella sua terra, a rivedere la sua casa e i suoi cari da quei lontano da troppo lungo tempo. Poi Ulisse andò a sedere sulle ceneri del focolare nel gesto umile del supplice che chiede aiuto. Un silenzio attonito si fece nella sala. Tutti guardavano lo sconosciuto, sentendo in sé l'impulso di rialzarlo, ma nessuno osava muovere un passo prima del comando del re. Finalmente si levò la voce tremante di Alkeno, uno dei più anfiani tra i principi feaci. Alcino disse, non ti fa onore lasciare il forestiero seduto sulle ceneri e se nessuno di noi si è mosso è perché tutti attendono un tuo cenno. Sollevalo dunque da terra, fallo sedere su un seggio dalle borche d'argento, dagli cibo e ristoro, e insieme li diamo a Giove, protettore dei supplici e degli infelici. Alcinò allora si avvicinò a Ulisse, lo prese per mano e lo fece accomodare in un seggio accanto al suo, dopo averne fatto al fare il più caro dei suoi figli. Sì il benvenuto, o straniero, nella mia casa, gli disse, e siedi a banchetto con noi. Subito un'ancella gli versò in un bacile d'argento dell'acqua purissima perché potesse detergersi le mani, poi gli pose davanti un desco di legno ben levigato su cui disposa alcuni bianchi pani e abbondanza di cibi. Mentre Ulisse si accingeva a consumare ciò che gli era stato offerto, Alcinò ordinò al coppiere di riempire le tazze di vino rosso perché tutti potessero livare a Giove. Fatte le livagioni, il re disse. Principi feaci, abbiamo tutti goduto delle gioie della tavola ed è ora che torniate alle vostre case a riposare, ma domattina presto ci ritroveremo per rendere onore all'ospite e penseremo al modo migliore per ricondurlo in patria. Infatti è nostro dover aiutarlo, sia egli un mortale o un dio. Non avere alcun dubbio, Alcinò l'interruppe Ulisse. Io non sono un dio, sono solo un uomo infelice, il più infelice di quanti vivono sulla terra. Non desidero altro che rivedere la mia famiglia, la mia casa, i miei campi e poi non mi importa di morire. I capi dei feaci lo assicurarono del loro appoggio e presero congedo da re Alcinò per tornare alle loro case. Nella grande sala rimasero soli Ulisse, il re e la regina. Già da qualche tempo Arete osservava stupita le vesti dell'ospite in cui le pareva di riconoscere la tela che la stessa aveva tessuto qualche mese addietro e quando rimasero soli non riuscì più a trattenersi. Ospite dimmi, gli chiese con innata curiosità femminile, chi sei? Da dove vieni? Non ci avevi detto di essere approdato a questi lì di naufrago e privo di ogni cosa? È difficile e doloroso, regina, raccontarti tutte le mie sventure, ma ti narrerò quello che più desideri sapere. Molto lontano da qui c'è un'isola sperduta nell'oceano. Così Ulisse narrò le sue ultime vicende, da quando era prodato sull'isola di Calipso fino al suo incontro con Nausicaa che gli aveva offerto pietosa, cibo e vesti. Ella si dimostrò così dolce, coraggiosa e assennata come nessuno si potrebbe aspettare da una fanciulla tanto giovane e... Ma a questo punto il re Alcinò lo interruppe bruscamente. «Mia figlia ha sbagliato, ha mancato ai sacri doveri dell'ospitalità, non conducendoti con sé alla reggia. No, Alcinò, non rimproverarla. Nausicaa non ha alcuna colpa», rispose Ulisse, inventando sul momento, per difendere la dolce principessina, una piccola bugia cavalleresca. Ella mi chiese di seguirla con le ancelle, ma fui io a non voler proseguire, per timore che tu ti sdegnassi nel vedermi con lei. «Ti sbagli, straniero. Io non mi lascio prendere così facilmente dall'ira. Anzi, il tuo aspetto mi ispira tanta fiducia che sarebbe infelice, se solo tu lo desiderassi, di darti in sposa mia figlia e di accoglierti nel mio palazzo come genero. Ti darei case e terreni e ti amerei come un figlio». Ulisse taceva assorto. Pensava a una casa lontana, a campi forse non coltivati da anni, a un viso di donna sfumato dal tempo, ma sempre caro al suo cuore, al figlio che aveva lasciato piccino. Alcinò notò il suo silenzio e continuò. «Ma certo non ti tratterrò contro la tua volontà. Domani stesso darò disposizioni per il tuo viaggio e Marina e Feaci remeranno senza sosta finché non ti avranno deposto sul suolo della tua patria». Ulisse levò allora in alto le braccia e il volto illuminato dalla gioia. «O Giove, padre», disse con voce vibrante di commozione, «fa che Alcinò possa riempire le sue promesse, concedi a lui gloria eterna e a me di rivedere la mia casa». Mentre due uomini parlavano, Arete aveva dato ordine alle ancelle di preparare un letto per l'ospite. Dopo aver augurato al vecchio Alcinò la buonanotte, Ulisse seguì le fiaccole delle ancelle che lo guidavano per i lunghi corridori sconosciuti finché giunse nella sua camera e finalmente, dopo le fatiche dei giorni precedenti, poté distendersi su un morbido letto sotto un tetto amico e soprattutto con la grande speranza del ritorno che gli cantava nel cuore. Attorno a lui la casa ospitale dormiva di un sonno tranquillo». L'alba del giorno seguente sorse chiara e luminosa a portatrice di dolci presagi. Ulisse si svegliò riposato e sereno e subito il pensiero del prossimo ritorno lo fece sorridere di contentezza. In gran fretta si alzò e si avviò verso la piazza della città che trovò già tutta piena di gioiosa animazione come in attesa di una festa. Curiosando qua e là, tra i capanelli della gente riunita a chiacchierare, si accorse che la causa della loro animazione era proprio lui, Ulisse lo straniero. Dal momento che nessuno della famiglia reale né dei principi feaci era ancora apparso per le strade, doveva essere stata Minerva, l'intraprendente dea dagli occhi azzurri, a girare di casa in casa ai primi albori del mattino per annunciare l'arrivo del forestiero bello come un dio. Ulisse sorrise tra sé soddisfatto. Poi un movimento ondeggiante della folla lo avvertì dell'arrivo del re ed egli si voltò in tempo per vederlo entrare nella piazza accompagnato dai principi dell'ascheria che sedettero sui sedili di pietra disposti attorno all'altare di Nettuno. Principi e condottieri dei feaci, iniziò il cinò, questo forestiero che ha prodato ieri nelle nostre spiagge naufrago e solo si è rivolto a me chiedendo aiuto per ritornare alla sua terra. Io non so nulla di lui, ma la nostra tradizione di ospitalità, a cui non vorremmo certo mancare in questa occasione, ci impone ad esaudire il suo desiderio. Si allestisca dunque una nave e si scelgano per l'equipaggio cinquantadue uomini, tra i più forti e vigorosi della gioventù feace. I prescelti si richino poi a palazzo dove avverrà loro offerto un lauto banchetto e anche voi, che reggete lo scettro del potere, venite con me nella reggia per festeggiare degnamente l'ospite. Così si riformò il corteo diretto al palazzo reale, mentre nel porto si spingeva in mare una nave, si drizzava l'albero e si spingevano al vento le bianche vele. Nelle cucine della reggia, intanto, fervevano i preparativi per il festino. Agnelli e porcellini interi, coperti di salvia, sfrigolavano sui girarrosti, spargendo intorno un profumo appetitoso, mentre il vino veniva versato a fiotti dai grandi orci nelle anfore d'argento. Nel megaron, la parte più solene del parazzo reale greco, gli invitati mangiarono e bevero allegramente, brindando alla salute dell'ospite. Poi si levò accompagnato dalla cetra il canto di Demodoco, il ciecovate, narrava i fatti della guerra di Troia e la contesa tra Achille e Ulisse. Al ricordo improvviso degli anni trascorsi e degli amici perduti, quest'ultimo si coprì il volto col mantello per nascondere le lacrime a chi lo circondava. Sperava così che nessuno si accorgesse del suo dolore, ma Re Alcinò, che gli sedeva vicino, se ne avvide, udendolo sospirare, e per distrarlo propose che tutti lo seguissero nel foro per cimentarsi nelle gare di atletica. Giunti nel foro, i più gagliardi tra i giovani feaci, tra cui anche i tre figli d'Alcinò, diedero prova della loro abilità nella corsa, nel salto, nel pugilato, nella lotta libera e nel lancio del disco. Ulisse guardava, ansioso e preoccupato, il carro del sole avanzare nel cielo e la vela della sua nave scintillare sotto i caldi raggi del meriggio. Quando sarebbe giunta l'ora della partenza? Poi, laudamante, uno dei figli d'Alcinò, ancora tutto fiero ed esultante per la palma conseguita nel pugilato, gli si rivolse. Ospite, disse, non vuoi prendere parte alle gare con noi per conquistare forse la palma della vittoria? Non conosco cosa più bella per l'uomo che avere un corpo vigoroso e saper gareggiare con destrezza. Vieni dunque e sorridi. La tua nave è la che ti aspetta e presto il tuo grande desiderio si avvererà. Vuoi forse prenderti gioco di me, laudamante? rispose Ulisse pacatamente. Ho troppo sofferto nel corpo e nello spirito per potermi unire a voi nelle gare. Sono giunto qui come un mendico e non chiedo altro che un aiuto per tornare in patria. Di riscontro alla dignità delle sue parole, insorse, schignazzando villanamente, Eurialo, bello diviso quanto insulso di mente. Ah ah, bell'atleta devi essere, gli gridò. Tu mi hai l'aria di essere solo un mercante attaccato al guadagno e chissà quali guadagni poi. Scommetto che non ho mai preso parte a una gara in vita tua. Penso che gli dèi che ti hanno dato la bellezza non t'abbiano dato altrettanto cervello e Eurialo, rispose Ulisse trattenendo a stento la collera, ed è un gran peccato davvero. Tu mi hai offeso gravemente col tuo sciocco discorso. Non sono certo nuova le gare, come tu vai cianciando. Anzi, finché fui giovane e sicuro delle mie braccia, fui sempre uno dei primi tra gli atleti. Ora i patimenti sofferti sul mare mi hanno fiaccato le forze, ma mi cimenterò ugualmente, o insolente Eurialo, e vedrai quanto valgono gli uomini della mia terra. Così dicendo, senza neanche togliersi il mantello, afferrò un disco grosso e pesante, assai superiore a quelli normali. Lo fece roteare col braccio, poi lo lanciò con tutte le forze. Il disco volò sibillando sopra le teste e andò a cadere di gran lunga oltre il segno. Ulisse, il naufrago indebolito dal mare, dalla fame, dal dolore che superava per età tutti i giovani raccolti lì attorno, aveva vinto. Forza dunque, giovani, gridò con una nota di derisione nella voce. Provatevi ora a lanciare il disco, e vediamo chi riesce a superarmi. Fatevi avanti a gareggiare con me. Io non rifiuto di battermi con nessuno di voi, tranne che con i figli dal cinò, in tutte le altre prove, nel salto, nella lotta, nel tiro con l'arco, e vi assicuro che mi saprò battere con valore. A queste parole tutti ammutolirono, solo il vecchio e saggio al cinò ho preso a parlare. «Calmati, figliolo», gli disse. «Ha ragione, ti sei sdegnato contro chi ti ha offeso così gravemente, ma ora dimentica la tua collera. Vedi, noi non siamo un popolo di grandi atleti. Agli esercizi violenti preferiamo l'agile corsa, la musica e la danza, le belle vesti, i bagni tiepidi e i letti soffici. Non siamo un popolo d'eroi, tu dirai. No, forse non lo siamo, ma la nostra vita è civile e raffinata, e le belle arti sono tenute in grande onore da noi come da voi gli esercizi fisici. Orsù, giovani danzatori feaci, mostrate all'ospita una delle vostre danve affinché egli, tornati in patria, possa narrare alla sua gente ciò che ha visto, e tu, illustre e demodoco, accompagnali con la cetra». Subito i nove giudici del campo allargarono il cerchio degli spettatori lasciando un vasto spazio dove i ballerini eseguirono una loro agilissima danza scandita dal ritmo della cetra. Poi l'audomante e un altro giovane feace si esibirono nella danza con la palla, mentre lanciavano in alto dall'uno all'altro una palla rossa come il fuoco, presero a battere i piedi sul ritmo delle voci degli spettatori, a far giravolte su se stessi, a curvare le snelle figure all'indietro in avanti in un crescendo di meravigliosa acrobazia che destava l'appassionato entusiasmo dei loro coetanei lì attorno. Ulisse osservava, pieno di stupita ammirazione, e cominciava a comprendere quel popolo, così diverso dalle rudigente battagliere da lui incontrate sino allora, che aveva un così vivo amore per le cose belle della vita, la musica, la danza, il canto, e quando la danza terminò egli espressa dal cinò la sua lode per lo spettacolo a cui aveva assistito. Poi, quando le prime ombre cominciarono ad avvolgere la città nella quiete crepuscolare, tutti rientrarono nelle loro case e il re e i suoi ospiti tornarono alla reggia. Qui, al cinò, i dodici capi supremi dei feaci fecero dono a Ulisse di una tunica, un manto e un talento d'oro ciascuno. Inoltre, al cinò vuole aggiungere ai doni la coppa d'oro in cui soleva libare gli dèi. Tutti i regali furono posti dentro un'arca grande e bella offerta dalla regina a rete, e Ulisse ne assicurò il coperchio con un nudo inestricabile insegnatogli da circe. La regina intanto, con materna sollecitudine, aveva ordinato alle ancelle di fare scaldare l'acqua perché l'ospite potesse godere il piacere di un bel bagno tiepido. Ristorato dal bagno, unto con gli oli profumati e avvolto in uno splendido manto purpureo, Ulisse si avviò lentamente verso la sala dove l'attendevano per il banchetto. Aveva già socchiuso la porta, quando un fascio di luce dei grandi candelabri, illuminando un breve tratto del corridoio, gli rivelò la snella figurina e il visetto dolce intenso di Nausicaa. Nello sguardo trasparente, sollevato in quello dell'esul era scomparsa la spensierata gaiezza del giorno precedente. Vi si leggevano al suo posto un accorramento, una malinconia pudica che rilevavano a occhio attento una pena segreta, il primo vago sogno d'amore infranto al contatto con la realtà, e quell'espressione nuova rendeva ancor più bello il suo limpido viso d'adolescente. Ulisse compresi in un attimo ciò che passava nell'animo della fanciulla e per alcuni minuti tacco e commosso. Nausicaa fu la prima a parlare. «Ospite, sono venuta a dirti addio», disse, sforzandosi di tener ferma la voce. «Sì felice e, quando sarai di nuovo nella tua terra natale, ricordati qualche volta di me che fui la prima a darti soccorso». «Sì, Nausicaa», rispose Ulisse con dolcezza, «mi ricorderò sempre di te, perché devo a te la vita e il ritorno. Sì felice, dolce principessina». Con uno sforzo su sé stessa, Nausicaa gli sorrise tra le lacrime, poi, silenziosamente, tornò nelle proprie stanze. Ulisse sostò un istante, pensieroso, a guardarla scomparire nell'ombra del corridoio, tenera messaggera di gioia che aveva allietato per pochi momenti la sua dura vita derrante. Poi, decisamente, entrò nella sala, dove regnava la più viva allegria. Le grandi fiaccole illuminavano a giorno, con la loro calda luce guizzante, anche gli angoli più remoti. Le tavole imbandite, con le rossi carne arrostite, le coppe piene di vino spumeggiante, sembravano vestita festa. I convitati ridevano e discorrevano, godendosi quell'ora di cordiale serenità. Ulisse prese posto al tavolo di Alcinò e tutti i presenti brindarono in suo onore. In un angolo della stanza, l'ospite scorse demodoco, il cantore del cieco. Gli si avvicinò, recando in mano un piatto pieno di vivande, e gliel'offrì con gentili parole di lode, pregandolo di cantare per lui gli eventi della guerra di Troia. Felice dell'omaggio, il cieco accordò la sua cetra, poi, con gli occhi senza luce, perduti nel vuoto e la voce dolcissima che sembrava giungere da molto lontano, cantò le vicende della caduta di Troia, l'inganno del cavallo e l'eroismo dei combattenti, e risuonavano nel suo canto i nomi cari e quasi dimenticati dei compagni di Ulisse e il nome di Ulisse stesso, il cui ingegno aveva permesso la vittoria dei greci. Tutti tacquero allora nella sala. Sotto le grandi volte dorate non si udiva un bisbiglio, solo si levavano il suono melodioso della cetra e il solenne dell'Aedo. Ancora una volta l'esule, all'evocazione di quella gloria esaltante, ormai così lontana nel tempo, e al ricordo della sua solitudine presente, del suo abbandono, non poté trattenere la commozione e pianse col volto nascosto nel mantello. Anche questa volta, solo Alcinò se ne accorse, e interrotto demodoco, si rivolse all'ospite con affetto paterno. «Ospite!» disse. «Tu devi avere certo una grande pena nel cuore. Non vuoi rivelarci il tuo segreto, non vuoi dirci il tuo nome, quello della tua patria, le avventure e le sventure che ti hanno condotto fin qui, i popoli che hai incontrato nel tuo cammino e il perché del tuo pianto segreto quando ascolti i casi dei greci e dei troiani. Hai forse perso un parente in quella guerra? Oppure un amico fedele che sapeva capire il tuo animo come un fratello?» «È bello, Alcinò», rispose Ulisse sollevando gli occhi affuscati dalle lacrime. «Ascoltare la voce della Edo che canta la gloria degli eroi. È bello sedere a convito e godere della compagnia gli uni degli altri. Ma quando un dolore insopportabile ti opprime, non riesci a unirti all'allegria generale e ti senti tanto più sole e triste quanto più gli altri si abbandonano alla gioia. Tu vuoi che io ti narri la storia delle mie sventure. Ti accontenterò, anche se il mio dolore si naspirà al ricordo. Forse mi vedrai piangere ancora, ma tu non farci caso. Comincerò col dirti il mio nome, perché un giorno tu sappia di poter contare sulla mia ospitalità. Io sono Ulisse, figlio di Laerte, e la serena Itaca, aspra di scogli, ma nutrice di giovani gagliardi, è la mia patria. Che c'è più di dolce della patria? E quale sciagura più grande più può essere per l'uomo che di essere trattenuto lontano dalla terra natale e dai suoi cari? Ebbene, io partì da Troia dieci anni fa per ritornare a Itaca. Ricordo, era un giorno pieno di sole, e io e i miei uomini spiegammo al vento le vele e salpammo felici, esultanti. Presto saremo giunti alle nostre case. Poi sopravvennero le ore della notte, le fiaccole si consumarono nelle mani dei giovanetti d'oro, le ombre scesero e a poco a poco sugli uomini intenti ad ascoltare, e Ulisse ancora narrava, narrava e narrava. Quando l'eroe tacque, l'eco delle sue ultime parole si prolungò nel silenzio attonito della sala. Tutti intorno tacevano immobili, soggiogati ancora dall'incanto delle avventure che avevano dite. Poi si levò la voce dal cinò a rompere l'incanto. È stato bello, Ulisse, ascoltare il tuo racconto, e certo noi non lo dimenticheremo mai. Io ti auguro tanta felicità nel futuro quanta sventura ti ha perseguitato finora. Da parte nostra ti prometto che ti ricondurremo a Itaca a sale salvo, benché ancora una fosca leggenda secondo la quale Nettuno, sdegnato con noi perché riportiamo in patria tutti i naufraghi che giungono ai nostri sponde, un giorno distruggerà una nostra nave e chiuderà con un'altra montagna l'ingresso del porto di questa città. Ma non ci lasceremo spaventare da queste minacce. Ora tornatevenne alle vostre case, amici. E tu, Ulisse, dormi tranquillo. Domani sarà il grande giorno. Trascorse la notte, trascorse lento anche il giorno seguente, e giunse infine il momento della partenza. Al tramonto, nella sala del palazzo, si fece l'ultimo brindisi in suo onore, poi Ulisse prese congero dal cinò. Addio al cinò, disse, grazie di tutto, possa tu vivere felice con la tua sposa e i tuoi figli, che gli dèi ti concedano ogni bene e nessuna sciagura venga a turbare la vostra serenità. Poi si rivolse alla regina dicendo, vivi felice, dolce e saggia regina, e grazie di tutto ciò che hai fatto per un povero naufrago, che l'amore e il rispetto dei figli, dello sposo e del popolo ti rendano bella la vita. Addio, Ulisse, rispose il re e la regina, che gli dèi ti proteggano durante il viaggio e al tuo ritorno in patria, ricordati di noi. Infine Ulisse varcò la soglia del palazzo e si avviò a grandi passi verso il porto. Lo seguivano tre ancelle, recando la prima una tunica di lino e un caldo mantello di lana purpurea, la seconda l'arc contenenti doni e la terza cib bevande per il viaggio. Come giunsero al Lido, i rematori tolsero loro di mano ogni cosa e le sistemarono nella stiva, poi presero a poppa delle lenzuola pulite e una coltre perché il forestiero potesse riposare durante la notte. Ulisse salì sulla nave in silenzio e mentre gli uomini si chinavano sui remi e la nave correva veloce sulle onde, egli guardava l'isola che s'allontanava, illuminata dagli ultimi raggi del sole, la reggia serena e ospitale, le case dove la gente si preparava alla queteveglie presso il fucolare. Ognuno aveva una casa, una famiglia, una terra amata in cui trascorrere quel tanto di vita che gli dèi gli avrebbero concesso. Solo lui, l'esule, doveva continuare la sua corsa errabonda per i mari, solo e inerme come un filo d'erba trasportato dal vento, finché non avesse anche egli ritrovato la sua terra, in cui avrebbe potuto dare frutto. Più lontano ecco il boschetto di Minerva, la campagna, ecco la radura presso il fiume in cui era apparsa Nausicaa dagli occhi ridenti, simile a una ninfa dei boschi. A quel ricordo un sorriso illuminò per un attimo il viso dell'esule. Mentre ancora con lo sguardo cercava di distogliere i contorni dell'isola che scompariva, una dolce sonnolenza lo invase, un desiderio invincibile di sdraiarsi sul suo giaciglio improvvisato e di chiudere gli occhi dimenticando ogni affanno. Così fece, infatti, e subito cadde in un sonno profondo. E mentre egli dormiva la nave scivolava sulle onde, tacita e veloce come il vento, quasi portata da una magica mano. Non aveva nocchiero né timone, eppure correva sicura, come se conoscesse il desiderio dell'uomo provato dalla sventura che giaceva addormentato sulla torta. La patria si avvicinava, ma egli non poteva vederla e goderne. Si adempiva davvero per lui la maledizione di Polifemo, che egli torni il più tardi possibile, e dopo molti stenti, su una nave straniera e senza più alcuno dei suoi compagni. Quando in cielo spuntò la lucente stella del mattino, Itaca apparve all'orizzonte. C'era, nella parte orientale dell'isola, un porto naturale riparato dai venti. Sulla riva sorgeva un olivo frondoso verdeggiante, e presso di esso si aprivano varste grotte sacra le naiadi. Sulla sabbia vi erano grandi anfore e urne di marmo, in cui le api deponevano il miele e lunghi telai, pure di marmo, dove si diceva le ninfee venissero non viste a tessere i loro meravigliosi drappi purpuri. Qui entrò la nave dei feaci, con tanto impeto che salì sull'arena per metà della propria lunghezza. Lesti e silenziosi i rematori sollevarono Ulisse, ancora immerso nel sonno, insieme con l'enzuola e con la coltre, e lo deposero sulla spiaggia. Poi sbarcarono i doni, posandoli in un mucchio ai piedi dell'olivo. Un poco celate la vista, perché a qualcuno, passando di lì, non venisse la tentazione di portarseli via. Quindi risalirono sulla nave, e dopo pochi istanti questa non era più che un puntino bianco che si andava allontanando velocemente. Ma fu allora che a Nettuno cadde l'occhio su quel tratto di mondo, e per la rabbia egli conficcò il suo tridente del mare, sollevando onde alte fino al cielo. Come! Ulisse era giunto a Itaca, carico di regali per di più e beatamente addormentato, e quei feacci che si erano nuovamente opposti ai suoi voleri, riconducendo in patria i suoi nemici. E si recò da Giove a esporgli le sue lamentele. Giove gli diede ragione, anche perché quel suo fratello iracondo e vendicativo gli faceva un po' paura, però cercò di mitigare la durezza dei suoi propositi. Va bene, va bene, fratello, ma ora calmati, gli disse interrompendo a metà la sua invettiva. E fa quel che ti dico. Pietrifica la nave poco lontano dal porto, perché resti come ricordo e come ammonimento, e poi, se proprio essi persisteranno nel volerti disobbedire, fa pure sorgere una montagna ai due lati della città. Così fece Nettuno. A un solo tocco della sua mano, la nave si bloccò tra onda e onda, come radicata al fondo del mare. I rematori, atterriti da quel fatale adempiersi della propria via, si gettarono a nuoto e raggiunsero la riva, dove tutti i cittadini, radunatisi in gran fretta, offrirono un solenne sacrificio a Nettuno affinché risparmiasse loro la sua collera. Il Dio rimase a guardarli, invisibile, appoggiato al suo tridente. Poi, semiplacato, decise di tornarsene nella sua zurra dimora e di rinunciare per il momento a mandare a effetto la sua seconda minaccia. E si tuffò bruntolando nelle profondità del mare, con un gran ribollire e spumeggiare delle acque attorno a lui, finché il suo borbottio irato non fu sommerso del tutto nei misteri del fondo marino. Ulisse, intanto, immerso in un sonno profondo come la morte, giaceva sulla terra natale finalmente riconquistata. Non molto lontano da lui, nella reggia, la moglie, il figlio e i pochi servi fedeli vegliavano e attendevano con ansia sempre crescente il suo ritorno. Ulisse si stava destando dal suo lungo sonno. Tese l'orecchio, cercando di cogliere il monotono frangersi delle onde contro la nave che l'aveva cullato in quelle ore, ma udì invece il fruscio delle foglie mosse dal vento e il canto di un uccello. Aprì gli occhi, si drizzò sedere di colpo e si guardò attorno smarrito. Dove mai si trovava? I feaci dovevano averlo sbarcato mentre ancora dormiva e poi essersene andati senza dir niente. Ma dunque questa era Itaca, Itaca, come era possibile, così diversa dal ricordo, così estranea, così dissimile da come l'aveva sognata nel suo peregrinare di terra in terra. Sì, tanto tempo era trascorso, venti lunghi anni, ma egli si era aspettato ugualmente che la terra natia gli balzasse incontro viva, gioiosa, unita a lui da una comunità d'amore, come quando ragazzo la rivedeva dal mare dopo una breve assenza. No, non doveva essere Itaca. I feaci l'avevano dunque tradito, su quale terra l'avevano deposto? Quali altri pericoli avrebbe dovuto affrontare? I suoi doni erano tutti là, in un mucchio. Perché dunque l'avevano così vilmente abbandonato su quella spiaggia sconosciuta. Mentre questi pensieri tumultuavano nel suo cervello, egli percorreva a grandi passi la riva del mare, in preda ad una profonda angoscia. Fu allora che Minerva, impietosita, assunto l'aspetto di un pastorello, si diresse verso l'eroe. Appena questi lo scorse, gli corse incontro e gli afferò le mani dicendo, Amico, tu che sei la prima creatura che mi viene incontro su questo lido. Sii gentile con me. Dimmi, ti prego, come si chiama questa terra? Quale città vi sorge? Quale popolo l'abita? Devi venire da ben lontano, rispose il giovinetto, se non conosci questa contrada. Tutti la conoscono, da oriente a occidente, la nostra bella isola rupestre, dove maturano il grano, la vite, dove pascolano i buoi e le capre. Persino nei campi di battaglia intorno a Troia, che pare siano molto lontani di qua, è giunta la fama della nostra terra, di Itaca. A udire il nome tanto desiderato, Ulisse impallidì violentemente e l'emozione trattenuta gli mozzò quasi il respiro, ma seppe riprendersi, ed effidente com'era di natura e soprattutto per le ingiustizie sofferte, non volendo svelare allo sconosciuto pastorello la sua vera identità, inventò su due piedi una bella storia, ricca di particolari appassionanti. Il pastorello lo stetta ad ascoltare con un sorriso arguto sulle labbra. Poi, davanti agli occhi esterefati di Ulisse, la figura del giovanetto si dissolse in pochi istanti e al suo posto comparve Minerva, la bellissima dea dagli occhi azzurri, che rideva allegramente. Sei proprio il solito, Ulisse, disse, diffidente, scaltro e sempre pronto ad essere inganni. Nessuno ti potrebbe superare in sagacia, però con tutta la tua astuzia non sei riuscito a riconoscermi. Eppure io ti sono sempre stata vicina nei tuoi viaggi e ti ho aiutato a trovare i feaci che ti hanno ricondotto in patria. Anche adesso sono venuta per soccorrerti e per rivelarti quello che ancora il destino ti riserva nella tua reggia. Sono proprio felice di rivederti, Minerva, ribatte Ulisse in tono di rimprovero. Mentre combattevo sui campi di battaglia venivi spesso a trovarmi, ma poi non ti sei fatta più vedere quando Nettuno mi disperse la flotta, né salisti mai sulla mia nave ad aiutarmi quando era squassata dalla tempesta. Pensavo quasi che tu mi avessi abbandonato. Ma ora dimmi la verità, Minerva, e non ti prendere gioco di me. È veramente Itaca quella su cui mi trovo? Sì, Ulisse, rassicurati, è Itaca, la tua patria. Guardati intorno. Ora dissiperò la nebbia del tempo e tu rivedrai ogni cosa con i tuoi occhi di fanciullo. Ecco, osserva, il porto di forco, il vecchio olivo frondoso, il monte Nerito, la grotta delle Naidi. Ricordi? Lada giovane sollevi recarti in queste grotte per offrire sacrifici alle ninfe. Sì, ora Ulisse riconosceva la patria di Letta e in uno slancio d'amore si inginocchiò e baciò la terra natale, bagnandola delle sue lacrime. Poi, levando in alto le braccia, rivolse a ninfe una breve ma ardente preghiera di ringraffiamento e di supplica. Ma non c'era tempo per la commozione. Bisognava agire e subito, prima che qualche nemico lo individuasse. La dea gli indicò un nascondiglio nella grotta ed egli vi trasportò i suoi beni, al riparo dagli sguardi dei passanti. Poi sedettero entrambi all'ombra dell'olivo e Minerva cominciò a parlare. Devo darti una brutta notizia, Ulisse. Tu forse credevi che tutte le difficoltà fossero finite con lo sbarco a Itaca, ma purtroppo la tua dura lotta non è ancora terminata. La tua casa è invasa dai proci, i pretendenti di tua moglie, i pretendenti di mia moglie. È terribile quello che mi dici, Minerva. Sì, ora ricordo la profezia di Tiresia. Troverai un protervo stuolo di giovani che sperpererà i tuoi beni e aspirerà la mano di tua moglie. Me ne ero dimenticato, nell'ansia di tornare, ma dimmi di lei, di Penelope, come risponde alla loro corte. Piange notte e giorno l'infelice e invoca il tuo ritorno. Da tre anni pretendenti si sono insediati nel tuo palazzo, gozzovigliando a tue spese, dilapidando le tue sostanze, e ne rivolgono richieste sempre più pressanti perché ella scelga tra loro il suo nuovo sposo. Ella fu promessa ora all'uno e ora all'altro, cercando di ritardare il più possibile la decisione, e prega intanto gli dèi perché la liberano da questa situazione senza scampo. Ah, Vili! esclamò Ulisse, balzando in piedi con gli occhi scintillanti di collera. Dammi lo spirito che mi infiammava quando distruggemmo le mura di Troia. Mettiti al mio fianco, Minerva, e io combatterò contro trecento proci insieme, li ucciderò tutti e libererò la mia casa. Vieni, partiamo! No, Ulisse, non è questo il volere degli dèi. Fai forza su te stesso perché ora ti aspetta la prova più difficile. Dovrai sopportare ogni cosa e tacere. Tacere sempre e non rivelare a nessuno la tua identità finché la situazione non sia matura per la riscossa. Solo allora potrai trarre vendetta dei proci. Anzi, se tu ti mostrassi in giro così come sei, forse qualcuno potrebbe riconoscerti, benché siano passati vent'anni. Ti trasformerò in un vecchio mendicante dalla barba bianca e dalla pelle grinzosa, così che nessuno possa ravvisare in te il leggendario Ulisse della guerra di Troia. Sei d'accordo? Ulisse, in piedi accanto all'albero, restò a lungo silenzioso, con la fronta grottata in un pensiero tormentoso e lo sguardo fisso sul mare carico di tristezza e di ribellione. Questo era dunque il ritorno. Meglio vagare sulle onde, in preda alle tempeste, ai mostri e ai selvaggi, ma con la grande speranza sempre vivo nel cuore, piuttosto che provare questa angoscia mortale, questo senso dell'inutilità di ogni sforzo, questo sentirsi svuotato d'ogni entusiasmo ed energia. Chi era ora lui? Un essere senza più patria né casa, presto senza neanche più un viso né una propria voce. Ulisse, che cosa ne sarebbe restato di lui? Un mendico dal volto di vecchio e dalla figura cadente. Ulisse, ma la sua volontà indomita, la sua mente aperta, il suo cuore generoso, quelli nessuno avrebbe potuto sottrarglieli, quelli erano la sua vera essenza che nessun travestimento avrebbe mai mutato. Va bene, accetto, disse infine posando su Minerva uno sguardo nuovamente calmo e sereno. Dimmi che devo fare. Lo sapevo che avresti accettato, rispose Minerva sorridendo. Recati dunque dal guardiano dei porci, Eomeo, uno dei pochi che siano rimasti fedeli a te e alla tua famiglia e attendi là lo svolgersi degli eventi. Io intanto andrò a richiamare tuo figlio Telemaco, che ora si trova a Sparta in cerca di tue notizie. A Sparta, ad affrontare anche egli come suo padre tutti i tormenti del mare? Perché non gli hai dato tu mie notizie? Tu che sai tutto. Non essere in ansia per lui, Ulisse. L'ho fatto partire per il suo bene. Qui i proci gli erano ostili e attentavano alla sua stessa vita. E inoltre era necessario che prendesse coscienza delle sue responsabilità d'uomo, uscendo dalla tutela materna. Telemaco non è più un bambino, è grande ormai. Sì, Telemaco è grande, è quasi un uomo. E io lo immagino ancora un bambinello sgambettante tra le braccia di sua madre, come era quando lo lasciai per partire per Troia. Chissà se saprei riconoscerlo. Mentre egli era assorto in questi pensieri, la dea lo toccò leviamente con la bacchetta magica. Subito la pelle gli divenne vizza e rugosa. Al posto dei bruni capelli dalla folta barba nera, comparvero pochi ciuffi bianchi e inariditi e una lunga barba candida. La persona agile e dritta si incurvò, come fiaccata dagli anni. Gli occhi, in cui brillava un fuoco divino, gli si infossarono stanchi e senza luce. Gli splendidi abiti, doni di relcinò, si trasformarono in una tunica sbrindellata e in un mantello cencioso che gli copriva appena le spalle scarnite. Una spelacchiata pelle di cervo ai fianchi, una bisaccia tutta logora, sorretta con una vecchia cinghia e un bastone nodoso nelle mani completarono la trasformazione. Ulisse, il saggio re d'Itaca, l'eroe della guerra di Troia, non esisteva più. Al suo posto, un vecchio mendicante dal piede malfermo e dalle mani tremanti, si avviava a chiedere la carità al guardiano dei porci. «Addio, Ulisse, e coraggio!» gridò Minerva, volando lieve sulle onde verso i lontani lidi che ospitavano Telemaco, e Ulisse fu solo di fronte alla nuova prova che lo attendeva. Lasciata la riva del mare, preso un sentierino che lo conduceva alla dimora di Omeo, un vero sentiero di capre, erto e selvaggio, che si snodava tra verdi pineta all'inizio e radici e spuglie aggrappate alla roccia via via che s'arrampicava verso l'alto. Il sole era già alto nel cielo, quando infine gli giunse sulla vetta su cui si dominava tutta l'isola, con i suoi verdi oliveti e le sue alture rocciose, e quel mare così azzurro e calmo che solo lungo le scogliere si animava di una soffice spuma bianca. Una gioia immensa gli riempì il cuore, mentre volgeva intorno lo sguardo mormorando. «Ecco, infine, la mia Itaca, tutta intera. Sono giunto finalmente nel porto tanto desiderato, sulla solida roccia della mia terra, da cui nessuna tormenta, nessun insulto di nemico potranno mai più cacciarmi». Laggiù, all'altra estremità della cima del colle, intravide una povera capanna di tronchi che immaginò essere quella di Omeo, e un grande recinto di pietra, circondato da una doppia palizzata di siepi e di tronchi d'albero. Il fedele Porcaro si era fabbricato con le proprie mani, durante l'assenza di Ulisse, questa solida costruzione per custodire meglio le greggi del suo padrone. Il recinto era suddiviso in dodici stalle, in ognuna delle quali dormivano la notte cinquanta scrofe, i maschi invece, di molto diminuite rispetto al numero originale a causa dell'ingordigia dei proci, che ogni giorno ne esigevano uno sulle loro mense, dormivano all'aperto, sorvegliati da quattro cani da guardia. Nell'accostarsi per chiedere ospitalità, Ulisse scorse sulla soglia della capanna un uomo alto e robusto, bruciato dal sole, intento a tagliarsi un paio di sandali da una pelle di bue conciata. Era certo Eumeo, lo riconosceva. Nel viso forte e onesto, levato verso di lui, rivedeva l'aperta faccia lentiginosa, accesa dall'entusiasmo del suo antico compagno di scorribande per i boschi. Quante volte da ragazzi, il Porcaro aveva infatti pochi anni meno di lui ed era stato allevato con lui nella reggia, avevano fatto pazze corse assieme, su e giù per i cogli e le rupi all'inseguimento di immaginari nemici. Mentre egli, assorto, riandava col pensiero alle immagini del passato, i quattro cani si gettarono latrando contro di lui e l'avrebbero certo ridotto in malo stato, se Eumeo, veloce come il fulmine, non si fosse precipitato al suo salvataggio, ricacciando indietro le bestie con urla e sassate. Ci mancava anche che ti avessero sbranato, disse poi con un tono di calda simpatia, con tutte le disgraffe che ho addosso, devo già levare i porci del mio padrone per degli strani insolenti che scialacquano le sue sostanze, mentre forse lui, poveretto, se ancora vivo, si aggira solo e affamato per qualche terra in ospitale. Ma vieni dentro, buon vecchio, la mia casa è povera, ma può sempre offrire cibo e asilo a chi viene in nome di Giove. Così dicendo, Eumeo fece entrare il suo re nella capanna e gli preparò un comodo sedile, ammucchiando dei teneri virculti e coprendoli con una pelle di capra. Ulisse sedette, rallegrandosi internamente dell'accoglienza che il servo fedele gli riservava, pur non sapendo chi fosse. Giove ti ripaghi largamente di tutto ciò che fai per me, gli disse con la sua nuova voce da vecchio. È lui che manda gli infelici alle nostre porte, rispose Eumeo umilmente, ed è nostro dovere ospitarli il meglio possibile. È poco quello che posso offrirti, siamo povera gente, vedi, indicò con un gesto le misere su pellettili della casa. Ma spero che quel poco che posso mettere a tua disposizione ti sia ugualmente gradito. E poi tu mi fai pensare al mio Signore che è partito un giorno e non è più tornato, forse anche lui avrà dovuto chiedere ospitalità di porta in porta. Ma via, tu devi aver fame e io sto qui a perdermi in chiacchiere. Bruscamente si strinse in vita la cintura, andrò nelle stalle e ne trasse fuori due porcellini. Li uccise, li abbrustolì, li tagliò in pezzi e li infilò sugli spiedi per farli arrostire. Appena pronti, vi sparse sopra della farina per rapprendere l'unto che ne colava e li posò ancora caldi e fumanti sulla tavola davanti a Ulisse. invitandolo a servirsi senza complimenti. Gli versò anche del buon vino in una tazza e gli sedette di fronte per tenergli compagnia. Eomeo chiacchierava volentieri. Non capitava spesso lassù nel suo eremo di veder passare dei forestieri e inoltre quel vecchio aveva un modo così attento di ascoltare, lanciando ogni tanto tra un boccone e l'altro uno strano sguardo penetrante che invogliava la confidenza. Così egli raccontò all'ospite tutte le malefatte dei proci, il suo rancore contro di loro e il suo dolore per la lontananza del suo padrone Ulisse, che egli credeva ormai morto in fondo a qualche oceano o su qualche terra lontana. Ulisse, che egli amava come un fratello maggiore e di cui avrebbe desiderato il ritorno più di ogni altra cosa al mondo. Gli narrò anche il lungodramma di Penelope, l'angosciosa alternarsi nel suo cuore di speranze e delusioni ogni volta che un pellegrino, per farsi ospitare nella reggia, le raccontava qualche fandonia sul conto del marito. Ella accoglie tutti benevolmente e non si saffia mai di interrogare e piange. Povera regina mia, noi altri pastori viviamo isolati da tutti, ma sono giunte fin qua molte voci su tutte le angustie che la poveretta deve supportare per mantenersi fedele al marito e per questo noi le vogliamo ancora più bene. Si narra tra l'altro di un certo stratagemma con il quale ingannò i proci per tre anni. Senti, un giorno, quattro anni fa, ella disse loro che non si sarebbe riposata finché non avesse terminato una tela sottile e immensa che avrebbe dovuto servire da lenzuolo funebre per il vecchio Laerte quando fosse morto. Così per tre anni ella di giorno tesseva la tela e di notte la disfaceva la luce delle fiaccole e il suo lavoro non finiva mai. Il suo viso era pallido e stanco per quelle veglie prolungate. I suoi occhi erano rossi di lacrime e di sonno, ma continuava finché un giorno una serva mandata dai proci insospettiti scopersi il suo trucco ed ella dovette terminare la tela. Ora quegli esseri spregevoli le hanno detto chiaramente che se ella non accetterà di sposare uno di loro, essi continueranno a sperperare i beni suoi e del figlio finché non li avranno ridotti in miseria. Mentre il buon mandriano si accalorava nel racconto, nel cuore di Ulisse ingigantiva la collera contro i proci. Come puoi essere certo, prorruppa ad un tratto sollevando lo sguardo sul pastore, che il tuo padrone, quell'Ulisse, sia morto? Io ti assicuro invece che è vivo e che tornerà molto presto. Quest'anno stesso egli metterà piede nella sua reggia e trarrà vendetta di chi gli offende la moglie e il figlio. Un silenzio grave d'attesa sottolineò queste parole. I due uomini si fissarono per alcuni istanti. Negli occhi dell'uno brillava il desiderio di rivelare infine la verità che avrebbe sconvolto l'isola. In quelli dell'altro lo stupore senza fine e l'ansia di giungere alla fine della rivelazione. Ma la tensione durò solo un attimo e Omeo ricadde ben presto nel suo amaro scetticismo. Ah, non venirmi a raccontare storie anche tu, come tutti gli altri, borbottò scotendo la testa e abbassando lo sguardo sulla tavola. E io che quasi ti credevo, no. Ulisse è morto, troppi anni sono passati e le sue ossa giaceranno insepolte da qualche parte. Non tornerà più, anche se io e la regina e il vecchio laerte e telemaco lo desideriamo più di ogni altra cosa al mondo. E anche telemaco, che ho visto crescere bello e dritto come una giovane pianta e che speravo sarebbe divenuto simile al padre, anche lui ora è partito. In cerca del padre dice, ma io credo che gli dèi gli abbiano tolto la ragione, povero ragazzo. E intanto i proci stanno macchinando un agguato da tendergli al suo ritorno. Ma basta con queste malinconie, parlami piuttosto di te, buon vecchio. Dimmi chi sei, da dove vieni e con che mezzo sei giunto su quest'isola. Lo sfogo di scetticismo del fedele pastore, che pur desiderandolo tanto non osava più sperare nel ritorno del suo re, era giunto in buon punto per frenare Ulisse dal rivelare la verità. Ormai egli era ridivenuto padrone di sé stesso, ed era pronto a snocciolare sul proprio conto un altro di quei racconti che gli suggeriva la sua inesauribile fantasia. Dimmi c'è dentro un po' di verità e un po' di invenzione, qualcuna delle vicende realmente vissute, un pifico di commozione, il brivido dell'avventura e qualche accenno a Ulisse, al cui fianco diceva di aver combattuto durante la guerra di Troia, e di cui diceva di aver sentito parlare poco tempo prima in uno dei suoi vagabondaggi. Ed era tale il fascino del suo narrare che il pastore, nella sua semplicità, lo stava ad ascoltare incantato, col volto atteggiato via via dalla meraviglia all'ansia, alla trepidazione, al dolore. «Mi hai proprio commosso, amico», disse quando il racconto fu terminato, «è certo che sei stato ben sfortunato nella tua vita, ma ora sta allegro, la mia casa è povera, però è a tua disposizione, un po' di pane, di vino e un cantuccio caldo per la notte non ti mancheranno. Ulisse, non parlarmi di lui, non credo a quel che mi hai detto su di lui, come non credo più a nessun altro che venga a darmi sue notizie. Troppe volte ho sperato che fosse vero quello che mi dicevano, e ho dovuto poi accorgermi che mi avevano ingannato solo per guadagnarsi una tunica e un mantello. «Bene, facciamo un patto», fece Ulisse sorridendo livemente. «Se quello che io t'ho detto s'avvererà, mi darai davvero una tunica e un mantello, e mi aiuterai a ritornare alla mia terra. Se invece risulterà falso, mi farai gettare giù da una rupe per vendicarti di tutti quei mendicanti che ti hanno ingannato». «Ci mancherebbe altro», escramò Eomeo facendo un gesto di spavento. «Buttare un ospite giù da una rupe sarebbe un sacrilegio. Via, non ne parliamo più. Ecco i miei quattro compagni che ritornano dal pascolo. Prepariamo la tavola per la cena». Infatti, mentre i due uomini erano intenti a discutere, il sole era sceso lentamente dietro l'orizzonte e la terra si era coperta di ombre. Nel cielo si andava radunando una fitta nuvolaglia che annunciava un temporale. Dall'usciaperto della capanna ora non si indistingueva più che una breve zona di luce. In essa comparvero un tratto le alte figure dei quattro pastori, seguiti dal loro branco grugniente. Con urle minacce, gli uomini, aiutati dai cani che correvano qua e là, si affrettarono a sospingere le bestie nelle stalle e nel recinto, perché avevano cominciato a cadere dei grossi goccioloni che ben presto si trasformarono in pioggia torrenziale. Infine, tutti i fradici d'acqua e i pastori entrarono nella capanna, chiudendosi l'uscio dietro le spalle. Si era fatto buio all'interno. Gli uomini appesero le lucerne alle travi del soffitto, mentre Omeo si dava da fare a spaccare la legna e ad accendere un bel fuoco scoppiettante davanti al quale i nuovi venuti andarono a scaldarsi, tendendo le mani alla fiamma. Scorgendo il vecchio che se ne stava rannicchiato in un angolo, lo salutarono cordialmente senza troppo stupirsi del pellegrino che Giove aveva mandato a spartire la loro povera vita e rivolsero qualche domanda. Poi, essendo pronta la cena, lo invitarono alla loro mensa e Omeo sacrificò gli dèi una parte del porco arrostito, rivolgendo loro una preghiera per il ritorno di Ulisse, Ulisse caduto morto ma sempre presente nei loro cuori. Poi divise la carne restanti in sei parti e diede alla più grossa all'ospite per rendergli onore. Uno dei garzoni distribuì il pane e commensali e riempì di vino le tazze. Ulisse si trovava bene tra quella gente e umile, il fuoco acceso che spargeva un bel terpore all'intorno, mentre fuori infuriavano il vento e la pioggia, le facce oneste e miti che lo circondavano, le voci rare e pacate, lo sfrigolio dell'arrosto, il grugnito rassicurante delle bestie nelle stalle. Tutto contribuiva a dargli impressione di essere finalmente arrivato, dopo tanto soffrire, tra la sua gente e nella sua famiglia e che tra questa casa e la sua ci fosse solo un piccolo passo da compiere oramai. Quindi il più giovane dei pastori raccolse e ripose il pane avanzato ed Eumeo preparò al vecchio, preso il fuoco, un giaciglio di pelli di capra, coprendolo con il pesante mantello che gli serviva per ripararsi durante le notti di temporale. L'ospite si coricò e accanto a lui si coricarono i garzoni. Mentre la fiamma dava gli ultimi guiffi, nella mente stanca di Ulisse si presentarono, tra il sonno e la veglia, le immagini del passato e il suo cervello cominciò a vagare lontano. Come si agitano le scrofe nelle loro stalle, sentono il cattivo tempo, le pecore nell'antro del ciclope, come si muovevano e belavano accanto a noi, mentre lui, quell'occhio terribile, quella notte. I pastori si sono già addormentati, devono essere molto stanchi. Quante volte ho visto dormire i miei compagni sfiniti dalla luce della luna, mentre io sveglio facevo progetti per l'indomani, i miei compagni. Li ricordo tutti, uno per uno. Piove e tira vento, deve essere una notte d'inferno. Era una notte come questa, quella in cui la mia nave venne travolta dal fulmine. Quelle notti solo nel mare, che freddo, che angoscia, tutta quell'acqua attorno a me, il suono delle onde. Poi il rumore della pioggia e quello del mare si confusero nella mente di Ulisse, ed egli si addormentò, mentre il fuoco si andava spegnendo piano piano. Intanto Omeo, copertosi con una pelle di capra e armatosi di una spada e un giavellotto, era scivolato fuori e coricatosi sotto una rupe, si era disposto a trascorvervi la notte per solvegliare i porci del suo re, e non sapeva il fedele pastore che il suo re era tornato, e che era proprio a lui che aveva chiesto ospitalità e ora dormiva tranquillo sotto il suo tetto. Era l'alba del secondo giorno dopo lo sbarco di Ulisse a Itaca. Nella capanna in cima al colle ferveva l'animazione delle prime ore del mattino. Alla fioca luce penetrante delle fessure i pastori avevano lasciato i loro giacigli, si erano lavati con l'acqua piovana raccolta in una tinozza durante la notte e ora stavano facendo colazione col pane avanzato la sera precedente. Parlavano poco, con le voci ancora rauche e assonnate, intanto Eomeo e Ulisse accendevano il fuoco e facevano bollire il latte. Poi i quattro garzoni uscirono all'aperto, un buon odore si alzava dalla terra lavata dalla pioggia e il cielo, di un azzurro chiarissimo, si andava sbiancando a oriente mentre a occidente tramontavano le ultime stelle. C'era ancora molta pace dopo la tempesta della sera prima. Un uccellino solitario lanciava tratti il suo canto, rendendo più profondo il silenzio all'intorno. Tre dei pastori fecero uscire il branco e lo conducero al pascolo. Il quarto si mise in cammino verso la reggia con il consueto porcello per i proci. Ulisse e Eomeo rimasero alla capanna a preparare il cibo per il mezzogiorno. Improvvisamente uno scalpiccio vicinissimo all'uscio colpì l'orecchio di Ulisse insieme all'abbaiare festoso dei cani. Chi poteva essere? C'è qualcuno, Eomeo disse. Deve essere una persona di casa perché i cani gli fanno festa. In quel momento l'uscio si spalancò e nel vano apparve un giovane sui vent'anni raggiante di bellezza con una lancia in mano e il viso aperto nel sorriso. Telemaco, figlio di letto, gridò Eomeo lasciando cadere le coppe in cui stava mescolando il vino e corse incontro al giovane e prendendogli il capo tra le mani lo baciò sui capelli e sugli occhi con la tenerezza di un padre bagnandolo delle sue lacrime. Una violenta commozione afferrò Ulisse a quel nome. Il cuore gli si mise a battere all'impazzata, le gambe gli si pregarono. Dovette sedere sul giaciglio accanto al camino, nascondendo tra le mani il volto sbiancato rigato tra le lacrime. Telemaco, suo figlio, il bimbo che aveva lasciato in fasce nelle braccia di Penelope e ora quasi un uomo, come gli somigliava, rivedeva se stesso vent'anni prima quando era partito per la guerra di Troia. Gli stessi occhi acuti e riflessivi, arditi e un po' ansiosi a un tempo, lo stesso ciuffo ribelle sulla fronte, la stessa espressione ostinata sul viso. Ma in questa giovane immagine di se stesso c'era come una traccia di tristezza e di inquietudine che subito rivelò all'occhio attento del padre lo stato d'abbattimento in cui il povero ragazzo si trovava. Che voglia di stringerselo tra le braccia, di piangere con lui, di dirgli su, fatti coraggio, ora ci sono io, tuo padre. Ma non poteva, doveva aspettare e aspettare. Mentre Ulisse, frenando la commozione, guardava dall'ombra suo figlio, quest'ultimo rivolgeva al guardiano dei porci la domanda che da tempo gli bruciava dentro. Dimmi, Omeo, mia madre viva ancora nella reggia o sia forse sposata con uno dei proci, abbandonando la casa di mio padre. No, figliolo, tua madre t'attende nella reggia e piange giorno e notte, poverina, aspettando il tuo ritorno. Ma ora entra e lascia che ti guardi, è tanto tempo che non ti fai vedere quassù, tra questi monti. Così dicendo, Eumeo tolse la spada di mano al giovane e lo condusse nella capanna. Ulisse fece l'atto di alzarsi per cedergli il posto, ma Telemaco non lo permise. No, grazie, disse gentilmente. Resta seduto e Omeo mi procurerà un altro sedile. Infatti il pastore si era affrettato a formare un nuovo giaciglio di pelli e Telemaco vi si sedette. Poi, correndo avanti e indietro tutto affannato, Eumeo allestì un pranzetto al giovane principe con la carne avanzata la sera precedente, pane e vino rosso. Quel rude uomo dei monti non stava più in sé dalla gioia e non sapeva più che fare per rendere onore al figlio del suo re. Telemaco accoglieva con gratitudine le sue premure, ma parlava raramente, accasciato come era dal fallimento del suo viaggio, che l'aveva portata a scoprire ben poco sul conto del padre. Egli avrebbe voluto proseguire le indagini, ma Minerva, che prima l'aveva spronata a partire, l'aveva ora invitato a tornare, chissà perché. Spesso, volgendo gli occhi verso il mendicante seminascosto nell'ombra del camino, sorprendeva il suo sguardo fisso su di sé, come se volesse rivelargli qualche suo misterioso segreto, e se ne sentiva turbato. Infine, non resistendo più la curiosità, chiese a Omeo chi fosse il forestiero che se ne stava in un angolo senza dir niente, e quelli gli narrò ciò che sapeva di lui, raccomandandogli di condurlo con sé la reggia come ospite. A queste parole il volto di Telemaco si rabbuiò. «Come potrei condurlo con me la reggia?» disse con voce sorda per il dolore. «Non sai che io non sono più signore della mia casa?» I procivi spadroneggiano, dilapidando le mie sostanze, oltraggiando chi s'accosta per chiedere ospitalità. Non potrei sopportare di vedere questo vecchio maltrattato da loro. «Ah, vorrei essere forte come mio padre per poterlo difendere dalla loro insolenza, ma sono ancora troppo giovane e sono solo. Gli darò tutto ciò di cui ha bisogno, vesti, cibo e armi, e se tu accetti di tenerlo ancora presso di te, penserò io al suo mantenimento. Questo è tutto ciò che posso fare per lui». Ulisse osservava in silenzio il figlio mentre questi parlava. C'era nella sua voce una tale amareffa, una così precoce maturità nel suo sguardo che egli non poté più resistere. «E tu perché non lotti?» proruppe. «Non hai amici che ti aiutino? Non hai l'appoggio della cittadinanza?» «Ah, perché il mio braccio non risponde più all'impulso del mio cuore? Perché non sono il figlio di Ulisse? Perché non sono Ulisse stesso? Allora sì che trarrai vendetta di tutti quelli che ti invadono la casa, e se anche la turba mi sovverchiasse, preferirei morire combattendo nella mia reggia, piuttosto che essere costretto a osservare cose così indegne, gli ospiti svillaneggiati e tutte le ricchezze sperperate. «Non ho nessuno, ospite, che mi possa aiutarmi», rispose Telemaco maramente. «Né fratelli, né amici, né concittadini. Sono solo, ed essi sono tanti. Da tutte le isole intorno, vicine, lontane, si sono buttati come falchi sulla nostra casa per aspirare alla mano di mia madre e ai beni di mio padre. E intanto non passa giorno senza che decine di capi di bestiame vengano sacrificati, vittime della loro ingordigia. E la prossima vittima sarò io stesso. Ma non pensiamoci, il futuro è nelle mani degli dèi. Pensiamo piuttosto al presente. Ti prego, Omeo, vai da mia madre ad annunciarle il mio ritorno, ma fai modo che nessuno ti senta. Io figliolo, andrò subito dalla regina e le parlerò in segreto. Chissà come sarà felice di sapere che sei tornato. Farò il più in fretta possibile». Così dicendo, Omeo si infirò i calzari, si gettò il mantello sulle spalle e si avviò di buon passo verso la città. Il buon Porcaro era appena scomparso giù per la china quando una luce improvvisa abbagliò Ulisse. L'eroe si guardò attorno per cercare la spiegazione dello strano fenomeno. I cani guaivano spaventati ed erano corsi a nascondersi nelle stalle. Solo Telemaco, assorto in tristi meditazioni, con il capo tra le mani, pareva non essersi accorto di niente. Ma Ulisse distinse nella loro eriluce uno scudo con la testa della gorgone e due ammicanti occhi azzurri che gli facevano cenno di avvicinarsi. Era lei, Minerva, la dea amica. Telemaco, assorto, seguitava non accorgersi di nulla. Con passo deciso Ulisse uscì dalla capanna e si avvicinò alla dea. È ora che tu ti palesi a tuo figlio, Ulisse, disse Minerva, perché concentriati insieme il piano di battaglia e muoviate alla volta della città. Ti restituirò il tuo aspetto primitivo. Ecco, ora vai, io vi sarò sempre vicina e combatterò con voi. Mentre parlava, la dea aveva toccato Ulisse con la sua verga d'oro ed egli era ridiventato l'uomo bello e forte che al solo apparire aveva conquistato l'ammirazione dei feraci. I cenci del mendicante erano caduti e al loro posto erano tornati a splendere la tunica e il manto purpurio dove uno dire al cinò. Scomparsa Minerva, l'eroe tornò nella capanna raggiante di gioia. Al suo apparire, Telemaco si scosse dalle sue meditazioni e lo fissò, impietrito dallo stupore e dallo spavento. Poi si ingignocchiò davanti a lui. Ospite, chi sei? gli chiese. Tu non sei un mendicante come noi credavamo. Devi essere un dio dell'Olimpo. Oh, ti prego, abbi pietà di questa casa sventurata e sii nostro amico. Cosa dici, Telemaco? risposo Ulisse trattenendo a stento la commozione. Io non sono un dio. Sono tuo padre, quello che tu sei andato a cercare lontano e per cui, pur così giovane, hai già tanto sofferto, figlio mio. Estrinse a sé il giovane, lo baciò sulla fronte e pianse. Ma Telemaco, sbalordito dall'improvviso rivelazione, non riusciva ancora a credervi. No, tu, tu non puoi essere Ulisse, balbettava. Come può un uomo da vecchio diventare giovane? Come puoi compere simili prodigi? Questo deve essere l'inganno di un dio che vuol prendersi gioco di me. Sei cauto e diffidente, proprio come me, disse Ulisse sorridendo. Ma devi credermi. Io sono veramente tuo padre. È stata Minerva tramutarmi in un vecchio perché non fossi riconosciuto, ma ora mi ha restituito il mio aspetto perché noi potessimo abbracciarci. Guardami, figliolo, non riconosci te stesso in me? Non rivedi i tuoi occhi, la tua bocca, il tuo sguardo ardito, la tua persona dritta? Credi ora che io sia tuo padre? Sì, ora Telemaco credeva e si gettò singhioffanto come un bambino tra le braccia del padre che furono pronte ad accoglierlo. E per lungo tempo padre e figlio piansero insieme, ma fu un pianto dolce e consolatore. Ognuno dei due ricordava le pene sofferte, la solitudine, gli oltraggi dei nemici e provava la gioia di sentire che ora non era più solo a combattere e che presto le loro sventure avrebbero avuto termine. Il sole che scendeva lento nel mare vide due uomini ancora intenti a narrarsi gli avvenimenti di quei venti lunghi anni, immemori delle ore che trascorrevano velocemente e dei pericoli che li minacciavano. Ma il tempo stringeva, presto sarebbero tornati Omeo e Garzoni e l'avrebbero riconosciuto se si fosse fatto trovare in quelle vesti. Occorreva concentrare il piano di battaglia. Dimmi Telemaco, quanti sono i proci che vivono nella reggia? 118, padre, tra padroni e servi e noi siamo solo in due. Come potremmo vincerli? Bisognerà cercare degli alleati. Ne abbiamo già due e così potenti che non ce ne occorrono altri. Giove e Minerva. Giove e Minerva, fece Telemaco alquanto perplesso. Sono un po' lontani da noi, lassù sulle loro nuvole, e i proci sono vicini invece. Ma certo, nessuno ci può aiutare meglio degli dèi dell'Olimpo. Non essere diffidente, Telemaco, risposo lisse sorridendo. Scenderanno dalle loro nuvole e ci verranno alato quando infurierà la battaglia. Già adesso ci sono più vicini di quanto tu non creda. Ascolta, piuttosto. Alle prime luci dell'alba domattina vai a Palazzo e riprendi la solita vita, tra i proci per non suscitare sospetti. Io ti raggiungerò più tardi nelle vesti di mendicante. Mi accompagnerai Omeo. Qualunque insulto mi rivolgeranno, tu sopportalo senza batter ciglio. Anche se mi vedessi trascinato fuori dalla nostra casa, ho picchiato a sangue. E soprattutto non rivelare a nessuno che io sono tornato, né a Penelope, né alla Erte, né a Omeo. Nessuno deve saperlo, perché la minima imprudenza potrebbe riuscirci fatale. In attesa del momento opportuno per iniziare la lotta, sorveglieremo il comportamento dei servi per vedere chi di loro ci sia rimasto fedele e chi invece ci abbia traditi per i proci. Ulisse aveva appena finito di dare le istruzioni al figlio quando vide spuntare in fondo al prato il buone Omeo, che si affrettava su per il pendio. Balzò in piedi, cercando con lo sguardo un nascondiglio da qualche parte, ma in quel momento Minerva, invisibile a Tilevaco, lo toccò con la verga magica ed egli ridivenne il vecchio mendicante cencioso che era apparso al porcaro due sere prima. Appena in tempo, già Eomeo metteva la testa nella capanna e annunciava felice la buona riuscita della sua missione. Presto anche gli altri garzoni rientrarono col loro branco e nel vedere il loro giovane princero gli si strinsero attorno, festeggiandolo affettuosamente. Poi tutti si disposero a tavola per godere, in calda e serena cordialità, le gioie della mensa. Tutto si svolse come la sera precedente, il porca arrostito che spargeva un profumino appetitoso, i conversari tranquilli, la luce e il tepore del fuoco, ma quella sera due decombitati erano lontani col pensiero dalla capanna, erano in cammino lungo la strada che conduceva la reggia, già avarcavano la soglia, entravano nella grande sala e davano iniffio al loro piano di battaglia, e negli sguardi d'intesa che si scambiavano ogni tanto ardevano d'ansia e d'impazienza. Il mattino seguente, all'alba, Telemaco partì per la città. «Io torno alla reggia, Eomeo», disse al pastore, «non posso tardare oltre a raggiungere mia madre. Quanto al forestiero, sai, ci ho ripensato questa notte. Sono ormai troppo povero per potermi permettere di mantenere un estraneo, e d'altra parte in città non gli mancheranno certo un tozzo di pane e un bicchiere di vino, se li mendicherà di casa in casa. Conducilo dunque laggiù oggi stesso». «Anch'io desidero partire, amico», intervenne Ulisse. «Ormai non ho più l'età nelle forze per fare il garzone di stalla. Preferisco mendicare un boccone di pane e di porta in porta. Tu vai pure, io verrò più tardi, quando il sole sarà più alto. Sono vecchio oramai, e questi pochi cenci che ho addosso non bastano a ripararmi dal freddo. Allora Dio, ospite, e buona fortuna. Addio, amico, ci rivedremo presto». E Telemaco se ne andò rapidamente. Il buone Eomeo era rimasto un po' male di fronte a quell'impreviso ammutamento nelle decisioni del giovane signore, ma gli ordini erano ordini e non c'era che da obbedire. E poi Telemaco e il vecchio mendicante si erano scambiati degli strani sguardi e questo gli faceva supporre che esistesse un segreto fra i due di cui però, per rispetto al suo principe, non osava penetrare. Perciò, poche ore dopo, anche Umeo e Ulisse si misero in cammino verso la città. Ulisse reggeva sulle magre spalle la sua vecchia bisaccia sbrindellata e si appoggiava a un bastone e Umeo, camminando davanti a lui, lo aiutava sorreggendolo nei punti più difficili. Sotto il sole del mezzogiorno, su un sentiero serpeggiante tra boschi immersi nel silenzio, un re tornava alla sua reggia dopo vent'anni di lontananza. Non aveva scettro né corona, né splendidi abiti né corteggio regale, ma solo poche lacere vesti sulla persona ricurva e stanca, un bastone nodoso nelle mani e un umile porcaro come guida. Com'era triste questo ritorno e come diverso da quello atteso per tanti anni. Ogni albero, ogni rusiello, ogni capanna, via via che egli si avvicinava alla città, sembrava correre gli incontro e gridargli. Ulisse, sei tornato finalmente! Ulisse, nostro re, non ti ricordi di noi? Non ti ricordi di quando venivi a trovarci tanti tanti anni fa? Sorridi dunque, mandaci un saluto. Ma Ulisse volgeva altrove lo sguardo e tratteneva nel suo cuore la commozione. No, terra amata, diceva tra sé. Io non sono ancora, Ulisse, il tuo re. Aspettate alberi, ruscelli, capanne, aspettate ancora un poco. Per ora io sono solo il vecchio mendicante, senza nome né patria né casa, che va a chiederle l'emosina nella reggia usurpata. Ora io non sono nulla e chiunque può offendermi impunemente, ma fra pochi giorni, forse tra poche ore, tutto cambierà e Ulisse, il vostro re, tornerà tra voi. Erano giunti intanto in vista della città. Già si scorgevano alle pendici del monte, le basse case grappate alla roccia, le bianche stradine e nel mezzo, alta e bellissima, la reggia, tutta candida di marmi e di luce. Al vederla, il cuore di Ulisse diede un balzo ed egli si trattenne astento dal gridare. C'era in quel punto una fontana a cui veniva ad attingere acqua la gente della città e vicino ad essa sorgeva un piccolo altare sacro alle ninfe a cui spesso era salito, da ragazzo, a offrire sacrifici. Ulisse si inginocchiò presso la fonte e, facendo conca con le mani, bevva avvidamente quell'acqua fresca e pura che l'aveva dissetato da fanciullo. In quei pressi si trovava a passare Melanzio, un capraio borioso e insolente, devotissimo ai proci, ai quali stava conducendo le più belle capre del gregge. Non appena scorse Ulisse ed Eumeo fece un versaccio di scherno. Oh, guardate là, urlò, Giove li forma e poi li accoppia. Dove porti quel vecchio pidocchioso, Eumeo? Ah, ho capito, puoi condurlo alla reggia a mendicare dai proci. Beh, sai che ti dico? L'unica cosa che ci guadagnerete saranno degli sgabelli sulla testa. Gli romperanno le costole, te lo dico io. Toh, prendi questo intanto. E avvicinatosi a Ulisse gli sferrò un calcio in uno stinco. Eumeo, sdegnato, non poté trattenersi da rimproverare aspramente il capraio. Poi, alfando le braccia al cielo, invocò. Oh, ninfe, a cui spesso il mio re offri agnelli e capretti, esaubite la mia preghiera. Fatevi, supplico, che egli ritorni. Cadrà allora la superbia di quest'uomo, ed egli smetterà di mandare alla malora il gregge del mio padrone. Ah, smettila di latrare, cane, sghignaffò in risposta Melanfio, perché io potrei venderti un giorno come schiavo su una galera. Cosa vai cianciando di Ulisse? Non tornerà più, e quanto a suo figlio ci penseranno i proci a toglierlo di mezzo. E con quest'ultima frase, che attannagliò il cuore di Ulisse, li sorpassò sghignazzando e proseguì verso la reggia. Dopo un'altra ora di cammino, anche essi arrivarono infine nella città, percorsero le strade silenziose, la gente era tutta riunita attorno alle mense per il desinare, su e giù per le salite e discese, finché non giunsero nella piazza, davanti alla reggia che si ergeva alta a più piani, circondata da solide mura. Ulisse se la trovò davanti all'improvviso e si fermò, impietrito dalla commozione, a contemplarla. Dimentico del suo nuovo stato, afferrò impulsivamente la mano di Omeo. Ecco Omeo, la casa di Ulisse, mormorò come in un sogno. È facile riconoscerla, anche tra molte. Vedi come è alta e robusta? Nessun nemico potrebbe spugnarla. C'è un gran pranzo là dentro. Sento l'odore delle vivande e il suono della cetra. La casa gli stava davanti, proprio come l'aveva sognata, bella, salda, sicura, piena di canti, di profumi, di vita familiare. La sua casa. Ed egli era l'escluso, era il mendicante fuori dalla porta. Per quanto tempo lo sarebbe stato? Per sempre forse. Mentre parlava e pensava, gli occhi fissi sulle mura gli si erano fatti brucianti di lacrime. Ma Omeo non se n'era accorto, per fortuna. Sei stato bravo a riconoscerla, disse. È proprio la reggia di Ulisse. Senti, io entro per primo. Quando ti farò cenno seguimi, ma sii cauto per non farti scacciare. Va bene, aspetterò qui fuori e sarò prudente non temere. In quel momento, mentre già il porcaro si avviava verso la porta, da un mucchio di letame abbandonato presso le mura, spuntò un vecchio muso spelacchiato con due orecchie ritte in ascolto. Ulisse si avvicinò un poco e avvenne un fatto incredibile. Un cane decrepito, sfinito, mangiato dalle zecche, tentò omugolando di rifarsi sulle zampe, come per correre incontro al padrone, ma le forze gli mancarono. Potè solo di nemare festosamente la coda, fissandolo intanto con due occhi dolcissimi, quasi umani, che sembrava volessero dirgli, Ulisse, sei tornato finalmente. Erano vent'anni che t'aspettavo. Argo fu per gridare Ulisse, ma si trattenne in tempo. E' Argo, continuò a pensare pieno di tenerezza e di pietà, che mi seguiva sempre, ancora cucciolo, quando andavo per i boschi, abbaiava contro le farfalle. Mi ha riconosciuto. Eppure sono passati vent'anni e io sono trasformato in un vecchio coperto di cenci. Sono ancora Ulisse per lui, ma in che stato è ridotto e si asciugò in fretta una lacrima che gli scendeva lungo la guancia. Eomeo era entrato nel cortile e nessuno l'intorno si era accorto di ciò che avveniva. Ulisse, tese allora la mano per fare una carezza all'amico fedele, ma Argo reclinò la testa e morì, continuando a fissare con gli occhi devoti il padrone che aveva atteso per tanti anni. E Ulisse fu nuovamente solo, ma il sentirsi riconosciuto dalla creatura gli aveva fatto bene e fu con animo più tranquillo che pochi minuti dopo egli entrò nella reggia. Appena oltrepassata la soglia del Megaron colse con un colpo d'occhio la scena animata che si svolgeva. Fiumi di vino scorrevano sulle tavole, capretti e porcellini arrostiti allo spiedo troneggiavano su grandi vassoi d'argento. Gardoni e ancelle passavano da una mensa all'altra, reggendo sulle mani piatti ricolmi dei cibi più raffinati. In un angolo il cantore Femio suonava la cetra e cantava. I proci, sparsi per la sala, sembravano intenti solo a ripinzarsi di carne e di vino e tenevano le teste dentro ai piatti, alzandole soltanto per lanciarsi beffe da un tavolo all'altro o per chiamare a gran voci servi. Nessuno di loro si accorse dell'ingresso del pellegrino, che in silenzio sedette per terra, appoggiandosi allo stipite della porta. Solo Telemaco, che da tempo teneva gli occhi fissi sulla soglia e aveva scorto Eumeo, trassalì vedendo entrare suo padre. Chiamò se il guardiano dei porci e, porgendogli un piatto su cui aveva messo della carne e del pane, gli ordinò, portalo all'ospite Eumeo e digli di accostarsi a mendicare presso ognuno dei proci. Digli anche che non è bene per chi deve vivere nella carità altrui essere troppo orgoglioso. Eumeo si affrettò a riferire questa parola al vecchio, che chinò il capo mormorando che Giove esaudisca la volontà di Telemaco. Non appena fu terminato il canto di Femio, il mendicante si mosse lentamente di tavolo in tavolo, con la mano tesa nell'atto di chiedere la carità. Chi è questo seccatore? Si chiedevano i proci, vedendosselo davanti. Chi ce l'ha portato? È stato Eumeo a portarlo, gracchiò Melanzo il capraio, che se ne stava seduto tra loro con l'aria di un dominatore. Li ho visti io mentre arrancavano insieme sulla strada. E da quando in qua un guardiano di porci si permette di condurci dei vagabondi? Intervenne con aria sardonica Antinò, il più malvagio e insolente dei proci, che più degli altri aspirava a diventare il signore della reggia e degli averi di Ulisse. Come se non ce ne fossero già abbastanza in giro. È così che custodisci i beni del tuo padrone? Perché te la prendi tanto con me Antinò, replicò Eumeo. Tu ti diverti a tormentarmi più di tutti gli altri. Non metterti a disputare con quest'uomo, Eumeo, intervenne Telemaco bruscamente. È sua abitudine scagliarsi contro chi non gli fa nulla di male e ai farli contro anche gli altri. Ma tu hai proprio delle cure paterne verso di me, Antinò, disse poi rivolgendosi a quest'uomo. Adesso vuoi addirittura cacciare da casa mia anche gli ospiti per non sperperare i beni di mio padre. Non temere, non contrarierai né mia madre né alcuno dei servi facendo la carità a un mendicante. Ma perché non dici la verità? Perché non confessi che è per soddisfare la tua ingordigia insaziabile che non vorresti dare neanche un pane al mendico mandato da Giove? Freno la lingua, ragazzo, gridonti noo al colmo dell'irritazione. Freno la lingua, ragazzo, gridonti noo al colmo dell'irritazione. Se tutti i proci facessero a questo vecchio il dono che tengo in serbo per lui, ti assicuro che andrebbe a rintanarsi in casa per tre mesi e si riguarderebbe bene dal tornare qui. E così dicendo agittò in aria minacciosamente uno sgabello. Ulisse intanto, imperturbabile, aveva continuato il suo giro, ricevendo tra scherni e insulti qualche tozzo di pane e qualche osso spolpato, ed ero ormai giunto davanti ad Antinò. E tu, Antinò, non mi porgi nulla? Vi disse con voce supplichevole. Eppure all'aspetto sembreresti il re di questi uomini e sarebbe tuo dovere mostrarti generoso più degli altri. Anch'io, un giorno lontano, ero ricco, vivevo in una bella casa e avevo molti servi, e nessun mendico che passava dalla mia dimora veniva rimandato indietro senza aiuto. Ma quale genio avverso ci ha mandato questa peste? Ruggì Antinò. Non ho mai visto un mendicante più imprudente di te. Vattene lontano e statene tranquillo se non vuoi che ti faccia gettare fuori dai servi. Ulisse si ritirò di alcuni passi ma continuò a parlare. A quanto pare al tuo nobile aspetto non corrisponde un animo altrettanto nobile, Antinò, disse con voce fredda come il ghiaccio. Chi potrebbe mai credere che tu daresti al mendico un granello di sale nella tua mensa quando non vuoi darmi neppure un tozzo del pane che appartiene a un altro. La sua voce si era fatta forte e imperiosa nel pronunciare queste ultime parole. La sua figura si era driffata e nello sguardo di fuoco con cui fissava l'avversario brillava una cosa aperta. Antinò, perso il lume dagli occhi, sollevò lo sgabello e lo scaraventò violentemente contro il vecchio, gridando. Ti romperò le costole, pezzente, perché hai osato ingiuriarmi. Lo sgabello colpi Ulisse sulla spalla destra, ma egli restò fermo e immobile come una roccia battuta dalla grandine sotto gli occhi stupefatti di tutti gli astanti. Solo la strana fiamma che gli brillava nello sguardo si accesa ancora di più, perché il desiderio della vendetta stava divampando nel suo cuore. Poi egli tornò ad appoggiarsi sullo stipite della porta e ansando lievemente e fissando a uno a uno tutti i proci con occhi froschi di dolore esclamò. È possibile sopportare le ferite che ci vengono inferte mentre si combatte per difendere i propri beni, ma è ben duro essere colpiti perché, vinti dalla fame, si è costretti a chiedere la carità. Possano gli dèi che proteggono gli infelici vendicare questo oltraggio e far scendere la morte sul capo di Antinò prima del giorno delle nozze? I proci si guardarono l'un l'altro allibiti, ma chi era dunque quel forestiero? Come osava un mendicante pronunciare simili parole? Se non fosse stato un mendicante? Se fosse stato un dio dell'Olimpo? Spesso gli dèi si divertivano ad aggirarsi tra gli uomini, vestiti da pellegrini, per osservare le loro azioni buone e le cattive. Certo Antinò aveva agito male trattandolo in quel modo. Mentre si mormoravano tra loro queste cose, sogguardando ogni tanto lo straniero, Telemaco, che al colpo inferto a suo padre aveva provato un dolore così acuto, come se l'avesse ricevuto egli stesso, lo fissava immobile, senza una lacrima, trattenendo in sé lo sdegno e il dolore, in attesa di un suo cenno. Gli animi di tutti erano tesi nell'incertezza, nell'ansia, nell'odio e nel dolore. Nel frattempo, nelle stanze superiori riservate alle donne, la regina Penelope con le ancelle fedeli tesseva la tela, tendendo l'orecchio ai rumori provenienti dal miegron. Ella, infatti, sapeva il figlio in costante pericolo di vita per colpa dei proci ed era sempre in ansia per lui. La sposa giovanetta che Ulisse aveva lasciato nel partire per Troia portava sul volto bellissimo la traccia di tutte le sofferenze di quegli anni. C'erano nei suoi capelli, una volta neri come l'ebano, dei fili d'argento. C'erano sotto i suoi occhi arrossati dal pianto e dalle veglie delle occhiaie profonde. C'era sul suo viso una dolce mestizia, una pacata rassegnazione che, senza togliere nulla alla bellezza dei lineamenti, le infondevano anzi un'espressione così tenera e materna da attrarre tutti i cuori verso di lei. Nessuno avrebbe potuto immaginare in una donna così fragile uno spirito così indomito come quello che l'aveva aiutata ad attendere per vent'anni il marito, a resistere, con tutte le risorse del suo ingegno, alle insistenze dei proci, a educare il figlio e a reggere la casa, pur nella solitudine in cui era rimasta. Eppure così era stato, l'amore per i suoi cari, l'aveva sempre sorretta. In quel momento, mentre stava sul capochino sul telaio, ella rivedeva il vario svolgersi della sua vita, vedeva se stessa, giovane sposa, entrare trepidante nella nuova casa, accolta affettuosamente dalla suocera Anticlea, vedeva Telemaco, Piccino, giocherellare con il grosso cane da caccia, poi addormentarsi al canto della ninna nanna e vedeva in piedi accanto a lei, guardare il mare e indicarle un punto all'orizzonte verso cui avrebbe dovuto salpare. Lo vedeva partire, giovane, forte, pieno di entusasmo, sulla sua bella nave dalle bianche vele spiegate, poi rivedeva, come in un pesante e incubo notturno, tutti gli avvenimenti di quei vent'anni, l'arrivo dei proci nella reggia come uccelli da preda, il loro agire da padroni e le loro pressanti richieste di matrimonio, Telemaco che cresceva solo e triste, lasciato in disparte nella sua stessa casa e Ulisse che non tornava. Ma le voci di un altercola ricondussa la realtà, tre di esse erano le note, erano quelle di Telemaco, di Antinò e di Omeo. La quarta voce l'era sconosciuta ma riuscì a capire che doveva trattarsi di un mendicante che veniva ingiuriato e percosso dai proci. Vai nel Megatron e chiamami Omeo, disse allora un'ancella. L'ancello uscì e rientrò poco dopo col pastore. Mio buone Omeo, disse la regina, ho sentito che giù nella sala un mendicante è stato offeso d'Antinò. Dimmi, tu lo conosci? Può essere che egli sappia qualcosa di Ulisse se viene da lontano? L'ho ospitato per tre giorni nella mia capanna, regina, rispose Omeo, e vorrei proprio che tu lo ascoltassi. Parla così bene che sembra ispirato dagli dèi e si vorrebbe che non finisse mai di narrare. Mi disse anzi che in un paese in cui era capitato aveva sentito parlare di Ulisse, a cui la sua famiglia era legata da vincoli di ospitalità e che egli è vivo e che presto tornerà portando molte ricchezze. Cercando di dominare la propria agitazione, Penelope lo pregò. Fallo venire subito da me perché io posso dire tutto da lui. Ah, quando Ulisse tornerà, prenderà vendetta insieme a Telemaco di tanti barbari oltraggi che si compiono nella sua casa. In quel momento il figlio, nel Megaron, starnutì sonoramente ed ella scoppiò in un'allegra risata, la prima dopo tanti anni. Senti, Telemaco ha starnutito mentre io parlavo del ritorno di suo padre. È un segno di buon augurio, sai? Vuol dire che egli tornerà e che il destino dei Proci è già segnato. Corri a chiamarmi il mendico, Eomeo. Il pastore si recò frettolosamente dal vecchio, facendo in modo di non farsi scorgere dagli altri, e gli riferì l'ambasciata di Penelope. Di alla tua regina, rispose il mendico, che ben volentieri le narrerò tutto ciò che mi è noto su Ulisse. Ma non ora. Temo troppo la prepotenza dei Proci. Dille di attendere questa notte, quando essi se ne saranno andati. Allora, accanto al focolare, le parlerò di suo marito. Eomeo riferì il messaggio del vecchio Penelope, che benché fosse divorrata dall'ansia di sapere, approvò la saggezza di quelle parole. Poi il buon pastore prese congedo da Telemaco. Io torno in cima al colle, figliolo, a custodire le mandrie. Tu, veglia sulla tua casa e soprattutto su te stesso. Ricordati che tutti qua ti sono ostili e che la tua vita è continuamente in pericolo. Non temere, Eomeo. Vai pure tranquillo, ma domani ritorna qui e porta con te degli animali da offrire come vittima agli dèi. Ed Eomeo si gettò sulle spalle il cortomantello, fece un cenno di saluto al mendicante e si affrettò su per il sentiero che conduceva la sua capanna, mentre gialare imbruniva e nei casolari sparsi per i campi si accendevano le lucerne. Nella reggia, intanto, le ore trascorrevano lenti. Tre braceri al centro rischiaravano la sala, lanciando bagliori di sangue sul volto dei convitati. I proci gozzovigliavano ignari di ciò che stava per accadere e si divertivano a schernire il vecchio mendico, accovacciato davanti alla porta. Il mendico sopportava e attendeva. A notte fonda, i proci lasciarono la reggia per recarsi a dormire nelle loro case. Ulisse e Telemaco, rimasti soli nel Miegaron, diedero inizio al loro piano di battaglia. Bisognava, inanfitutto, trasportare le armi in un ripostiglio all'interno della casa, perché i proci non potessero servirsi nel giorno seguente, ma questo doveva avvenire in gran segreto, per evitare che qualcuno dei servi andasse a fare la spia. «Fai salire le ancelle nelle loro stanze e chiudile dentro», disse Telemaco alla vecchia notrice Euriclea. «Devo trasportare le armi lontano dal Miegaron, perché il fumo dei braceri le ha tutte annerite e sciupate». «Ma chi ti rischiarerà la strada, figlio mio, se non vuoi che le ancelle ti reggano le fiaccole? Ci penserà il forestiero. È giusto che faccia qualcosa per guadagnarsi il pane che gli ho dato». Senza chiedere altro, la vecchia fedele fece uscire dalla sala tutte le ancelle e le rinchiuse nelle loro stanze. Subito padre e figlio, afferrati un fascio di scudi e le aste e le lance accuminate, uscirono dal Miegaron e infilarono il corridoio che conduceva al ripostiglio segreto. L'oscurità che li circondava era quasi completa, ed essi dovevano cercare la strada Tentoni, Telemaco davanti e Ulisse dietro, rasentando le pareti scabre e i vecchi mobili massicci. Ma avevano fatto pochi passi quando una luce dorata vagò lungo le travi di legno del soffitto, giocò un poco sulle colonne scolpite e sul pavimento di marmo. Infine brillò davanti a loro a mezz'aria, illuminando fino in fondo la fuga delle porte che si affacciavano sul corridoio. Telemaco si fermò di colpo trattenendo il fiato. «Padre, c'è qualcuno?» mormorò in un soffio. «Vedi quella luce?» «Sì, la vedo», bisbigliò Ulisse, sorpreso egli pure. Poi, osservando la strana fiamma irrequeta che guizzava qua e là come per invitarle a proseguire, respirò di sollievo e sorrise. «No, Telemaco, non c'è nessuno. È Minerva che ci illumina il cammino. Ti avevo detto che ci sarebbe stata vicina quando ne avessimo avuto bisogno. Vieni, ora siamo sicuri della vittoria, poiché gli dèi ci aiutano». E senza più indugiare, si inoltrò nel corridoio quasi di corsa, sebbene fosse gravato dal peso delle armi, perché la gioia di riscoprire la sua casa, stanza per stanza, angolo per angolo, gli metteva le ali ai piedi. Giunti nel ripostiglio, vi deposero le armi, poi richiusero la porta e si separarono. Telemaco andò nella sua camera per riposare qualche ora prima del grande giorno. Ulisse tornò nella sala per incontrarsi con Penelope. Col cuore intumulto rifece il cammino percorso all'andata, ad agio questa volta, per avere il tempo di dominare l'emozione che lo afferrava sempre di più, via via che si avvicinava alla sala. Riuscì a essere calmo e padrone di sé quando si affacciò alla soglia, ma con i nervi tesi fino all'impossibile, nello sforzo di frenare l'impulso di correre verso la donna dal viso dolcissimo, seduta accanto al focolare, di inginocchiarsi davanti a lei e di gridarle il suo nome. Era per lei, più che per ogni altra cosa, che egli aveva superato tutti gli ostacoli che volevano impedirgli il ritorno, che aveva saputo ottengere, che aveva rinunciato alle immortalità, alla giovinezza perenne, alle isole meravigliose e alle regge incantate. E ora che finalmente le si trovava davanti, una necessità ferra l'obbligava a tacere, perché nella gioia del momento ella non rivelasse a tutti la sua presenza. La donna si volse verso la porta, lo scorse e gli fece cenno di sedere accanto a lei. Egli ubbidì senza parlare, rimanendo in attesa delle sue domande. «Ospite, dimmi, chi sei? Da dove vieni? A che famiglia appartieni?» chiese ansiosamente la regina. Sotto voce, perché le ancelle che riordinavano la sala non lo udissero, il vecchio parlò di se stesso, raccontando alcune avventure immaginarie, ma soprattutto parlò di Ulisse, che egli aveva ospitato nella sua casa Creta durante il viaggio dell'eroe verso Troia, di Ulisse, che indossava una tunica sottile splendente e un pesante mantello purpureo, tenuto fermo sul petto da un fermaglio che portava inciso un cane da caccia, chino a bocca spalancata, sopra un cerbiatto tremante. «Era proprio lui!» proruppe Penelope, sciogliendosi in lacrime come la neve sui monti al vento primaverile. «Io stessa gli avevo portato il mattino in cui partì le vesti che tu hai descritte. Io stessa gli avevo appuntato il fermaglio sul mantello. Oh, dimmi, dimmi, hai udito più niente di lui. Pensi che tornerà un giorno il mio Ulisse. Non ti stupire di vedermi piangere. Tu non sei nulla dei mali di questa casa. Non sai tutto quello che è successo da quando Ulisse è partito. Non sai. E la regina, vinta dalla tenerezza che la ispirava quel vecchio dallo sguardo colmo di pietà, gli narrò le sue vicissitudini in quei vent'anni. L'inganno della tela, la sua incertezza se accettare uno dei proci, liberando così la casa da quello stormo d'uccelli da preda e salvando almeno una parte dei beni del figlio, o, come il suo cuore desiderava, mantenersi fedele a tutti i costi alla memoria del marito. Gli disse come ormai non avesse più speranza di rivederlo. Poi, non potendone più, ella si nascose il viso tra le mani, si inghiozzando. A Ulisse gli occhi si cerchiarono per la gran pena. Il petto gli si sollevò fannosamente nello sforzo di trattenere un pianto, ma ancora una volta non una lacrima scese dalle sue ciglia, e fu, con voce soffocata ma chiara, che egli sussurrò. «Non disperare, donna, Ulisse tornerà», me lo disse il re dei Tesproti, presso cui egli si era fermato per alcuni giorni. Disse che il re di Itaca stava tornando in patria carico di ricchezze, e che prima della fine di questo mese sarebbe giunto nella sua reggia. «Ti oramai non riesco più a credere a niente, mi sembra quasi un sogno il tempo in cui Ulisse viveva in questa casa. Ma tu sei stato buono e io ti sono grata. Ancelle, ascoltate, lavate i piedi allo straniero e preparategli un morbido letto con calde coltri. Domani mattina preparategli un bagno e unguenti profumati e accompagnatelo alla mensa dove mangia mio figlio. Voglio che sia trattato con tutti i riguardi». «Ti ringrazio, regina», replicò Ulisse, «ma non sono più abituato alle raffinatezze della vita civile. Lascia che io giaccia per terra, come ho fatto per tante notti da quando ho lasciato la patria, e non chiedere alle ancelle di lavarmi i piedi. Sono vecchio e infelice, e non sopporterei di vederle burlarsi di me. Solo a una serva vecchia e fedele lo permetterei a una che abbia sofferto nella vita come ho sofferto io». «Sei molto saggio, vecchio», rispose Penelope, «e sento di volerti bene più che ogni altro pellegrino. C'è quella vecchia ancella, la nutrice di Ulisse, che farà volentieri l'ufficio che le chiederò». E alzatasi, la regina si accostò a una vecchia che dal panchetto su cui era seduta dirigeva i lavori delle altre donne e si chinò affettosamente su di lei. E Euriclea le disse «Lava ti prego i piedi al pellegrino con cui ho parlato fino a poco fa. È vecchio e stanco, e sai, nelle mani e in tutto il suo aspetto mi sembra che assomiglia a Ulisse». La vecchietta si alzò fatica dal suo sedile e si appressò a piccoli passi al mendicante. Quando gli fu vicina e lo ebbe guardato un poco, non riuscì a trattenere le lacrime. «Buon vecchio», disse con la sua voce tremola, «sarò felice di compiere per te quest'ufficio. Anche il mio Ulisse avrà dovuto vagare, stanco e lacero, di regge in reggia, e sarà stato schernito come tu lo sei stato. Ma ora che ti guardo meglio, ospite caro, sai che tu assomigli molto al mio padrone? Tra i molti pellegrini che vennero a questa casa, nessuno più di te gli assomigliava, nelle fattezze e nella voce. «Sì, già molti mi hanno detto la stessa cosa», rispose Ulisse, affrettandosi a volgere le spalle al fuoco, per temore che la buona nutrice lo riconoscesse. Ma egli si era dimenticato che portava sulla gamba un chiaro segno di riconoscimento. Un cinghiale, quando era ragazzo, l'aveva ferito sopra il ginocchio con un colpo di zanna, lasciandogli una profonda cicatrice. Euriclea andò a prendere una conca di rame e vi versò l'acqua fredda e calda, poi, in ginocchiata davanti a lui, cominciò a lavargli amorosamente i piedi e le gambe. Ma quando ebbe sfiorato con le sue dita la cicatrice, quando l'ebbe testata e ritastata in credula, sbigottita, lasciò cadere di colpo il piede che reggeva e fece rovesciare la conca, mentre gli occhi le si riempivano di lacrime e la voce le si fermava nella gola. Quando infine riuscì nuovamente a parlare, proruppe. — Figliolo caro, ma tu sei Ulisse, e io che non t'avevo riconosciuto prima di toccare la cicatrice. E voltandosi verso Penelope, stava per gridarle la sua meravigliosa scoperta, quando il mendico le tappò la bocca con la mano, dicendole con voce soffocata. — Taci! Vuoi perdermi? Sì, sono Ulisse, ma nessuno deve saperlo se non vuoi che io muoia ucciso dai proci. — Fidati di me, figlio, rispose la nutrice. Dalla mia bocca non uscirà una parola. E in silenzio andò a prendere dell'altra acqua e compì il suo lavoro. Subito dopo Ulisse si raccostò a Penelope, che assorsta nei suoi tristi pensieri, non si era accorta di nulla, quando se lo vide davanti la regina gli sorrise dolcemente. — Ospite, sono così belle le cose che mi dici che io vorrei stare ad ascoltarti tutta la notte, ma è necessario dedicare qualche ora anche al sonno. Prima però di separarci voglio narrarti lo strano sogno che ho fatto stanotte. Poi tu mi dirai come lo interpreti. Ho sognato che un'aquila si calava da un picco su un branco di oche e le sgozzava tutte una a una, e che mentre io gemevo e mi disperavo, essa posatasi su un tetto mi gridava con voce umana. Non piangere, Penelope, le ocche sono i proci e l'aquila sono io, Ulisse, che presto tornerò e trarrò vendetta di tutti quelli che invadono la nostra casa. A questo punto mi sono svegliata e, gettando un'occhiata nel cortile, ho visto le ocche che beccavano il frumento come avevano sempre fatto. Il sogno non può avere altro significato quello che gli diede l'aquila, regina, rispose il vecchio con tono deciso. Sarebbe meraviglioso se fosse vero, ma spesso i nostri sogni sono ingannevoli e non è possibile distinguere i veri dai falsi. Domani i proci torneranno e ancora dissiperanno i beni di mio figlio e lo tratteranno male e io non potrò far nulla per proteggerlo. Devo decidere. Senti che cosa in mente di fare? Ulisse, quando era ancora in questa casa, si divertiva a piantare per terra in linea retta dodici scuri con la lama in alto e a infilare uno dopo l'altro tutti gli angoli formati dal manico e dalla lama con una freccia scagliata da lontano col suo possente arco. Domani le farò piantare in questa sala e proporrò ai proci questa prova. Se uno di loro riuscirà a superarla, e Giove sa se io spero di no, accetterò di sposarlo e abbandonerò questa casa bella e amata che rivedrò sempre nei miei sogni. È un'ottima idea, regina. Proponi pure tranquilla questa prova e non differirla. Io ti assicuro che prima che uno dei proci sia riuscito a tendere l'arco lucente di Ulisse e a far passare la freccia attraverso gli angoli, il tuo sposo sarà qui. La voce del vecchio esprimeva una tale certezza che la regina ne rimase turbata. E se fosse stato vero? Se veramente il suo Ulisse fosse tornato prima che alcuno dei proci riuscisse a piegare l'arco? Domani, domani, piena d'ansia di nostalgia, la regina si accomiatò dall'ospite e salì nella sua camera, dove pianse finché non la vinse il sonno. In un cantuccio dell'atrio, su un mucchio di pelli, Ulisse trascorreva la prima notte nella sua casa, attendendo sveglio l'alba. Nella stanza più in alto, la più nascosta della casa, in cima a una ripida rampa di scale, una porta cicolò nell'aprirsi lentamente. Ritta sulla soglia, Penelope gettò uno sguardo nell'interno. Dal basso giungevano le voci arrocchite dal vino dei proci, che insultavano lo straniero insieme alla loro risata stridula e cattiva. Giungeva anche a tratti, energica, benché tremante di sdegno, la giovane voce di telemaco, che cercava, senza tuttavia riuscirvi, di imporre il rispetto per l'ospite. Lo sguardo di Penelope vagò sui cofani in cui Ariclea aveva riposto le tuniche e i manti profumati di lavanda. Poi si posò sul grande arco appeso alla parete di fondo, insieme alla faretra, l'arco di Ulisse. Per un attimo ella rivide il marito, giovane e forte, che lo piegava senza alcuna fatica e ne faceva partire la freccia che correva dritta attraverso le scuri. Un velo di lacrime le annebbiò la vista. Appoggiata allo stipite della porta, si guardò intorno smarrita, sentendosi mancare il coraggio di mettere in atto il suo piano. Ma un scoppio di voci proveniente dal megaron la fece decidere. Corse a staccare dalla parete l'arco e la faretra, si richiuse la porta alle spalle, scese le scale, poi, pallida come il marmo ma apparentemente tranquilla, entrò nella sala. Tutti tacquero al suo apparire e si volsero a guardarla. Con voce rotta dall'emozione, ella propose ai proci la prova dell'arco. Se qualcun di loro fosse riuscito a piegarlo e a lanciare la freccia attraverso gli angoli delle scuri, ella l'avrebbe seguito diventando sua moglie. Alle sue parole seguì un lungo silenzio. Gli occhi di tutti erano fissi sullo strumento, pieni di stupore e di timore quelli dei proci, di dolore e quelli di Telemaco, ignaro ancora del progetto del padre, di gioia trionfante quelli di Ulisse, ma nessuno dei proci ardiva a presentarsi per primo a una prova che ognuno sapeva difficilissima, data la grandezza e la robustezza dell'arco. Nel silenzio generale si levò la voce di Telemaco, ancora sconvolto da quella decisione inaspettata. «Lasciate che partecipo anch'io alla gara», disse. «Se riuscirò, mia madre non avrà certo l'animo di abbandonare un figlio che già guaglia il padre in valore. Era il suo estremo tentativo di difendere l'amate dalle noffe aborrite. Scavato un solco sul pavimento di terra battuta, bidrezzò le scuri in linea retta, poi, preso l'arco, si piantò saldamente sulla soglia della stanza. Tenendone puntata sul terreno l'estremità a cui era già vinta la corda, avrebbe dovuto curvarlo verso di sé, in modo tale da poter agganciare la corda dall'altro capo. Per tre volte egli provò senza riuscirvi. La quarta volta l'arco stava per cedere alla sua pressione, quando egli colse al volo un cenno quasi invisibile del padre. Allora, come se i muscoli non reggessero allo sforzo, egli lasciò cadere le braccia dicendo «è inutile, o sono un inetto, o sono troppo giovane per queste cose, provateci voi che siete più robusti di me». A uno a uno, cominciando dal primo a destra, i proci si cimentarono, ognuno si faceva avanti baldanzoso, sicuro di meritare la palma della vittoria, tratteneva il fiato, gonfiava i muscoli, ma l'arco non si piegava, e lo sconfitto, pieno di rabbia e di umiliazione, cedeva il posto a un altro. Nel frattempo Ulisse aveva fatto un lievecenno col capa a Omeo, che era tornato all'alba dai campi con le vittime per i sacrifici, e a Filezio il Mandriano, in cui egli aveva intuito un animo rispettoso e fedele, poi era scivolato non visto nel cortile e socchiuso il cancello nella piazza. Il pastore e il Mandriano non tardarono a raggiungerlo. La piazza era deserta e silenziosa, si sentivano solo di tanto in tanto le racche grida di rabbia dei proci via via che venivano eliminati dalla gara. Ulisse gettò attorno una rapida occhiata per accettarsi che nessun nemico si nascondesse negli angoli, poi scrutò i due uomini, come se volesse cercare di penetrare il loro cuore fino in fondo. Infine si decise. Che cosa fareste? Sossorrò, se Ulisse vi comparisse davanti all'improvviso. Parteggereste per lui o per i proci? Dite la verità. Se Giove lo facesse tornare, escamò Filezio con Vemenza, combatterai per lui fino all'ultima goccia di sangue. Anch'io fece Coeumeo. E allora sappiate che Ulisse è tornato. Sì, Ulisse sono io, io che torno alla mia terra dopo vent'anni e trovo solo voi tra i servi che mi siete rimasti fedeli, ma d'ora in poi non sarete più servi, mi sarete cari come figli. Vi darò una casa in città, vicino alla mia, e beni e una moglie per accudire alla casa. Ma voi non siete ancora convinti che io sia Ulisse, non è vero? Ebbene, guardate, per riconoscermi, il segno del colpo che un cinghiale mi inferse da ragazzo. E Ulisse mostrò loro la gamba segnata dalla cicatrice. Sconvolti da quest'improvvisa rivelazione, Eomeo e Filezio non stavano più in seda alla gioia. Gettandogli le braccia al collo, baciavano Ulisse sul capo e sulle spalle. Poi, inginocchiatici, gli baciavano le mani, balbettando parole d'affetto. E anche Ulisse piangeva come un bambino, dimentico per un momento dei pericoli che lo minacciavano. Ma presto dovette riprendere coscienza di sé. Un grido aspro dall'interno lo raggiunse. Avanti, Eurimaco, tocca a te, vediamo che cosa sai fare. Eurimaco, pensò, dunque il prossimo è antinò, e poi la gara sarà finita. Bisogna fare in fretta. Eomeo, Filezio, ascoltate, disse riprendendo il dominio della situazione. Dobbiamo rientrare subito. Qui qualcuno potrebbe vederci e scoprire ogni cosa. Quando tutti avranno tentato la prova, tu, Eomeo, prendi l'arco e la faretra e portameli, anche se i proci cercheranno di impedirtelo. Poi vai nel quartiere delle donne e comanda a Euriclea, qualsiasi cosa accada, di non far uscire le cancelle dalle loro stanze. Tu, intanto, Filezio, chiudi bene a chiave il cancello del cortile e rafforzalo con delle funi. Ciò detto, entrò seguito poco dopo dai due servi. Nella sala i proci, inaspriti dalla sconfitta, sghignazzavano senza ritegno ogni volta che uno di loro rinunciava al tentativo di piegare l'arco. In quel momento il loro pesante sarcasmo era rivolto con Teorimaco, sul cui viso si leggeva tutta la rabbiosa umiliazione del presuntuoso sconfitto. Ora restava ancora Antinò e gli occhi di tutti si puntarono su di lui pieni di maligna aspettativa. Forza, Antinò, fatti avanti, tu dovresti riuscirci, non sei il più forte di tutti noi? Ma Antinò si guardò tornobiecamente mormorando. No, oggi non è proprio giorno per la gara, è la festa di Apollo e bisogna festeggiarla degnamente. Su, coppieri, versate del vino, beviamo e godiamocela e domani riprenderemo la gara. Vedrete allora se non riuscirò a piegare l'arco. Un mormorio di consenso serpeggiò tra i proci. In fondo erano tutti ben contenti di trovare una scusa alla loro umiliante inferiorità nei confronti di Ulisse. Già i coppieri incominciavano a mescere il vino, quando si levò sopplichevole la voce del mendico. Ascoltatemi, proci, disse, lasciate che anch'io mi cimenti nella prova dell'arco, per vedere se le mie membra conservano ancora il vigore di quando ero giovane o l'hanno perso del tutto. Sei pazzo, vecchio, o sei ubriaco, urlò Antinò che in cuor suo tenereva che quello strano mendicante potesse vincere la gara. Non ti basta sedere alle nostre mense? Vuoi anche metterti a competere con noi? E se anche tu vincessi, cosa pensi di guadagnarci? Ti venderemo come schiavo su una nave e così smetteresti di disturbare i nostri banchetti. Lasciate che provi anche lui, supplicò Penelope, che fino a quel momento era rimasto immobile a guardare con gli occhi dilatati dall'angoscia. Di che cosa mai avete paura? Mamma, non ti occupare di queste cose, intervenne dolcemente Telemaco, volendo allontanare la madre dalla sala in cui l'atmosfera si andava facendo sempre più arroventata. Sono ormai grande abbastanza per decidere io a chi va dato l'arco. Tu torna nelle tue stanze, ti prego. Lascia agli uomini queste faccende. E con un sorriso il ragazzo accompagnò la madre, ancora titubante nella sua camera dove ella, sfinita dalla lunga attesa, cadde in un sonno profondo. Subito dopo egli tornò nel Megaron. Nella sala Ulisse aveva fatto cenno ai due servi fedeli. Fileffio era corso fuori a sprangare il cancello e Omeo aveva afferrato l'arco e la faretra e nonostante gli urli e le minacce dei proci li aveva portati a Ulisse. Poi era andato a riferire a Oriclea l'ordine di tener chiuse le ancelle nelle loro stanze e la vecchia, intuendo ciò che stava per accadere, aveva obbedito senza far domande. Ora tutto era pronto per la grande battaglia. Per alcuni lunghissimi minuti Ulisse maneggiò il suo arco, girandolo e rigirandolo, esaminando da ogni parte i due grandi corni che ne formavano i bracci. Il suo cuore era pieno di ansia, e se Tarli lo avessero roso, se si fosse spezzato nello sforzo di piegarsi, e se a lui fossero mancate le forze, dopo tutte le sventure patite, intorno a lui ronzavano i commenti magligni dei proci. A un tratto si risolse. Seduto com'era, impugnò l'arco, e senza alcuno sforzo lo piegò, tese la corda e l'annodò. Poi diede uno strappo, e la corda vibrò, mandando un suono acuto, libero, vittorioso, come uno strido di rondine. I proci attorno a lui impallidirono di sgomento. Un vecchio mendicante era riuscito nella prova che nessuno di loro aveva superato. Ma chi era dunque quel vecchio? Sguardi spaventati corsero da un cap all'altro della sala. In quel momento, nel cielo sereno, si odì un tuono prolungato, minaccioso, poi più vicino, uno scoppio secco e violentissimo che rovesciò i bicchieri delle mense. Che cosa stava dunque accadendo? Ulisse, con calma, adattò la freccia all'arco, trasse a sé la corda, prese per un attimo la mira, quindi scoccò il dardo, che dritto e veloce, con un ronvio d'ali, trapassò tutte le scure. Poi l'eroe si rivolse al figlio. Telemaco, come vedi non devi vergognarti del forestiero. Non ho mancato il segno e ho piegato l'arco senza alcuna fatica. Non merito quindi gli insulti dei proci. Ma via, è tempo di allestire loro la cena, e poi canterà la cetra, e tese avanti l'arco possente. Quella sarebbe stata la sua cetra. Telemaco cinse la spada, impugnò l'asta, e tutto risplendente nelle armi andò a prendere posto accanto al padre. Allora Ulisse valfò in piedi, gettò a terra il mantello cencioso, e andò a porsi davanti alla porta d'ingresso, tenendo stretti l'arco e la faretra. Pareva una statua di bronzo, in cui solo gli occhi erano vivi, carichi di sdegno, d'odio e di dolore. Poi, sparpagliando le frecce ai suoi piedi e incoccandone una, disse con voce terribile. È finita questa difficile prova. Vediamo ora se riuscirò a raggiungere un bersaglio che nessuno fino a oggi ha mai colpito. Così dicendo, rivolse l'arco verso Antinò. Costui, accecato dalla sua stolta presunzione, non si era quasi curato di ciò che era avvenuto, e in quel momento stava portando alle labbra una coppa d'oro colma di vino, che importava a lui se il mendicante aveva superato la prova. Lui e nessun altro sarebbe stato il prescelto da Penelope e sarebbe divenuto il padrone della reggia. La freccia gli trapassò il collo, uccidendolo all'istante, e egli cade riverso sulla mensa. I proci balzarono in piedi, urlando di rabbia. Si guardarono attorno, cercando con gli occhi le armi che dovevano essere appese alle pareti. Erano scomparse. Fecero l'atto di scagliarsi contro lo staniero, ma l'arco teso contro di loro li obbligò a tenersi a prudente distanza. Allora ringhiarono. Miserabile, che cosa hai fatto? Per la tua imprudenza ti faremo mangiare il cuore dagli avvoltoi. Non sapevano che essi stessi avevano già posto il piede oltre i confini della morte, ma dalla figura bronzia ritta sulla soglia uscì una voce come di tuono, rauca di furore. Cani, credevate forse che non tornassi da Troia? E intanto mi mandavate in rovina la casa e pretendevate di sposare mia moglie, senza curarvi dell'ira degli dèi né del biasimo degli uomini. Ma è giunto per voi l'ultimo giorno. I proci sbiancarono in viso per lo spavento e si guardarono intorno in cerca di scampo, ma tutte le porte erano sprangate e sorvegliate, da Ulisse, da Telemaco e dai due pastori. Incitati da Eurimaco, i proci snudarono le spade che avevano al fianco e facendosi scudo delle tavole si apprestarono a piombare addosso all'eroe. Ma la punizione scese su di loro dura e terribile, come la colpa che l'aveva provocata. Inesorabile, Ulisse puntava il suo arco infallibile su di loro. Il figlio e Omeo e Filezio gli combattevano al fianco. Minerva, appollaiata in forma di rondine su una trave del soffitto, l'incitava la lotta e centuplicava le loro forze. A uno a uno tutti i proci cadero a terra, trafitti dalle frecce e dalle spade. La bella sala della reggia fu trasformata in un campo di battaglia. Le urla dei combattenti, i gemiti dei feriti, il cibilo delle frecce, lo schianto dei tavoli e delle stoviglie fracassate, il sangue che scendeva a fiotti sul piavimento, formavano uno spettacolo terrificante, che sarebbe servito come monito per chiunque fosse entrato a non abbandonarsi alle azioni empie e crudele dei proci. Quanto durò la battaglia? Molte lunghe ore, fino al tramonto del sole, ma i nostri eroi, impegnati nella lotta con tutte le loro forze, sembrò che il tempo volasse e che in pochi attimi dalla luce del giorno si passasse al buio della sera. Infine, anche l'ultimo dei proci cadda al suolo morto. Solo il cantore Femio e l'araldo Medonte, innocenti, scamparono alla strage. Anzanti e insanguinati, Ulisse e i suoi fidi guardavano quella scena penosa con occhi pieni di tristezza, perché è sempre triste la vendetta, anche quando è richiesta dalla dura necessità e lascia uno strascico di dolore nell'animo di chi la compie. L'animo di Ulisse era colmo di angoscia, mentre osservava le ancelle infedeli liberate da Euriclea portare fuori dalla casa i corpi degli uccisi e purificarla con il vapore dello zolfo. E alla vecchia nutrice, che avrebbe voluto gridare la sua gioia selvaggia nel vederli o da altri proci uccisi, mormorò «Rallegarti dentro di te, se vuoi, Euriclea, ma taci, non è giusto esultare davanti a un nemico ucciso». Solo quando la stanza, nettata e purificata, non portò più alcun segno della strage, e il buio venne rotto dalle fiaccole accese delle ancelle fedeli, che gli si strinsero intorno felici e gli baciarono le mani, egli sentì sciogliersi in cuore il nodo d'odio e di dolore che l'aveva oppresso fino a quel momento e pianse. E quelle lacrime buone purificarono il suo animo come il fumo dello zolfo aveva purificato la sua casa. Euriclea era corso intanto ad estare Penelope e a darle la grande notizia, e ben presto ella apparve. Ma non si gettò singhiozzando tra le braccia del marito, non gridò il suo nome, non diede alcun segno d'affetto. Immobile, muta, gli sedette di fronte accanto al caminetto. Con gli occhi fissi a terra, una grande ansia nel cuore, coperto ancora di cenci, Ulisse attendeva. Ai bagliori della fama Penelope studiava il forestiero, e negli occhi lucidi di piantoli si sarebbe potuta leggere una domanda disperata. È vero che sei Ulisse? Dammene una prova, una sola. Io non aspetto che quella. Ma delle sue labbra non usciva una parola. Troppe volte era stata ingannata e delusa. Anche Telemaco aspettava, in un angolo, e a un certo punto non seppe più dominare la sua giovanile impazienza. Mamma, gridò, è così che accogli tuo marito che torna dopo vent'anni di assenza. Devi proprio avere un cuore di pietra per essere tanto fredda verso di lui. Figlio, ho paura, rispose Penelope. Vorrei tanto poter credere che egli a Ulisse, ma se non fosse vero, se fosse invece un dio che ha assunto le sue sembianze. A queste parole Ulisse sorrise. Figliolo, lascia tua madre il tempo di riconoscermi, e poi ella ha ragione. Come può ravvisare Ulisse in questo aspetto da mendicante? E subito egli si recò fare un bagno, poi indossò vesti regali, e Minerva gli ridiede il suo aspetto primitivo. Ma nemmeno quando egli rientrò, risplendente di bellezza e di forza, Penelope ruppe il suo attonito silenzio. Allora il cuore di Ulisse fu soffocato dall'amarezza. Nessuna moglie accoglierebbe così freddamente il marito che torna dopo tanti anni. Su, via, Euriclea. Preparami un letto dove io possa andare a riposare, visto che costei all'animo di ghiaccio. Si nutrice, intervenne Penelope, cogliendo l'occasione per metterlo alla prova. Porta fuori dalla camera nuziale il letto che Ulisse stesso si costruì con le sue mani. Dici, donna, proruppe Ulisse sdegnato, che ha rimosso il mio letto. Io stesso lo fabbricai su di un ulivo che cresceva ricoglioso nel mio cortile, senza tagliarne le radici, e vi costruì attorno la mia camera nuziale. Nessuno avrebbe potuto rimuoverlo, se non recidendo l'olivo. A queste parole, che le davano finalmente la certezza assoluta, Penelope divenne paldida come una morta. Le si piegarono le ginocchia e si sentì mancare. Poi, riprendendo, si scoppiò in un pianto di rotto e si gettò il collo del marito, baciandolo e dicendo tra i singhiozzi, perdonami, Ulisse, se non ti ho riconosciuto subito. Eppure la tua immagine è sempre stata nel mio cuore, ma temevo di venire ingannata e di dover poi riconoscere d'aver chiamato col dolce nome d'Ulisse chi invece non lo era. Per tanti anni gli dèi ti hanno tenuto lontano, gli anni più belli, Ulisse. Ma ora che finalmente sei tornato, trascorreremo insieme tutto il resto della nostra vita e ci aiuteremo l'un l'altro, finché i nostri capelli non diverranno bianchi come la neve. Domani andremo a dare al vecchio laerte questa notizia che lo riempiera di gioia. Fino a notte inoltrata, accanto al caminetto, Ulisse e Penelope si raccontarono le vicende di questi vent'anni. Intorno le ancelle fedeli riordinavano silenziosamente la casa. In un canto, Euriclea, Eomeo e Filezio discorrevano fra loro a bassa voce, gettando di tanto in tanto un'occhiata affettuosa verso l'angolo del camino. Telemaco, sulla soglia, guardava raggiante di gioia la sua casa, la sua famiglia riunita. L'arco giaceva a terra abbandonato. Il suo compito era finito oramai. La vita rincominciava. Presto il ciclope dall'occhio solo, le sirene, scilla e cariddi, la ninfa calipso, la maga circe, la principessina nausica non sarebbero stati che un lontano ricordo, una fiaba straordinaria meravigliosa che i nipotini avrebbero ascoltato nelle lunghe sere d'inverno con gli occhi sgranati per lo stupore.